La Locanda della Tormenta presenta Le Montagne della Follia di H.P. Lovecraft Buon ascolto 1 Sono costretto a parlare Perché gli uomini di scienza hanno deciso di ignorare i miei avvertimenti Senza approfondirne le ragioni Contro la mia volontà dunque Esporrò i motivi per i quali mi oppongo Alla prevista invasione dell'Antartico E in particolare Alla ricerca di fossili su larga scala Alla fusione delle antiche calotte polari E all'interruzione della sterminata monotonia di quelle regioni La mia riluttanza è acuita dalla consapevolezza Che con tutta probabilità I miei avvertimenti cadranno nel vuoto Dubitare dei fatti che rivelerò Sarà inevitabile Ma se eliminassi dal mio resoconto Ciò che può sembrare incredibile o stravagante Non rimarrebbe nulla Le fotografie che finora non avevamo divulgato Sia del tipo normale che aereo Confermeranno le mie parole Perché sono fin troppo chiare ed eloquenti Ma i dubbi non finiranno qui E qualcuno sosterrà che in questo campo Si possono effettuare trucchi e falsificazioni Quanto ai disegni Verranno bollati come imposture Nonostante la stranezza della tecnica Su cui gli esperti dovrebbero soffermarsi e interrogarsi In ultima analisi Dovrò affidarmi al giudizio E alla buona fede dei pochi scienziati Che da una parte Siano dotati di sufficiente libertà di pensiero Per esaminare i miei dati In base alla loro orribile evidenza O alla luce di certi antichi E misteriosi climi mitici E che dall'altra Abbiano sufficiente influenza Per impedire che il mondo della scienza Si lanci in avventati programmi d'esplorazione Tra le montagne della follia Purtroppo Uomini relativamente oscuri Come i miei compagni ed io Dipendenti da una piccola università Non riusciremmo mai A convincere l'opinione pubblica Di fatti Tanto sensazionali E controversi Altro fattore contrario E' che nessuno di noi In senso stretto E' uno specialista Delle discipline interessate In quanto geologo Il mio principale obiettivo Nel guidare la spedizione Della Miskatonic University Era quello di estrarre Campioni di roccia e terreno Dalle profondità Del continente antartico E l'ammirevole scavatrice Messa a punto dal professor Frankie Pabody Della facoltà di ingegneria Mi avrebbe assistito In questo lavoro Non desideravo essere pioniere In nessun altro campo Ma speravo che l'uso Della nuova scavatrice In zone peraltro Già esplorate Portasse alla luce materiali Che non è possibile Ottenere con i metodi tradizionali La macchina di Pabody Come il pubblico E' già informato Dai nostri rapporti Era unica E rivoluzionaria Per leggerezza Portatività E capacità Nel combinare Il normale principio Di scavo artesiano Con quello Della piccola perforazione circolare In modo da poter affrontare Strati rocciosi Di varia durezza Testa ad acciaio Alberi giuntati Motore a benzina Torre di legno smontabile Esplosivi Cavi Blenda per la rimozione Dei detriti E trivelli allungabili Per buchi larghi Fino a 12 cm E profondi Fino a 300 metri Tutto questo Più gli accessori Formava un carico Non più grande Di quello Che poteva essere Trasportato Da tre slitte A sette cani E ciò Grazie alla nuova Lega di alluminio In cui la maggior parte Delle componenti Erano fabbricate Quattro grossi Aerei d'ornier Progettati per il volo A grande altitudine Sull'altipiano Antartico E dotati di riscaldamento Incorporato E accensione rapida Messe a punto Da pavodi Erano in grado Di trasportare Tutta la spedizione Da una base Sul bordo Della grande barriera Di ghiaccio Ad altre varie località Dell'entroterra Qui Un buon numero Di cani Ci avrebbe assistito Negli ulteriori Spostamenti La nostra idea Era di coprire La massima estensione In una sola stagione E di trattenerci Più a lungo Solo in caso Di assoluta necessità Avremmo agito Soprattutto fra le montagne E l'altipiano Sud del mare di Ross Regioni esplorate In varie misure Da Shackleton Edmundsen Scott E Byrd Cambiando frequentemente Campo E attraversando In aereo Distanza Abbastanza grandi Da offrire Diverse prospettive Geologiche Ci aspettavamo Di portare Alla luce Una quantità Di materiali Senza precedenti Soprattutto Negli strati Precambrici Di cui fino ad allora Si erano potuti Ottenere ben pochi Esemplari antartici Inoltre Volevamo prelevare Una buona varietà Di rocce fossilifere Superiori Perché la storia Delle forme Di vita primitive Di quel desolato Reame di morte E ghiacci È molto importante Per la conoscenza Del passato Della terra Che il continente antartico Sia stato un tempo Zona temperata O addirittura Tropicale E brulicante Di vita È cosa risaputa Oggi le tracce Di quel passato Si scorgono Nei licheni Nella fauna marina Negli aracnidi E nei pinguini Dell'estremità Settenzionale Che ne sono I superstiti Noi Speravamo Di arricchire Queste informazioni Sia dal punto di vista Della varietà Che dell'accuratezza E dei particolari Quando uno scavo Rivelava segni Di materiale fossile Allargavamo L'apertura Per mezzo Di esplosivo E cercavamo Di ottenere Campioni Di grandezza E condizioni Convenienti Gli scavi Di varia profondità Secondo le possibilità Che il terreno O la roccia Degli strati superiori Sembravano offrire Erano limitati A zone più o meno nude Si trattava Quasi sempre Di costoni O pendii Perché i livelli Inferiori Erano coperti Da uno strato Di ghiaccio Spesso da Due a tre Kilometri Non potevamo Permetterci Di sprecare I nostri mezzi Su quell'immensa Patina gelata Anche se Pavodi Aveva studiato Un sistema Per affondare Elettrodi di rame Nei buchi Più spessi E sciogliere Limitate quantità Di ghiaccio Con la corrente Prodotta Da una Dinamo A benzina E' questo piano Che noi abbiamo Potuto attuare Solo in via Sperimentale L'obiettivo Della nuova Spedizione Starkweather Moore Nonostante Gli avvertimenti Che ho lanciato Dopo il ritorno Dall'Antartide Il pubblico Ha potuto seguire La spedizione Miskatonic Grazie ai frequenti Dispacci radio Che abbiamo inviato All'Arkham Advertiser E all'Associated Press Nonché ai successivi Articoli di Pabodi E i miei Eravamo quattro professori Tutti dell'università Pabodi Lake Del dipartimento Di biologia Atwood Di fisica Fungeva anche Da meteorologo E infine me Che rappresentavo Il dipartimento Di geologia E avevo nominalmente Il comando Al nostro seguito Avevamo 16 assistenti 7 laureati Della Miskatonic University E 9 tecnici Specializzati Di questi 16 uomini 12 avevano Il brevetto Di pilota E tutti Tranne due Erano operatori radio 8 Erano in grado Di seguire La navigazione Con compasso E sestante E lo stesso Valeva per Babodi Atwood E me Inoltre Le due navi Con cui avevamo Effettuato il viaggio Ex baleniere di legno Rinforzate Per navigare Tra i ghiacci E con motori Ausiliari a vapore Erano dotate Di equipaggi Al completo La spedizione Era stata finanziata Dalla fondazione Nathaniel Derby Pickman Più alcuni Contributi speciali Questo aveva permesso Che i nostri preparativi Nonostante L'assenza Di grande pubblicità Fossero Dei più completi I cani Le slitte I macchinari Il materiale Da campo E i pezzi smontati Dei cinque aeroplani Ci erano stati Consegnati a Boston Dove le navi Li avevano caricati Eravamo splendidamente Attrezzati E per ciò Che riguardava I rifornimenti Organizzazione Trasporti E costruzione Degli accampamenti Potevamo approfittare Dell'eccellente Esempio fornito Dai nostri Brillanti predecessori Proprio La quantità E la fama Di tali predecessori Hanno fatto sì Che la nostra spedizione Per quanto importante Sia quasi passata Inosservata Agli occhi del mondo Come riferito Dai giornali Partimmo dal porto Di Boston Il 2 settembre 1930 Seguendo una rotta Abbastanza comoda Lungo la costa E attraverso Il canale di Panama Ci fermammo A Samoa E a Dobart In Tasmania Dove facemmo Gli ultimi rifornimenti Nessuno di noi Accademici Era stato mai Nelle regioni polari E quindi Ci affidammo Completamente Ai comandanti Delle navi J.B. Douglas Dell'Arkham Da cui dipendeva Il personale marittimo E Georg Dorfinsen Del brigantino Miskatonich Entrambi i veterani Della caccia alla balena In acque antartiche Lasciatoci alle spalle Il mondo abitato Il sole Cominciò ad abbassarsi Sempre più verso nord E ogni giorno Restava più a lungo Sospeso all'orizzonte A circa 62 gradi Di latitudine sud Avvistammo I primi iceberg Sorta di tavoloni Con i lati verticali E già prima Di raggiungere Il circolo antartico Che attraversammo Il 20 ottobre Con uno strano E appropriato cerimoniale Fummo impensieriti Da una serie Di banchi di ghiaccio Dopo il lungo viaggio Attraverso i tropici L'improvviso Abbassamento Di temperatura Mi preoccupò Non poco Ma cercai Di farmi forza Al pensiero Dei rigori Che sarebbero Venuti poi In molte occasioni I bizzarri effetti Atmosferici Mi lasciarono Sbalordito E fra gli altri Ricordo un miraggio Eccezionalmente vivido Il primo Che abbia mai visto In cui Gli iceberg Lontani Si trasformarono Nei bastioni Di inimmaginabili Castelli cosmici Spingendoci Attraverso il ghiaccio Che per fortuna Non era Né troppo esteso Né troppo spesso Tornammo Nel mare aperto A 67 gradi Di latitudine sud E 175 gradi Di longitudine est La mattina Del 26 ottobre Una vivida Folgora di terra Apparve a sud E prima di mezzogiorno Provammo Tutti Un brivido Di eccitazione Alla vista Di un'immensa Torreggiante Catena di montagne Incappucciate di neve Che dominavano Il panorama E impedivano Di vedere oltre Avevamo Finalmente Incontrato Un avamposto Del grande Continente Sconosciuto E del suo Ambiente Misterioso Serrato Nel gelo Della morte Le montagne Erano senz'altro La catena Dell'ammiragliato Scoperta Da Ross E ora Il nostro compito Sarebbe consistito Nel doppiato Capo Adair E proseguire Lungo la costa orientale Della terra Di Vittoria Fino al sito Che avevamo scelto Come base Sulla riva Dello stretto Di McMurdo Ai piedi Del vulcano Erebus Alla latitudine Sud 77 gradi E 9 minuti L'ultimo tratto Del viaggio Fu impressionante Ed eccitò La nostra Fantasia Grandi vette Nude Misteriose Torreggiavano Ovest Mentre il basso sole Di mezzogiorno E quello che Splendeva A mezzanotte Ancora più A filo Dell'orizzonte Riversava I suoi raggi Velati E rossastri Sulla neve bianca Sul ghiaccio Azzurro Nei canali D'acqua libera E sui frammenti Di granito Nero E nudo Fra le vette Desolate Soffiava A folate Intermittenti Il terribile Vento Antartico E a volte Le sue Cadenze Ricordavano Una selvaggia Musica Per flauti Con una traccia Di quasi Coscienza Le note Avevano Una gamma Piuttosto Ampia E per qualche Ragione Che solo Il mio Inconscio Conosce Mi parvero Inquietanti Addirittura Tremende Nel paesaggio C'era qualcosa Che ricordava Gli straordinari E inquietanti Dipinti Asiatici Di Nicholas Roerich E le descrizioni Ancora più strane Inquietanti Del favoloso Malvagio Altipiano Di Leng Che ricorrono Nel temuto Necronomicon Dell'arabo Pazzo Abdul Alhazred In seguito Mi sarei pentito Di aver esaminato Quel testo D'infamia Nella biblioteca Dell'università Il 7 novembre Perduta Temporaneamente La vista Della catena Occidentale Superammo L'isola Di Franklin E il giorno Dopo Individuammo I coni Del vulcano Erebus E Terror Sull'isola Di Ross Che si trovava Davanti a noi Mentre Al di là Si estendeva La lunga linea Dei Monti Parry Ad est Torreggiava La linea bassa E bianca Della grande Barriera di ghiaccio Che si innalzava Perpendicolarmente A un'altezza Di circa 70 metri Come la scogliera Rocciosa Di Quebec Segnando Il limite Della navigazione Verso sud Nel pomeriggio Entrammo Nello stretto Di McMardo E ci tenemmo Al largo Della costa Al riparo Del fumante Monte Erebus La vetta Del vulcano Costituita Di scorie Torreggiava Nel cielo orientale Per circa 3500 metri Come una stampa Giapponese Del sacro Fujiyama E al di là Di essa Svettava Bianco Come un fantasma Il monte Terror Oltre 3000 metri Ormai estinto Come vulcano Dall'Erebus Arrivavano Intervalli Sbuffi di fumo E uno Dei nostri assistenti Un brillante laureato Che si chiamava Dunforth Indicò Quella che sembrava Lava Sul fianco innevato Osservò quindi Che il vulcano Scoperto Nel 1840 Aveva indubbiamente Ispirato Po Quando sette anni dopo Avrebbe scritto Della Lava Lava che scende Inarrestabile E crea sulfure E correnti Ai piedi Dello Yannick Nell'estrema Atmosfera Polare Lava Che scende Rombando Dal monte Yannick Nei regni Del polo boreale Dunforth 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 Era un assiduo Lettore di cose Fantastiche E ci aveva parlato A lungo di Po La cosa Mi aveva interessato Perché il suo unico romanzo L'inquietante Ed enigmatico Arthur Gordon Pym Si svolge Appunto Al polo sud Sulla riva desolata E sull'alta Barriera di ghiacci Che dominava Lo sfondo Miriadi Di grotteschi Pinguini Emettevano Il loro tipico verso E agitavano Le pinne Mentre in acqua Si vedevano Grasse foche Nuotare O adagiarsi Sui pezzi Di ghiaccio Galleggiante A riposare Servendoci Di piccole barche Effettuamo Un difficile approdo Sull'isola di Ross Poco dopo mezzanotte Quindi Il mattino Del giorno nove Un cavo Ci collegava A ciascuna nave E ci preparammo A scaricare Le provviste Con un sistema Di cinghie E galleggianti Le prime sensazioni Che provammo Sul suolo antartico Furono Vivide E complesse Anche se Fino a quel punto Le spedizioni Scott E Shackleton Ci avevano Preceduti Il nostro Accampamento Sulla riva Ghiacciata E all'ombra Del vulcano Era solo Temporaneo E il quartier Generale Rimaneva A bordo Dell'Arkham Scaricammo I macchinari Di scavo I cani Le slitte Le tende Le provviste Alimentari Le latte Di benzina Le attrezzature Sperimentali Per la fusione Del ghiaccio Le macchine Fotografiche Normali E per riprese Aeree I pezzi Degli aeroplani E altri accessori Comprese Tre piccole Radiotrasmittenti Portatili Altre Altre Erano In dotazione Degli aerei In questo modo Avremmo potuto Tenerci in contatto Con il potente Ricevitore Dell'Arkham In qualunque Parte del continente Ci trovassimo La radio Di bordo Avrebbe mantenuto I contatti Col mondo esterno E inviato I nostri Rapporti Alla potente Stazione Dell'Arkham Advertiser A Kingsport Head Nel Massachusetts Speravamo di finire Il lavoro Entro l'estate Antartica Ma se questo Non fosse stato possibile Avremmo svernato A bordo Dell'Arkham Inviando la Miscatonica A nord Prima che il mare Ghiacciasse Per procurarci Altre provviste Non c'è bisogno Di ripetere Ciò che i giornali Hanno già scritto A proposito Del nostro Lavoro iniziale La scalata Del monte Erebus Lo scavo E il prelievo Di minerali In vari punti Dell'isola di Ross La singolare Velocità Con cui la macchina Di Pavodi Eseguì il suo compito Anche negli strati Più solidi I primi test Con il piccolo Apparato Per fondere il ghiaccio La pericolosa Scalata Della grande Barriera Con slitte Provviste E infine L'assemblaggio Dei cinque Grandi aeroplani Sul campo Che stabilimmo In cima Alla barriera La salute Del nostro Gruppo di terra 20 uomini E 55 cani Da slitta Dell'Alaska Era eccellente Ma ovviamente Non c'eravamo ancora Imbattuti In temperature Proibitive O in tempeste Di vento Il termometro Si aggirava Fra i 5 gradi Sotto zero E i 7 8 sopra Ma i rigidi Inverni Del New England Ci avevano abituato A rigori Di questo tipo Il campo Sulle barriere Di ghiaccio Era semi Permanente E destinato A fungere Da magazzino Per benzina Provviste Dinamite E altri generi Il materiale Necessario Alle esplorazioni Poteva essere portato Da 4 aerei Il quinto Con un pilota E due uomini Delle navi Sarebbe rimasto Al campo E avrebbe potuto Raggiungerci Previo collegamento Con l'Arcam Se gli altri aerei Fossero andati Perduti In seguito Quando non ci fosse Stato bisogno Di usare I 4 velivoli Da trasporto Per spostare Le apparecchiature Di ricerca Ne avremmo utilizzato Un paio Per fare da navetta Tra il campo Con le provviste E un'altra base Permanente Sul grande altipiano A 1000 O 1200 Km più a sud Oltre il ghiacciaio Di Berdinoor Nonostante I resoconti unanimi Di venti E tempeste Spaventose Che si riversavano Dall'altipiano Decidemmo di fare A meno Di basi intermedie E di correre I nostri rischi Nell'interesse Dell'economia E della probabile Efficienza Della spedizione Vari comunicati radio Hanno descritto Il volo Mozzafiato E senza soste Che il nostro squadrone Intraprese Il 21 di novembre Sull'immenso altipiano Fra le creste Che si innalzavano Occidente E il silenzio Insondabile Che avvolgeva Il ronzio Dei motori Il vento Ci infastidi Solo moderatamente E le bussole radio Ci aiutarono Superare La spessa Nebbia Della regione Quando l'immensa elevazione Si parò davanti a noi Fra gli 83 e 84 gradi Di latitudine Capimmo Di aver raggiunto Birdmore Il più grande ghiacciaio A valle del mondo E che il mare gelato Cedeva il passo A una linea costiera Frastagliata E montagnosa Finalmente Ci addentrammo Nel mondo Dell'estremo sud Bianco E morto Da epoche Incalcolabili E nel renderci conto Di questo fatto Scorgemmo In lontananza A oriente La cima Del monte Nansen Che supera I 5000 metri Il successo Con cui fondammo La base meridionale Sul ghiacciaio A 86 gradi E 7 minuti Di latitudine E 174 gradi E 23 minuti Di longitudine est Appartiene Alla storia Come i rapidissimi scavi E le esplosioni Che effettuammo In varie zone Raggiunte in aereo O in slitta E alla storia È consegnata L'ardua Trionfale scalata Del monte Nansen Effettuata da Pavodi E due studenti Gedney E Carroll Fra il 13 E il 15 Di dicembre Ci trovavamo A un'altitudine Di circa 2800 metri Sul livello Del mare E quando I nostri scavi Sperimentali Rivelarono Che in certi punti Vi era terreno Solido Ad appena 4 metri Sotto il ghiaccio E la neve Ci servimmo Liberamente Del piccolo Apparato Per la fusione Del ghiaccio Scavammo Buche E usammo La dinamite Per provocare Esplosioni Su scala ridotta Nessun precedente Esploratore Aveva pensato Di trovare Campioni di minerali A così piccola Profondità Gli esemplari Di granito Precambrico E di arenaria Così ottenuti Confermarono La nostra teoria Per cui L'altipiano Era omogeneo Rispetto alla Gran massa Del continente Ad ovest Ma in parte Diverso Dalle regioni Orientali Che si stendevano Più o meno Sotto L'america meridionale Queste ultime Pensavamo Allora Dovevano Costituire Un continente Autonomo E più piccolo Separato Dal maggiore Da un braccio Ghiacciato Dei mari Di Ross E Wedel Bird In seguito Ha dimostrato La falsità Di questa ipotesi In alcuni Esemplari Di arenaria Portati Alla luce Con la dinamite E scalpellati Dopo che Le trivellazioni Ne avevano Rivelata La natura Trovammo Alcune Interessanti Impronte Fossili E frammenti Felci Alge Trilobiti Crinoidi Molluschi Come le lingulelle E gasteropodi Tutte coerenti Con la storia Primitiva Della regione Ma c'era Una strana Impronta Triangolare Il cui Diametro Maggiore Misurava 35 centimetri Che Leic Ricompose Da tre Frammenti Di Ardesia Emersi Da un'apertura Più profonda I frammenti Provenivano Da una regione Ad ovest Vicino Alla catena Della regina Alessandra E Leic Come biologo Giudicò Le impronte Piuttosto Strane E bizzarre Al mio occhio Di geologo Tuttavia Non erano Diverse Dai soliti Disegni Ondulati Che si Osservavano Sulle rocce Sedimentarie Poiché L'Ardesia Non è altro Che una formazione Metamorfica In cui viene Compresso Uno strato Sedimentario E poiché La pressione Produce a volte Effetti di distorsione Sulle eventuali Impronte Io non capivo Il grande stupore Di Leic Per quei segni Lasciati sulla pietra Il 6 gennaio 1931 Leic Pavody Daniels I sei studenti Quattro meccanici Ed io Volammo sul polo sud In due grandi aeroplani Ma fummo costretti Ad atterrare Da un vento improvviso D'alta quota Che per fortuna Non si trasformò In una tempesta Come i giornali Hanno riferito Era uno dei numerosi Voli d'osservazione In cui cercavamo Di distinguere Nuove caratteristiche Topografiche Sfuggite ai precedenti Esploratori Le prime ricognizioni Furono deludenti Sotto questo aspetto Anche se ci diedero La possibilità Di osservare I fantastici E ingannevoli Miraggi delle regioni Polari Di cui nel viaggio Per mare Avevamo avuto Solo qualche breve Assaggio Montagne lontane Volavano nel cielo Come città incantate E spesso Il mondo bianco Si dissolveva In una terra Di sogni d'oro Argento E scarlatto Degna di un djunsanì Pregna di avventurosa Trepidazione Sotto la magia Del sole Di mezzanotte Nei giorni nuvolosi Volare Era difficile Perché la terra Innevata E il cielo Si fondevano In un sol vuoto Palescente Ultraterreno Senza orizzonte Visibile A separarli Alla lunga Decidemmo Di attuare Il nostro piano Originario Che consisteva Nel volare 8-900 km A est Con tutti e quattro Gli aerei E di stabilire Una nuova subbase In un punto Situato probabilmente Sulla massa Continentale Minore Come erroneamente La ritenevamo Sarebbe stato Interessante Paragonare Reperti geologici Trovati laggiù Con quelli Già in nostro Possesso La salute Della spedizione Fino a quel momento Era eccellente Il succo di lime Controbilanciava La normale dieta A base di cibi Salati In scatola E le temperature Mai troppo Sotto lo zero Ci consentivano Di non indossare Le pellicce Più pesanti Eravamo Nel pieno Dell'estate E sbrigandoci Avremmo potuto Terminare Il lavoro Per marzo Evitando Il noioso Svernamento Nella lunga Notte Antartica Da occidente Si riversavano Su di noi Furiose tempeste Di vento Ma evitammo Danni Grazie all'abilità Di Atwood Nel realizzare Una sorta Di frangivento E di rifugi Per gli aerei Servendosi Di pesanti Blocchi Di neve Con la neve Inoltre Rinforzammo Tutti i principali Edifici del campo La nostra efficienza E buona fortuna Avevano Dello straordinario Naturalmente Il mondo esterno Era informato Del nostro programma E fu messo Al corrente Della strana E ostinata Insistenza Di Lake Per effettuare Un viaggio Di esplorazione Ad ovest O meglio Nord ovest Prima di trasferirci Definitivamente Verso la nuova Destinazione Aveva riflettuto Parecchio E con preoccupante Anticonformismo Sull'impronta Triangolare Che aveva trovato Nell'Ardesia Come se vi avesse letto Certe contraddizioni Nell'ordine naturale Delle cose O nella sequenza De periodi geologici Interessati Che aveva risvegliato La sua curiosità E l'aveva reso ansioso Di effettuare Nuovi scavi Nella formazione Occidentale A cui frammenti Appartenevano Si era convinto Stranamente Che il segno Tracciato Nell'Ardesia Fosse l'impronta Di un organismo Imponente Sconosciuto E del tutto Inclassificabile Ma piuttosto Avanzato Nell'evoluzione E ciò Nonostante Che la roccia Appartenesse A un periodo Remotissimo Il Cambriano O addirittura Un'epoca anteriore Fatto Che precludeva L'esistenza Non solo Di vita evoluta Ma di qualsiasi Forma vivente Sopra il livello Unicellulare O al massimo Trilobita I frammenti Con l'impronta Bizzarra Datavano Da 500 milioni A un miliardo Di anni fa Due Ritengo Che l'immaginazione Popolare Fosse eccitata Dai dispacci Che riguardavano La partenza Di Lake Verso nord-ovest In regioni mai visitate Dall'uomo O penetrate Dalla sua fantasia Eppure ci guardammo bene Dal menzionare Le sue folli speranze Di rivoluzionare Le scienze Della biologia E della geologia Le escursioni Preliminari In slitta E i prelievi Che egli eseguì Fra l'11 E il 18 gennaio Con Pavodi E altri 5 uomini Queste segnate Dalla perdita Di due cani A seguito Del ribaltamento Di una slitta Mentre attraversavano Uno dei grandi Costoni di ghiaccio Portarono alla luce Molta Ardesia primordiale E anch'io Fu incuriosito Dalla singolare Quantità Di impronte fossili In quel materiale Antichissimo Si trattava Tuttavia Di forme di vita Estremamente primitive E il paradosso Si riduceva Al fatto Che la vita A quanto pareva Era già presente In età precambliche Quelle a cui risaliva La nostra Ardesia Per questo Non riuscivo A capire Le ragioni Che spingevano Lake A chiedere Un prolungamento Del nostro programma Tutto basato Sul risparmio Di tempo Prolungamento Peraltro Che avrebbe richiesto L'uso di Quattro aerei Molti uomini E tutto All'apparato scientifico Della spedizione In definitiva Non vietai L'escursione Ma decisi Di non accompagnare Gli esploratori Diretti a nord A meno che Lake Volesse a tutti i costi La mia consulenza geologica Durante l'assenza Del gruppo Sarei rimasto Alla base Con Pabodi E altri cinque uomini A elaborare Gli ultimi dettagli Della missione Verso est Per affrontare La trasferta Uno degli aerei Aveva cominciato A trasportare Carburante Dallo stretto Di McMardo Ma era un'operazione Questa Che poteva aspettare Tenni con me Una slitta E nove cani Perché non è saggio Restare senza Mezzi di trasporto Anche per pochissimo tempo In un mondo Completamente morto E disabitato La spedizione di Lake Nell'ignoto Come ognuno Ricorderà Inviava regolari messaggi Con i trasmettitori A onde corte Degli aerei I dispacci Venivano ricevuti Simultaneamente Dalla nostra ricevente Alla base sud E dall'Arkham Nello stretto Di McMardo Da cui venivano Trasmessi poi Al mondo esterno Su lunghezze d'onda Fino a 50 metri La partenza Avvenne il 22 gennaio Alle 4 del mattino E il primo messaggio Arrivò solo due ore dopo Quando Lake Annunciò che stava Per scendere E fondere un po' Di ghiaccio In un punto A circa 500 chilometri Da noi Sei ore più tardi Un secondo Ed eccitato Messaggio Riferì che grazie A un lavoro Accurato e indefesso Era stato possibile Scavare un pozzo Relativamente poco profondo Da cui l'esplosivo Aveva portato Alla luce Frammenti di Ardesia Con numerose Impronte Simili a quelle Che aveva causato Lo stupore iniziale Tre ore più tardi Un succinto Bollettino Annunciò La ripresa Del volo Fra i pericoli Di una violenta Bufera di neve E quando inviai Un messaggio Di protesta Contro ulteriori rischi Lake rispose Brevemente Che i nuovi ritrovamenti Giustificavano Qualsiasi azzardo Mi resi conto Che la sua eccitazione Aveva raggiunto Lo stadio Dell'ammutinamento E che non potevo Fare niente Per impedire Un'impresa Che metteva Repentaglio Il successo Della spedizione Era spaventoso Pensare All'avventura Di quegli uomini Nelle distese Sempre più infide Sinistre Del continente Bianco Fra tempeste E pericoli Sconosciuti Che si stendevano Per quasi 3000 chilometri Verso la costa Semisconosciuta Delle terre Della regina Maria Enox Un'ora e mezzo Più tardi Dall'aereo In volo Di Lake Arrivò il messaggio Che cambiò I miei sentimenti E mi fece desiderare Di avere seguito Il gruppo 10.05 pomeridiane In volo Dopo una tempesta Di neve Abbiamo avvistato Una catena di montagne Più alta Di tutte quelle viste Finora Considerata L'altezza Dell'altipiano Forse Eguagliano L'Himalaya Probabilmente La latitudine È 76 gradi E 15 minuti E la longitudine 113 gradi 10 minuti Est Si estende A perdita d'occhio A sinistra E a destra Sospettiamo L'esistenza Di due vulcani Attivi Le vette Sono nere Senza neve Il vento Che soffia Dalle montagne Ostacola La nostra navigazione Dopodiché Pavodi Gli assistenti Ed io Restammo attaccati Alla ricevente Senza fiatare Il pensiero Di quella Titanica Catena A oltre 1000 chilometri Dal punto In cui ci trovavamo Accendeva Il nostro Più profondo Senso D'avventura Eravamo felici Che la scoperta Si dovesse Alla nostra Spedizione Anche se non A noi Personalmente Mezz'ora dopo Lake Ci chiamò Di nuovo Aereo Di Moulton Costretto Ad atterrare Su altipiano Ai piedi Delle montagne Nessun Ferito Probabilmente Riusciranno A ripararlo Trasferiamo Il materiale Essenziale Su altri Tre E ce ne Serviremo Per il ritorno O altre Ricognizioni Al momento Non sono Necessari Grandi Spostamenti Le montagne Superano Qualunque Immaginazione Mi accingo A un volo D'esplorazione Sull'aereo Di Carroll Liberato Di tutto Il materiale Non potete Immaginare Niente Del genere Le vette Più alte Devono Superare I 10.000 Metri Everest Battuto Atwood È incaricato Di calcolare Altezze Conteodolite Mentre Carroll E io Andiamo Su Forse Ci sbagliavamo Sui vulcani Perché Sembrano Formazioni Stratificate Probabilmente Si tratta Di Ardesia Precambrica Con altri Strati Mescolati Profilo Della catena Molto Singolare Intorno Alle cime Più alte Sembra Di vedere Formazioni Cubiche Spettacolo Meraviglioso Alla luce Rosso Oro Del sole Basso Sembra La terra Del mistero Di un sogno O l'ingresso A un mondo Proibito Di meraviglie Sconosciute Vorrei Che foste Qui Per studiarle Con noi Benché Fosse Tecnicamente Ora Di dormire Nessuno Di noi Pensò Per un attimo Di ritirarsi Immagino Che gli Ascoltatori Nello stretto Di McMardo Abbiano Fatto Lo stesso Sia Alla base Di fornimenti Che Sull'Arkham E il comandante Douglas Ci chiamò Per congratularsi Con tutti Dell'importante Scoperta Sherman L'operatore Della base Di fornimenti Sottoscrisse Questi sentimenti Ovviamente Ovviamente Ci dispiaceva Che l'aereo Fosse Danneggiato Ma speravamo Che fosse Possibile Ripararlo Alle 11 Di sera Arrivò Un altro Rapporto Di lake In volo Per sollevamento Mi sbaglio Mi sbagliavo Per quanto riguarda Il vulcanismo Le montagne Si stendono A perdita D'occhio E al di sopra Degli 8000 metri Non sono più coperti Di neve Sulle più alte Osserviamo Strane Formazioni Grandi blocchi Squadrati E bassi Con i lati Perfettamente Verticali E file Rettangolari Di modesti Bastioni Come gli antichi Castelli asiatici Arroccati Sulle montagne Nei quadri Di Roerich Fanno un certo Effetto In distanza Ci siamo Avvicinati In vola Ad alcuni Di essi Carroll Pensa Che fossero Costituiti Da pezzi Separati E più piccoli Ma questa Probabilmente È opera Delle intemperie Gli angoli Sono per lo più Sbriciolati Arrotondati Come se fossero Stati esposti A tempeste E cambiamenti Di clima Per milioni Di anni Alcune parti Specialmente Quelle superiori Sembrano Di roccia Più chiara Che qualsiasi Strato visibile Sui fianchi Delle montagne Per cui sono Evidentemente Di origine Cristallina Volando A distanza Ravvicinata Scorgiamo L'ingresso Di parecchie Caverne Alcune Singolarmente Regolari O di forma Quadrata O semicircolare Dovete Raggiungerci A indagare Subito Mi pare Di aver visto Un bastione Sulla vetta Di una montagna Altezza Da 9 A 10 Mila metri Io Mi trovo Adesso Circa 8.000 Metri In un Freddo Bestiale Il vento Fischia E soffia Nei passi E dalle bocche Delle caverne Ma fino a questo Momento Non c'è pericolo Per il volo Da quel momento E per un'altra Mezz'ora Lake ci tenne Sotto un fuoco Di fila Di osservazioni E manifestò La volontà Di scalare Personalmente Alcune delle montagne Risposi Che lo avrei raggiunto Appena mi avesse Mandato un aereo E che con Pabodi Avrei cercato Di risolvere Il problema Rifornimenti Nel modo migliore Infatti Vista la nuova Piega della spedizione Si trattava di decidere Dove e come Concentrare le nostre risorse Ovviamente Le operazioni di scavo Condotte da Lake Insieme alle attività aeree Del gruppo Avrebbero richiesto Una grande quantità Di rifornimenti Per il nuovo Accampamento Che stava per essere Fondato ai piedi Delle montagne Era possibile Che la missione a Est Non si potesse compiere Nell'arco di questa stagione Proprio in relazione A questo fatto Chiamai il comandante Douglas E gli chiesi Di scaricare Dalle navi Tutto al possibile E di mandarlo Alla base Sulla barriera di ghiaccio Con l'unica muta Di cani Che gli avevamo Lasciato Si trattava Di stabilire Una rotta diretta Fra la regione Sconosciuta In cui si trovava Lake E lo stretto Di McMurdo Più tardi Lake Mi chiamò Per dire Che aveva deciso Di stabilire L'accampamento Dove l'aereo Di Molton Era stato costretto Ad atterrare E dove le riparazioni Erano già cominciate Lo strato di ghiaccio Era molto sottile E sotto di esso Si vedeva ogni tanto La terra scura Lake Avrebbe tentato I primi scavi In quella zona E solo in un secondo momento Avrebbe tentato Spedizioni in slitta O scalate Ci parlò Dell'ineffabile Grandiosità Della scena E delle straordinarie Sensazioni Che provava Nel trovarsi All'ombra Delle enormi Vette silenziose Che formavano Una sorta Di barriera Alta fino al cielo Il confine Del mondo Le osservazioni Di Atwood Con il Teodolite Avevano stabilito Che l'altezza Delle cinque vette Più alte Andava da nove A diecimila metri La natura ventosa Delle regioni Turbava Lake Perché lasciava Presagire La possibilità Di tempeste Più feroci Di quelle Che avevamo Finora incontrato L'accampamento Si trovava Circa otto chilometri Dal punto in cui Si innalzavano I primi contrafforti Montuosi Quando da una distanza Di oltre mille chilometri Lake ci comunicò Attraverso il vuoto Che sperava Che ci affrettassimo E lo raggiungessimo Al più presto Mi sembrò Di scorgere Una nota D'allarme Nelle sue parole Dopo una giornata Di lavoro continuo Strenue fatiche E grandi risultati Finalmente Si accingeva Riposare La mattina dopo Instaurai Un triplo collegamento Con Lake E il comandante Douglas Nelle rispettive Basi Stabilimmo Che un aereo Sarebbe venuto A prendere Pavody Me E i cinque uomini Più tutto Il carburante Che sarebbe riuscito A trasportare Quanto a ulteriori Rifornimenti Poiché tutto Dipendeva Dalla successiva Spedizione Est Decidemmo Che potevamo Aspettare Qualche giorno Per il momento Lake Aveva Quanto gli serviva Per il riscaldamento Del campo E le trivellazioni Iniziali Alla fine Avremmo dovuto Rifornire La vecchia Basa Sud Ma se avessimo Rimandato La spedizione Est Non ce ne saremmo Serviti Prima della prossima Estate E nel frattempo Lake Avrebbe inviato Un aereo In ricognizione Per studiare Una rotta Diretta fra le montagne Appena scoperte E lo stretto Di McMardo Pavody Ed io Ci preparammo A chiudere La base Per un periodo Più o meno Lungo Se avessimo Deciso Di svernare Nell'Antartide Saremmo tornati Immediatamente Dal campo Di Lake All'Arkham Senza passare Da quel punto Avevamo già Rinforzato Una parte Delle tende Coniche Con i blocchi Di neve dura E ora Decidemmo Di completare La costruzione Di un villaggio Eschimese Permanente Grazie al numero Di tende Che avevamo portato Lake Disponeva già Di tutto quello Che sarebbe servito Anche dopo Il nostro arrivo Gli comunicai Quindi che Pavodi E io Saremmo stati Pronti a compiere Il viaggio Dopo un giorno Di lavoro E una notte Di riposo Dopo le 4 del pomeriggio Tuttavia La nostra attività Non fu regolare Perché verso Quell'ora Lake Cominciò a inviare I messaggi Più straordinari E concitati La sua giornata Di lavoro Non era cominciata Sotto buoni auspici Perché una Ricognizione aerea Delle superfici rocciose Più vicine Aveva rivelato Un'assenza totale Degli strati arcaici E primordiali Di cui era La ricerca E che formavano Gran parte Delle vette colossali Che incombevano In lontananza Gli strati esposti Appartenevano Al giurassico E al comanciano Per quanto riguardava Le arenarie Al permiano Al triassico Per gli schisti Con un blocco Nero e lucente Che appariva Ogni tanto A ricordare La probabile presenza Di carbone duro E simile ad Ardesia Questo avvenimento Scoraggiò notevolmente Lake I cui piani Miravano Alla scoperta Di campioni Più vecchi Di 500 milioni Di anni Era evidente Che per ritrovare La vena di Ardesia Archeana In cui aveva scoperto Le stranissime impronte Avrebbe dovuto Fare un lungo viaggio In slitta Dalle montagne Relativamente modeste Fra cui si era accampato Ai ripidi fianchi Delle vette maggiori Tuttavia Aveva deciso Di fare alcuni scavi In loco Come parte Del programma Generale Della spedizione Quindi Preparò la scavatrice E vi mise Cinque uomini Al lavoro Mentre gli altri Completavano L'allestimento Del campo O riparavano L'aereo Danneggiato Lake aveva scelto La roccia più tenera Portata di mano Un'arenaria Che si trovava Qualche centinaio Di metri dal campo Per effettuare I primi tentativi E la scavatrice Fece eccellenti progressi Senza dover ricorrere A molte esplosioni Supplementari Circa tre ore più tardi Dopo la prima esplosione Degna di questo nome Gli uomini Addetti alla scavatrice Cominciarono a gridare E il giovane Ghedni Capogruppo Corsa all'accampamento Con le straordinarie notizie Avevano trovato Una caverna All'inizio delle operazioni Di scavo L'arenaria Aveva ceduto il posto A una vena calcarea Del Comanciano Piena di minuscoli fossili Di cefalopodi Coralli Echinoidi E spirifere Ogni tanto Si intravedevano Tracce di spugne silicee E addirittura Ossia di vertebrati marini Probabilmente Teleostomi Squali E ganoidi La cosa Era già importante Di per sé stessa Perché costituiva La prima scoperta Di vertebrati Effettuata Dalla spedizione Ma quando Poco dopo La trivella Affondò nello strato E trovò il vuoto Fra gli uomini Si diffuse Un'ondata di eccitazione Ancora più intensa Un'esplosione Di adeguata potenza Aveva aperto Un sotterraneo Nascosto E ora Attraverso L'apertura Frastagliata Che misurava Circa un metro e mezzo Di larghezza E un metro Di profondità Agli occhi Degli osservatori Apparve Una cavità Scavata Nel calcare Dallo stellicidio Delle acque Superficiali Di uno scomparso Mondo tropicale Di più Di 50 milioni Di anni fa La caverna Non era più alta Di 3 metri Ma si estendeva Indefinitivamente In tutte le direzioni E al suo interno L'aria fresca E mossa Faceva pensare Che appartenesse A un esteso Sistema Sotterraneo Il soffitto Il soffitto E il pavimento Erano forniti Di stalattiti E stalagmiti Alcune delle quali Si incontravano A formare Una serie Di colonne Ma la cosa Più importante Era il vasto Deposito Di gusci E di ossa Che in qualche punto Dostruivano Quasi completamente Il passaggio Trasportato Dall'acqua Disconosciute Giungle mesozoiche Di felci E funghi E dalle foreste Di cicade Palme Angiosperne Primitive Del terziario Quel guazzabuglio Di ossa Conteneva Esemplari Di numerose Specie animali Del cretaceo Delle ocene E altre epoche Ancora Il più grande Paleontologo Del mondo Non sarebbe Riuscito A classificarle In un anno Molluschi Corazze Di crostacei Pesci Amfibi Rettili Uccelli E antichi Mammiferi Creature Grandi E piccole Note E ignote Non c'è da meravigliarsi Quindi che Ghedney Tornasse al campo Urlando E che tutti gli uomini Interrompessero il lavoro Per precipitarsi Nel freddo pungente Dove l'alta scavatrice Aveva aperto Un nuovo ingresso Ai segreti Delle viscere Della terra E del passato Quando Lake Ebbe soddisfatto Le curiosità Più urgenti Scrisse un messaggio Sul taccuino E l'affidò Al giovane Molton Perché corresse Al campo E lo trasmettesse Per radio In questo modo Io ebbi Notizia Della scoperta Si accennava Si accennava All'identificazione Dei primi gusci Alle ossa Di ganoidi E placodermi Ai resti Di labirintodonti E tecodonti Ai frammenti Del teschio Di un grande mesosauro Alle vertebre Di un dinosauro E alle corazze Di altri animali Ai denti Di pterodattilo E alle ossa Delle relative ali Ai frammenti Di archeopteryx Ai denti Di squali Del miocene A primitive Teste d'uccello Scheletri Di vertebre E altre ossa Di mammiferi arcaici Quali paleoteri Xifodonti Dinocerasi E oippi Oredonti E titanoteri Non c'era traccia Di bestie più recenti Come mastodonti Elefanti O autentici Cammelli Cervi Oppure qualche bovino E questo Permise a Lake Di concludere Che il deposito Risaliva L'oligocene E che lo strato Che costituiva La caverna Era rimasto Nel suo stato attuale Inaccessibile Morto Ed essiccato Per almeno 30 milioni Di anni D'altra parte La prevalenza Di antichissime Forme di vita Era molto singolare Benché la formazione Calcarea Appartenesse Sicuramente Al periodo Comanciano E non fosse Per niente Anteriore Lo dimostrava La presenza Di fossili Come i ventricoliti I frammenti D'ossa Rinvenuti Allo stato libero Nella caverna Comprendevano Una stupefacente Quantità Di organismi Considerati Fino a quel momento Tipici Di epoche Molto più remote C'erano pesci rudimentali Molluschi E coralli Del siluriano O addirittura Dell'ordoviciano L'inevitabile Conclusione Era che in quella Parte del mondo Si fosse verificata Una straordinaria Eccezionale Continuità Tra forme di vita Apparse Per la prima volta 300 milioni Di anni fa E altre Che risalivano A soli 30 milioni Di anni Fino a che punto Questa continuità Si fosse estesa Oltre l'oligocene Quando la caverna Si era bloccata Andava al di là Delle nostre Congetture In ogni caso La spaventosa Glaciazione Del pleistocene Avvenuta Circa 500 mila Anni fa Solo ieri A paragone Della remotissima Antichità Della grotta Doveva aver Sterminato Eventuali Forme di vita Arcaiche Sopravvissuta Alla propria era Lake Non si accontentò Di inviare Queste prime Informazioni Ma compilò E trasmise Un altro Dispaccio Che raggiunse Il campo Via Slitta Prima del ritorno Di Molton Da quel momento In poi Molton Rimase All'apparecchio radio In uno degli aerei Per trasmettere A me E all'Arkham Che gli avrebbe Divulgati Al resto del mondo I frequenti Aggiornamenti Che Lake Aveva cominciato A inviargli Con una serie Di messaggeri I lettori Dei giornali Ricorderanno L'eccitazione Creata fra gli uomini Di scienza Dai rapporti Del pomeriggio E proprio Le notizie Che risalgono Quel fatidico giorno Hanno condotto Dopo tutti Questi anni All'organizzazione Della spedizione Starkweather Moor La stessa Che io ora Tento di dissuadere Sarà ora meglio Che trascriva Letteralmente I messaggi Di Lake È la versione Preparata Alla base Dall'operatore McTeague Che li Trascrisse Dai punti Stenografici Su frammenti Di calcare E arenaria Portati alla luce Con opportune Esplosioni Fowler Ha compiuto Una serie Di scoperte Della massima importanza Numerose impronte Striate triangolari Come quelle Rinvenute Nell'Ardesia Dell'Archeano Dimostrano La sopravvivenza Dell'oggetto Che le ha lasciate Per un periodo Di oltre 600 milioni Di anni Fino al Comanciano In questo lunghissimo periodo L'oggetto Mostra pochissime Alterazioni Morfologiche E solo Una leggera Diminuzione Nella grandezza Media Le impronte Del Comanciano Sono A quanto sembra Più rozze O decadenti Di quelle Che risalgono Epoche più remote L'importanza Della scoperta Va assolutamente Sottolineata Alla stampa Per la biologia È una rivoluzione Paragonabile A quella di Einstein Nella matematica E nella fisica Tutto collima Con il lavoro Fin qui svolto E ne amplifica Le conclusioni Le scoperte Indicano Come sospettavo Che la Terra Ha conosciuto Un lungo ciclo O addirittura Una serie di cicli Biologici anteriori A quello noto Che comincia Con gli organismi Unicellulari Dell'archeozoico Queste forme Di vita anteriori Si sono evolute E specializzate Non meno Di un miliardo Di anni fa Quando il pianeta Era giovane È ancora inabitabile Per qualunque Forma organica O struttura Protoplasmica Normale Nasce il problema Di dove E quando Abbia avuto Luogo tale sviluppo Più tardi Esaminando I frammenti Scheletrici Dei grossi Sauri marini E terrestri E di alcuni Mammiferi primitivi Abbiamo trovato Singolari tracce Di ferite locali O danni Alle ossa Che non si possono Attribuire Ai predatori E o carnivori Di nessuna epoca Conosciuta Le ferite Sono di due specie Fori dritti Piuttosto profondi E incisioni Da arma Da taglio In uno o due casi Le ossa Sono spezzate Di netto Gli esemplari Interessati Non sono molti Chiederò Il campo Torce elettriche Ed estenderò Le ricerche Al sottosuolo Ordinando L'abbattimento Delle stalattiti Ancora più tardi Trovato singolare Frammento di steatite Del diametro Di circa Un metro e ottanta E uno spessore Di quattro centimetri E' diverso Da qualsiasi Formazione locale Finora scoperta Il colore E' verdastro Ma mancano dati Per datarlo Con precisione E' stranamente Liscio e regolare La forma Ricorda una stella Cinque punti Con i vertici Spezzati Gli angoli E il centro Della superficie Mostrano altre Intaccature Una piccola Incavatura liscia Si trova Al centro Della stella L'oggetto Suscita curiosità Per la sua Provenienza E il lavorio Prodotto Dalle intemperie Probabilmente E' un prodotto Bizzarro Ma casuale Dell'erosione Dell'acqua Carroll Servendosi Di una lente Di ingrandimento Sostiene Di aver individuato Altri segni Di rilevanza Geologica Gruppi Di puntini Informazioni Regolari Mentre noi Lavoriamo I cani Cominciano Diventare Anche inquieti E sembra Che nutrono Una decisa Avversione Per il frammento Di steatite Verificherò Se ha un odore Particolare Trasmetterò Nuovo rapporto Quando Mills Sarà qui Con le torce Con le torce E cominceremo Esplorare Il sottosuolo 10 e 15 Pomeridiane Importante Scoperta Orrendorf E Watkins Che sono scesi Nel sottosuolo Con le torce Alle 9.45 Hanno rinvenuto Un fossile Mostruoso A forma Di barile E del tutto Sconosciuto Probabilmente Si tratta Di una forma Di vita vegetale O di un esemplare Super sviluppato Di organismo Marino Sconosciuto I tessuti Sono stati Conservati Evidentemente Da sali minerali E' duro Come il cuoio Ma a tratti Conserva Una stupefacente Elasticità Alle estremità E intorno ai lati Sono evidenti I segni Di parti Mancanti Misura Più di Un metro e ottanta Da un'estremità All'altra E circa Un metro Di diametro Al centro Ma si restringe A ciascuna estremità Fino a circa 35 centimetri L'impressione generale E' quella Di un barile Con 5 screscente Sporgenti Al posto Delle doghe Appendici laterali Come sottili peduncoli Si trovano Nella zona centrale Tra le suddette Screscenze Nei solchi Situati Fra una sporgenza E l'altra Notiamo anche Curiose formazioni Forse creste O ali Che si possono Spiegare E ripiegare Come ventagli Dette formazioni Sono gravemente Danneggiate Con l'eccezione Di una Che raggiunge Un'apertura Alare Di circa Due metri La struttura Complessiva Ricorda Le creature Mostruose Di certi Antichi Cicli Mitici E in particolare Gli esseri Antichi Di cui parla Il Necronomicon Le ali Le ali Sembrano Un'azione Estremamente Primitiva Ho ordinato Che tutti Gli uomini Collaborassero All'abbattimento Delle stalattiti E stiamo cercando Altri esemplari Abbiamo trovato Nuove ossa Con strani segni Ma Aspetteranno Abbiamo sempre Problemi Con i cani Non sopportano La vista Del nuovo Esemplare E se non Lo tenessimo A debita distanza Lo farebbero A pezzi 11.30 Pomeridiane Attenzione Dyer Pavody Douglas Scoperte Della massima Importanza Direi Eccezionali L'Arkham Deve mettersi Immediatamente In contatto Con la stazione Di Kingsport Head Lo straordinario Essere A forma di barile È lo stesso Che ha lasciato Le impronte Nell'Ardesia Mills Baudreau E Fowler Ne hanno scoperti 13 esemplari In un punto Sotterraneo A una quindicina Di metri Dall'imboccatura Della caverna In loro compagnia Sono stati rinvenuti Altri frammenti Di steatite Più piccoli Del primo Ma ugualmente lisci E di foggia particolare Anche questi Sono a forma Di stella Ma non mostrano Segni di rottura Salvo che All'estremità Di qualche punta Quanto agli esemplari Organici Otto Sembrano perfetti E muniti Di tutte le appendici Li abbiamo portati In superficie Tenendo a distanza I cani Che non riescono A sopportarli Prestate la massima Attenzione Alla descrizione Che ne faremo E ripetetela Per evitare errori Gli oggetti Sono alti Più di due metri E mezzo Con un diametro Al centro Di un metro e novanta E all'estremità Di circa 35 centimetri Sono di colore Grigio scuro Sono flessibili Ma durissimi Ali membranose Dello stesso colore Con un'apertura Di circa due metri Si dipartono Dai solchi Fra le escrescenze Del corpo E al momento Della scoperta Erano ripiegate La struttura Che le sostiene È tubolare Fosse ghiandolare Di un grigio Appena più chiaro Con orifizie All'estremità Delle ali Una volta dispiegate Le ali rivelano Un bordo dentellato Intorno al centro Del corpo All'apice Di ciascuna escrescenza Verticale Simile ad oghe Si trovano Altrettanti gruppi Di membra flessibili O di tentacoli Grigio chiari Che al momento Della scoperta Erano avvolti Intorno al torso Ma che si estendono Fino a un massimo Di un metro Somigliano Alle membra Dei crinoidi primitivi Ogni appendice Del diametro Di circa 7 centimetri A un'altezza Di circa 15 centimetri Si divide In 5 sub appendici Ognuna delle quali A sua volta Si divide All'altezza Di circa 20 centimetri In 5 piccoli tentacoli O peduncoli affusolati In modo che Ogni appendice Conta infine 25 tentacoli Il torso È sormontato Da un collo Quasi sferico Di colore grigio chiaro Munito di quelle Che sembrano branchie È destinato A sostenere Una testa giallastra A 5 punte Che ricorda Una stella marina Questa estremità È coperta Di ciglia sottili Lunghe intorno Ai 7 centimetri Che brillano Di vari colori La testa Grossa E gonfia Misura circa 70 centimetri Da punta a punta Con piccoli tubi Gialli e flessibili Che fuoriescono Per circa 7 centimetri E mezzo Da ogni punta Al centro esatto Dell'estremità superiore Appare un'apertura Che serve Probabilmente A respirare In fondo Ad ogni tubo Flessibile Si nota Un'espansione Sferica La cui membrana Gialla Si stacca Al tatto E rivela Un globo vitreo Dall'iride rossa Evidentemente Un occhio 5 tubi Più lunghi Di colore Rossastro Partono dagli angoli Interni Della testa A forma di Stella marina E terminano In piccoli Rigonfiamenti Simili a sacche Dello stesso colore Se si esercita Pressione È possibile Provocarne L'apertura Rivelando Orifizi A forma Di campana Che raggiungono Un diametro massimo Di 5 centimetri E sono ornati Da protuberanze Bianche Accuminate Simili a denti Si tratta Probabilmente Di bocche Al momento Della scoperta Tubi Ciglia E punte Della testa Erano rigidamente Piegati Verso il basso Le punte E le screscenze Tubolari Sembravano Avviluppare Al collo Semisferico E al torso Nonostante L'estrema Durezza La loro Flessibilità Si è rivelata Sorprendente In fondo Al torso Esiste Un'organizzazione Simile a quella Della testa Ma funzionante In base A principi Diversi Osserviamo Innanzitutto La controparte Del collo Anche qui Semisferico E grigio Chiaro Ma senza Branchie Adesso È collegato Un'estremità A 5 punte Come una stella Marina Di colore Verdognolo Le membre Inferiori Invece Sono dure E forti Lunghe Circa 1 metro E affusolate Il diametro Alla base È di circa 18 centimetri Mentre alla punta Supera Di poco I 6 All'estremità Di ogni appendice È connessa Una piccola Protuberanza Triangolare Verdastra E membranosa Lunga 20 centimetri E larga 15 Verso il fondo È questa La pagaia Pinna O pseudopodo Che ha lasciato Le impronte Da noi Trovate Nella pietra E che datano Da un massimo Di un miliardo Di anni fa Fino a un minimo Di 50 60 milioni Dagli angoli Degli angoli interni Del sistema Forma di stella Emergono appendici Tubolari Rossastre Affusolate Che alla base Misurano circa 7 centimetri E mezzo E alla punta 2 e mezzo In corrispondenza Della punta Si notano Orifizi Tutte le parti Che abbiamo Descritto Sono durissime E simili al cuoio Ma molto Flessibili Le appendici Da 1 metro E 40 Munite di piedi Triangolari Servivano Indubbiamente Alla locomozione In mare O sulla superficie Quando tentiamo Di muoverle Mostrano Una forza Straordinaria Come già osservato Per la parte Superiore del corpo Anche le appendici Inferiori Erano accuratamente Ripiegate Sullo pseudocollo E l'estremità Del torso E' impossibile Stabilire Con sicurezza Se queste creature Appartengono Al regno animale O vegetale Ma attualmente Le probabilità Sono a favore Di quello animale Forse Rappresentano Un avanzatissimo Stadio Nell'evoluzione Dei radiati Di cui Non sembrano Aver perso Certe caratteristiche Primitive Nonostante Qualche discrepanza Locale Le somiglianze Con una sorta Di echinoderma Sono inconfondibili La presenza Di ali E' piuttosto Ambigua In animali Di probabile Origine marina Ma può darsi Che venissero Impiegati Nella navigazione La simmetria Dei corpi E' curiosamente Affina A quella Dei vegetali E ricorda La struttura Rovesciata Di questi ultimi Piuttosto Che il sistema Testa-coda Presente Negli animali L'evoluzione Degli esemplari Risale A epoche Lontanissime Certo Prima Del più semplice Protozoo E ciò Rende problematica La loro origine Nell'insieme Gli esemplari Mostrano Una rassomiglianza Così portentosa Con certe creature Dei miti primigeni Da far sorgere Un'inevitabile Domanda Sulla loro Diffusione Al di fuori Dell'Antartide Dyer e Pavody Hanno letto Il Necronomicon E hanno visto I dipinti D'incubo Realizzati Da Clark Ashton Smith Dopo essersi Familiarizzato Con quell'opera Dunque capiranno I miei accenni Agli esseri Antichi Che avrebbero Creato La vita Sulla terra Per scherzo O per errore Gli studiosi Hanno sempre Ritenuto Che l'aspetto Degli antichi Non fosse Altro che Una morbosa Fantastica Rielaborazione Di certi Antichissimi Radiati Tropicali Ma non è Possibile Ignorare Gli squarci Di folclore Primitivo Cui accenna Wilmoth Le vari appendici Del culto Di Cthulhu Eccetera Si apre Ora Un vasto Campo Di studi A giudicare Dal miscuglio Di esemplari I depositi Risalgono Probabilmente Al tardo Cretaceo O al primo Eocene Li abbiamo Trovati sotto Massicce Stalagmiti E ci ha voluto Molto Per portarli Alla luce Ma la loro Durezza Ha impedito Che i corpi Subissero Gravi danni Lo stato Di conservazione È Miracoloso Probabilmente Per azione Del calcare Finora Non abbiamo Trovato Altro Ma riprenderemo Le ricerche Più tardi Il lavoro Più importante Adesso È trasportare Al campo I 14 Grossi esemplari Senza L'aiuto Dei cani Che abbaiano Furiosamente In loro presenza Con nove uomini Tre resteranno A guardia Dei cani Dovremmo riuscire A trascinare Le slitte Abbastanza bene Anche se Il vento È molto forte Dobbiamo Stabilire Un ponte Aereo Con lo stretto Di McMardo E cominciare A inviare Il materiale Comunque Sezionerò Una di queste Creature Prima di andare A dormire Vorrei avere Un laboratorio Attrezzato Dyer Dovrà Prendersi A calci Per aver Tentato Di ostacolare Il mio viaggio Ovest Abbiamo scoperto Le montagne Più alte Del mondo E dopo Queste creature Se non è Il momento Più importante Della spedizione Non so Proprio Come definirlo Siamo uomini Di scienza O no Congratulazioni Pabody Per la scavatrice Che ci ha rivelato La caverna Adesso Voi Dell'Arkham Volete ripetere La descrizione Le sensazioni Che Pabody E io Provammo All'arrivo Di questi rapporti Erano indescrivibili E i nostri compagni Non furono Da meno Mac Teague Che aveva trascritto In fretta Alcuni punti salienti Non appena usciti Dalla ricevente Completò la traduzione Negli appunti stenografici Appena l'operatore Di Lake Si fu interrotto Tutti Ci rendemmo conto Che si trattava Di una scoperta Destinata a farepoca E non appena L'operatore Dell'Arkham Ebbe ripetuto Le parti descrittive Come Lake Aveva richiesto Gli inviai Le mie congratulazioni Il mio esempio Fu seguito Da Sherman Alla base Di fornimenti Sullo stretto Di McMurdo E dal comandante Douglas Dell'Arkham In seguito Come capo Della spedizione Aggiunsi Qualche commento Che l'Arkham Avrebbe trasmesso Al mondo esterno In una circostanza Del genere Era assurdo Pensare al riposo E il mio unico desiderio Era di arrivare Al campo di Lake Il più in fretta Possibile Fu un grave Disappunto La notizia Trasmessa dal biologo Che un forte vento Di montagna Rendeva impossibile Qualsiasi trasvolata Nel giro Di un'ora e mezza Per fortuna Nuovi motivi Di interesse Controbilanciarono La delusione Lake Aveva ripreso A inviare messaggi E ci informò Che i 14 esemplari Erano stati Trasportati Al campo Con successo Tra inare Le slitte Era stata Una fatica Non indifferente Perché i corpi Erano incredibilmente Pesanti Ma nove uomini Erano riusciti Nell'impresa Quindi Una parte Del gruppo Si era dedicata Alla costruzione Di un recinto Di neve A distanza Di sicurezza Dal campo Era questo Destinato a contenere I cani Che avrebbero potuto Nutrirsi là Gli esemplari Erano stati Adagiati Sulla neve dura Vicino al campo Tranne uno Su cui Lake Aveva avviato Un primo tentativo Di dissezione Il lavoro Si rivelò Più duro Di quanto Si fosse aspettato Nonostante Il calore Prodotto Da una stufa Benzina Nella tenda Appena attrezzata Laboratorio I tessuti Ingannevolmente Flessibili Dell'esemplare Prescelto Una creatura Possente Intatta Non perdevano Niente Della loro Durezza Superiore A quella Del cuoio Lake Si chiese Come effettuare Le necessarie Incisioni Senza ricorrere A metodi Troppo drastici Che avrebbero Potuto distruggere Le rarità Interne Cui era La ricerca Aveva Questo è vero Sette esemplari Ancora più Perfetti Ma erano Sempre troppo pochi Per non adoperare La massima Cautela Le cose Sarebbero Cambiate Solo se La caverna Avesse rivelato Una quantità Illimitata Di creature Lake Abbandonò L'esemplare Su cui stava Lavorando E ne scelse Uno Che pur avendo Entrambe L'estremità I resti Dell'organo A forma Di stella Era quasi Schiacciato E in parte Spaccato Lungo una Delle grandi Scanalature Del torso I risultati Trasmessi Tempestivamente Per radio Furono Stimolanti E sbalorditivi Gli strumenti A nostra disposizione Non riuscivano Incidere i tessuti Anomali Dell'esemplare E non fu Possibile Usare la delicatezza O l'accuratezza Che ci proponevamo Ma il poco Che si riuscì A ottenere Ci lasciò stupiti E in preda Una sorta di timore La biologia Come la conoscevamo Andava rivista Da cima a fondo Perché l'essere Esaminato da Lake Non era il prodotto Di un processo Di crescita cellulare Noto alla scienza Le tracce Di mineralizzazione Erano minime E benché Risalissero Ad almeno 40 milioni Di anni fa Gli organi Interni Erano intatti La caratteristica Durezza Indistruttibilità E indeteriorabilità Sembrava un attributo Fondamentale Della creatura E della sua Organizzazione E la collocava Sullo sfondo Di un remotissimo Ciclo di evoluzione Degli invertebrati Che superava Le nostre capacità D'immaginazione In un primo momento Gli organi Sembravano essiccati Ma quando Il calore Della tenda Cominciò A far sentire Il suo effetto Un liquido organico Dall'odore Pungente E offensivo Fu identificato In prossimità Del fianco sano Non era Questo sangue Ma un fluido Denso Verde scuro Che a quanto pare Ne faceva le funzioni Nel frattempo I 37 cani Del gruppo Erano stati portati Al recinto Ancora incompleto In prossimità Del campo E persino A quella distanza Percepirono L'odore del liquido Che si diffondeva Divennero Perciò inquieti Più che mai E continuarono Ad abbagliare Selvaggiamente Invece di aiutarci A chiarire il mistero La parziale dissezione Della creatura Lo infittì Le ipotesi avanzate All'inizio Sulla funzione Delle appendici esterne Vennero confermate E in base ad esse Divenne semplicemente Impossibile Non considerare La creatura Un animale L'ispezione interna Tuttavia Suggerì Tante analogie Con il mondo vegetale Che Lake Rimase più sbalordito Di prima Apparato digerente E sistema circolatorio Erano presenti E rifiuti organici Venivano espulsi Tramite i tubi rossastri Della base A forma di stella In via ipotetica Si poteva ammettere Che l'apparato respiratorio Fosse fatto Per l'ossigeno Anziché Il biossido di carbonio E c'era la prova Per quanto bizzarra Che determinati organi Servissero A immagazzinare l'aria E la creatura Fosse dotata Di un metodo Per respirare Attraverso L'orifizio esterno E almeno altri due Sistemi respiratori Completi Costituiti dalle branchie E dai pori Evidentemente Poteva passare A piacere Dall'uno All'altro Tutto questo Faceva pensare A un anfibio O comunque A un essere Che trascorreva Lunghi periodi Di inbernazione Senz'aria Organi vocali Erano presenti In corrispondenza Del sistema respiratorio Principale Ma presentavano Anomalie Che non era possibile Risolvere sul momento Non pareva probabile Che la creatura Si esprimesse In un linguaggio Articolato E sillabico Ma non era difficile Immaginare Un sistema Di note musicali Acute Che coprissero Una vasta gamma Di toni Il sistema muscolare Era sviluppato In modo quasi Preternaturale Il sistema nervoso Era così complesso E sofisticato Da lasciare Sbalordito Lake Benché arcaica E primitiva Sotto molti aspetti La creatura Aveva un sistema Centrale Di ganglie E connessioni Che faceva pensare Agli stadi Più avanzati Dello sviluppo Specializzato Il cervello A cinque lobi Era avanzatissimo E c'erano tracce Di un equipaggiamento Sensoriale Servito in parte Dalle ciglia filamentose Della testa Che soddisfaceva Esigenze sconosciute A qualunque Forma di vita Terrestre Probabilmente La creatura Aveva più Di cinque sensi E quindi Le sue abitudini Non potevano Essere previste In base Ad analogie note Lake Immaginò Che nel suo mondo Primordiale Fosse un essere Di straordinaria Sensibilità E dotato Di funzioni Riccamente Differenziate Un po' Come le formiche E le api Dei giorni nostri Si riproduceva Come le crittogame Del mondo vegetale In particolare Le pteridofite In corrispondenza Della punta Delle ali Si notavano Contenitori Di spore Ed evidentemente La creatura Si sviluppava Da un tallo O protallo Ma cercare Di darle Un volto Definito A questo stadio Era follia Faceva pensare A un radiato Ma era qualcosa Di più In parte Vegetale Per tre quarti Possedeva requisiti Essenziali Della struttura Animale L'origine marina Era indicata Con chiarezza Dalla forma Simmetrica E da altre caratteristiche Ma non si potevano Stabilire I limiti Dell'adattamento Successivo Ad altri ambienti Le ali Dopotutto Continuavano Suggerire Uno sviluppo Aereo Il mistero Di un'evoluzione Così complessa Su un pianeta Neonato Evoluzione Completata In tempo Per lasciare Nitide impronte Sulle pietre Dell'Archeano Era così Inconcepibile Da spingere Lake A qualche Fantasticheria Sui miti Immemorabili Dei grandi Antichi Esseri filtrati Dalle stelle Che avrebbero Creato la vita Terrestre Per scherzo O per sbaglio E a ricordare I fantastici Racconti Di esseri Cosmici Provenienti Dall'altrove Ma stabilitisi Sulle montagne Della terra Che aveva sentito Da un collega Del dipartimento D'inglese Della Miskatonich Un appassionato Di folklore Locale Ovviamente Lake Non scartò La possibilità Che le impronte Precambriche Fossero opera Di un antenato Meno evoluto Degli esemplari Attuali Ma cantonò Questa facile Teoria Dopo aver valutato Le avanzate Qualità strutturali Degli antichissimi Fossili Semai Le impronte Più tarde Mostravano Segni di decadenza Invece Che di più alta Evoluzione Le dimensioni Degli pseudopodi Erano diminuite L'intera morfologia Sembrava ridotta E semplificata Inoltre Nervi e organi Appena esaminati Facevano pensare Una forma di regressione Rispetto a forme Più complesse Le parti Atrofizzate E ormai inutili Erano addirittura Prevalenti E nel complesso Niente Potè essere chiarito O risolto In modo definitivo Per dare alle creature Un nome Almeno provvisorio Lake Si affidò di nuovo Alla mitologia Chiamandole Allegramente Gli antichi Verso le due e mezza Del mattino Dopo aver deciso Di concedersi Un periodo di riposo E continuare poi Il lavoro Il biologo Coprì l'organismo Sezionato Con una tela cerata Uscì dalla tenda Laboratorio E osservò Con nuovo interesse Gli esemplari intatti L'immancabile Sole antartico Aveva ammorbidito Un poco I tessuti E le punte Della testa E i tubi Di due o tre creature Sembravano Leggermente Più distesi Ma a parecchi gradi Sotto zero Lake non credeva Che ci fosse Pericolo di decomposizione Tuttavia Avvicinò Gli esemplari intatti E li coprì Con una tenda D'emergenza Per proteggerli Dai raggi diretti Del sole Questo Avrebbe evitato Che eventuali odori Arrivassero ai cani La cui irrequietezza E intrattabilità Erano problema Anche a quella distanza E al riparo Dalle alte barriere Di neve Che un gruppo Di uomini Sempre più nutrito Si affrettava A erigere intorno Ai loro alloggi Lake Dovette puntellare Gli angoli Della tenda Con pesanti blocchi Di neve Perché il vento Aumentava E le gigantesche Montagne Promettevano Bufera Tornarono Allora Le preoccupazioni Sulle tempeste Di vento Improvvise E sotto la guida Di Atwood Vennero prese Le opportune Precauzioni Per rinforzare Le tende Il recinto Dei cani E i rozzi Ripari Per gli aerei Sulla parte Che guardava Le montagne Proprio i rifugi Per gli aerei Costruiti Con blocchi Di neve solida Nei ritagli Di tempo Si rivelarono Troppo bassi Alla lunga Lake distolse Gli uomini Dagli altri compiti E ordinò Che fossero Completati Nel migliore Dei modi Erano Passate Le quattro Quando Lake Si preparò A interrompere Il contatto Consigliandoci Di far coincidere Il nostro periodo Di riposo Con quello Che si sarebbe Concesso Lui E i suoi uomini Non appena Il riparo Per gli aerei Fosse stato Un po' Più alto Chiacchierò Per qualche tempo Con Pavo Di via radio Rinnovando I suoi complimenti Per le ottime Scavatrici Che gli avevano Permesso Di effettuare La sua scoperta Anche Atwood Inviò Saluti E complimenti Mi congratulai Caldamente Con Lake Ammettendo Che aveva avuto Ragione A intraprendere Il viaggio Occidente E ci accordammo Di riaprire Il collegamento Alle 10 Del mattino Se la tempesta Di vento Fosse cessata Lake Avrebbe mandato Un aereo Per raccogliere Me E il mio gruppo Poco prima Di ritirarmi Trasmisi Quindi Un messaggio Finale All'Arkham Con la raccomandazione Di attenuare Le notizie Della giornata Per l'opinione Pubblica I particolari Erano straordinari E se non Corraborati Da altre prove Avrebbero Suscitato Un'ondata Di incredulità 3 Immagino Che quella mattina Nessuno di noi Abbia dormito Pesantemente O continuamente Sia l'eccitazione Per la scoperta Di Lake Che la furia Crescente Del vento Ce lo impedivano Le raffiche Erano così Violente Anche nel punto In cui ci trovavamo Noi Che non potevamo Fare a meno Di chiederci Quale fosse La situazione Al campo di Lake Proprio sotto Le montagne Da cui soffiava La tempesta McTig Si svegliò Alle 10 E cercò Di entrare In contatto Con Lake Come d'accordo Ma occidente L'atmosfera Sembrava perturbata Da fenomeni elettrici E la comunicazione Fu impossibile Tuttavia Riuscimmo A ottenere L'Arcam E Douglas Mi disse Di aver cercato In vano A sua volta Di chiamare Lake Del vento Non sapeva niente Perché nonostante La furia Con cui soffiava Dove noi Ci trovavamo Nello stretto Di McMurdo Non ce n'era quasi Per tutto il giorno Rimanemmo ansiosi All'ascolto Cercando di metterci In comunicazione A intervalli Ma sempre Senza risultati Verso mezzogiorno Un vero e proprio Ciclone Si abbatté Da occidente Facendoci temere Per la salvezza Del campo Finalmente La furia Si calmò Con una ripresa Piuttosto moderata Verso le due Del pomeriggio Dopo le tre Tornò una calma Quasi completa E rinnovammo Gli sforzi Per metterci In contatto Con Lake Riflettendo Sul fatto Che aveva Quattro aerei Ognuno Equipaggiato Con un'ottima radio A onde corte Non riuscivamo A spiegarci Quale incidente Di normale Amministrazione Potesse Averle messe Fuori uso Contemporaneamente Ma il silenzio Impenetrabile Continuò E quando pensammo Alla forza spaventosa Che il vento Doveva aver raggiunto Alla base delle montagne Non potemmo Evitare Le peggiori Congetture Entro le sei I nostri timori Si erano accresciuti E definiti E dopo essermi Consultato via radio Con Douglas E Torfinson Decisi che bisognava Intraprendere le indagini Il quinto aereo Che avevamo lasciato Alla base Di fornimenti Sullo stretto Di McMardo Con Sherman E due marinai Era in ottime condizioni E pronto all'uso A quanto pareva L'emergenza Per cui era stato Predisposto Si era al fine Verificata Chiamai Sherman Via radio E gli ordinai Di raggiungermi Con l'apparecchio E i due marinai Alla base sud Le condizioni Atmosferiche Sembravano Molto favorevoli Quindi Annunciammo Al personale Che stava Per costituirsi Una spedizione Ricognitiva E decidemmo Che vi avrebbero Partecipato Tutti gli uomini Con la slitta E i cani Che avevo tenuto Per me Persino Un carico Così numeroso Non sarebbe Stato eccessivo Per uno Dei grandi aerei Costruiti Su nostra richiesta Per il trasporto Di macchinari Pesanti A intervalli Cercai ancora Di mettermi In contatto Con Lake Ma senza risultato Sherman Partì con i marinai Gunnarsson E Larsen Alle 7.30 E riferì Che il volo Si era svolto Senza incidenti Arrivarono Alla nostra base A mezzanotte E con tutti gli uomini Discutemmo Il da farsi Era rischioso Avventurarsi Sull'Antartide Con un solo aereo E senza una serie Di basi alle spalle Ma nessuno Si tirò indietro Da quella Che sembrava Un'evidente necessità Alle 2 del mattino Dopo il carico Preliminare Dell'aereo Ci ritirammo Per un breve riposo Ma nel giro Di 4 ore Eravamo di nuovo Pronti a finire Il carico E i bagagli Alle 7.15 Del mattino Del 25 gennaio Partimmo In volo Diretti a nord-ovest McTig Pilotava l'aereo E in tutto Avevamo 10 uomini 7 cani Una slitta Provviste di cibo E benzina Più altre attrezzature Fra cui L'apparecchio radio Di bordo Le condizioni Atmosferiche Erano buone La visibilità Ottima E persino La temperatura Si era un po' Mitigata Non prevedevamo Problemi Per raggiungere La latitudine E la longitudine Che Leica Aveva indicato Come sito Del campo Le nostre Preoccupazioni Riguardavano Essenzialmente Ciò che avremmo Trovato Perché i continui Tentativi Di metterci In comunicazione Con l'accampamento Continuavano A ricevere In risposta Il silenzio Ogni avvenimento Di quel volo Di 4 ore e mezza È impresso a fuoco Nei miei ricordi Perché si tratta Di un momento Cruciale Nella mia vita All'età Di 54 anni Stavo per perdere La pace E la serenità Che ogni mente Normale Deriva da una Concezione tradizionale Della natura E delle sue leggi Da quel momento In poi Tutti e dieci Ma in particolare Lo studente Dunford E io Ci saremmo trovati Faccia a faccia Con un mondo Dilatato A dimensioni Spaventose Un regno Di orrori Nascosti Che nulla Può cancellare Dalle nostre emozioni E di cui Se avessimo potuto Ci saremmo guardati bene Dall'informare Il mondo esterno I giornali Hanno pubblicato Tutti i bollettini Che inviammo Dall'aereo Hanno raccontato Il volo Senza soste Le due battaglie Che ingaggiamo Con i venti Improvvisi D'alta quota L'avvistamento Della superficie rugosa In cui Lake Aveva effettuato Qualche scavo Preliminare Tre giorni prima E quello Dei bizzarri Cilindri di neve Notati anche Da Munzen e Bird Che navigavano In cielo Sull'immensa distesa Dell'altipiano gelato A un certo punto Tuttavia Le nostre osservazioni Presero Una piega Tale Che non saremmo Riusciti a tradurle In parole Comprensibili Alla stampa E più tardi Dovemmo imporci La più stretta censura Il marinaio Larsen Fu il primo A individuare La linea irregolare Di coni e pinnacoli Simili a cappelli Di streghe Che si paravano Dinanzi a noi E le sue esclamazioni Ci attirarono Intorno ai finestrini Della grande cabina Nonostante La nostra velocità Si avvicinavano Lentamente Questo ci disse Che dovevano essere Lontanissimi Visibili Di solo Per la loro Altezza eccezionale Poco a poco Tuttavia Le montagne Si imposero Coupe Nel cielo occidentale Permettendoci Di distinguere Le cime nude Scarne e nerastre E di provare Quel curioso senso Di realtà Che ispiravano Nella luce rossastra Dell'Antartico Sullo sfondo Provocante Delle nuvole Di ghiaccio polverizzato E multicolore Nell'insieme Lo spettacolo Conteneva L'insistente Pervasiva Allusione A qualche Meraviglioso Segreto O potenziale Rivelazione Come se Le vette nude Paurose Fossero le colonne Di una porta Ghiacciante Che immetteva Nelle occulte Sfere del sogno E negli abissi Del tempo Più remoto Dello spazio E delle altre dimensioni Non potei fare a meno Di pensare Che fossero Malvage Montagne Della follia Il cui opposto Versante Si affacciasse Su un maledetto Definitivo abisso Lo sfondo Palpitante Semiluminoso Conteneva Ineffabili Suggestioni Di un vago Ed etereo Altrove Molto più vicino Allo spazio Che alla terra E ci ricordava In modo inquietante L'assoluta Lontananza Desolazione E morte Di quel mondo Australe Mai visitato Prima Dall'uomo Incommensurabile Fu il giovane Dunford Ad attirare La nostra attenzione Sugli oggetti Sorprendentemente Regolari Che caratterizzavano Il profilo Delle montagne Frammenti Di cubi Perfetti Come quelli Menzionati Da Lake Nei suoi dispacci Che giustificavano Il paragone Con le rovine Degli antichissimi Templi dipinti Da Roerich Con sottile magia Sulle vette Di misteriose Montagne Dell'Asia Sul continente Ultraterreno Alleggiava Un incantesimo Alla Roerich Ne avevo avuto Una bisaglia In ottobre Quando avevo visto Per la prima volta La terra di Victoria E adesso Ne avevo la conferma Poi Fui assalito Da un'altra Sgradevole associazione Con i miti Più antichi Quel regno Della morte Somigliava In modo inquietante All'infame Altipiano Di Leng Citato Negli scritti Delle origini Alcuni studiosi Di mitologia Collocano L'altipiano Di Leng Nell'Asia Centrale Ma la memoria Raziale Dell'uomo O dei suoi Predecessori È lunga E può darsi Che certi racconti Abbiano avuto Origine in terre Montagne Santuari Dell'orrore Più antichi Dell'Asia O di qualunque Ambiente umano Sconosciuto Alcuni studiosi Dell'occulto Avanzano L'ipotesi Che l'origine Dei frammentari Manoscritti Pnacnotici Risalga Prima Del Pleistocene E che gli adoratori Di Zatogua Non fossero umani Come del resto Zatogua stesso Qualunque Fosse il segmento Di spazio Di tempo Occupato da Leng Era una regione Alla quale Non intendevo Avvicinarmi E che non avrei Voluto visitare Per la stessa ragione Non mi piaceva Trovarmi nel mondo Che aveva generato Mostri ambigui E primitivi Come quelli Descritti da Lake In un simile momento Mi pentì Di aver letto L'aborrito Necronomicon E di aver parlato A lungo Con Wilmoth L'esperto di folklore Così sgradevolmente Erudito Della nostra università Questo stato d'animo Indubbiamente Aggravò La mia reazione Al bizzarro miraggio Che ci apparve Nel cielo palescente Mentre ci avvicinavamo Alle montagne E cominciavamo A distinguere Le ondulazioni Delle cime più basse Nelle settimane precedenti Avevo assistito A decine Di miraggi polari Alcuni altrettanto Vividi e fantastici Di quello attuale Ma in esso C'era un'oscura minaccia Un simbolismo Che mi diede I brividi E intanto Dagli inquietanti Vieti vapori di ghiaccio Sulle nostre teste Prendeva vita Un labirinto Pullulante Di mura favolose Torri E minareti L'effetto Era quello Di una città colossale La cui architettura Sembrava del tutto Sconosciuta all'uomo E alla sua immaginazione Giganteschi aggregati Di mattoni neri Come la notte Sviluppavano Mostruose perversioni Delle leggi geometriche Modellandosi Nei più grotteschi Estremi Del macabro E del bizzarro Coni Tronchi A volte Intagliati A terrazze E a volte Scanalati Erano sormontati Da alte strutture Cilindriche Che presentavano Qua e là Svasature Di forma Quasi sferica E culminavano In strati Di sottili Dischi Dentellati Strane Costruzioni Sporgenti E simili A tavole Suggerivano Cumuli Di piani Rettangolari Di piatti Circolari O stelle A cinque punte Che combaciavano Perfettamente C'erano Coni E piramidi Compositi A volte Isolati E a volte Posti in cima A cubi Cilindri Coni E piramidi Tronchi Più piatti Ogni tanto Si vedevano Guglia Aghiformi Sempre In gruppi Di cinque Queste strutture Pazzesche Erano collegate Da ponti Tubolari Che andavano Dall'una All'altra Ad altezze Vertiginose E la scala Dell'insieme Era così Gigantesca Da risultare Oppressiva E terrificante Il miraggio Non era diverso Dalle visioni Più fantastiche Osservate Disegnate Dal baleniere Artico Scoresby Nel 1820 Ma a quell'ora E in quel luogo Con le vette oscure Delle montagne Sconosciute Che incombevano Nel cielo Con la scoperta Di un mondo Inaudito Che occupava La nostra mente E il timore Che la maggior parte Della spedizione Fosse andata Incontro al disastro Tutto Contribuì A fare in modo Che l'apparizione Ci sembrasse Impregnata Di malvagità Un autentico Portento Del male Quando il miraggio Cominciò A dissolversi Fui contento Anche se Durante questa fase Torri e coni D'incubo Assunsero Forme distorte E ancora Più orribili Mentre L'illusione Scompariva In un turbine Opalescente Noi cominciammo Di nuovo A guardare La terra E ci rendemmo Conto Che non mancava Molto Alla fine Del viaggio Le montagne Sconosciute Svettavano Nel cielo Ad altezze Vertiginose Come bastioni Retti Da giganti E i bizzarri Cubi Che le coronavano Erano visibili Con eccezionale Nitidezza Anche senza Il binocolo Ci trovavamo Sulle colline Ai piedi Della catena Principale E attraverso La neve Il ghiaccio E le chiazze nude Dell'altipiano Cominciammo A notare I puntini neri Che segnalavano L'accampamento Di lake E gli scavi Da lui Effettuati Altre colline Più alte Si innalzavano A una distanza Di quasi Nove chilometri Dalle prime E formavano Quasi una catena A parte Rispetto Alla colossale Barriera Alle loro Spalle Alla fine Ropes Lo studente Che aveva sostituito McTig Ai comandi Cominciò Ad abbassarsi Verso la macchia Scura Alla nostra Sinistra Che per grandezza Doveva essere Il campo Nel frattempo McTig Inviò L'ultimo Messaggio Telegrafico Non censurato Che il mondo Avrebbe ricevuto Dalla nostra Spedizione Tutti Ovviamente Hanno letto I brevi E insoddisfacenti Bollettini Emessi Nell'ultima Parte Del nostro Soggiorno Antartico Qualche ora Dopo L'atterraggio Inviamo Un rapporto Parziale Sulla Tragedia Di cui Eravamo Testimoni E annunciammo Malincuore Che Lake E tutti Gli uomini Che si trovavano Con lui Erano stati Uccisi Dalla spaventosa Tempesta Di vento Del giorno O della notte Prima I morti Accertati Erano undici Perché Mancava Il giovane Gedney E il mondo Accettò Quello striminzito Rapporto Attribuendolo Allo shock Della tragedia Inoltre Quando affermammo Che la bufera Aveva dilaniato I cadaveri Rendendone impossibile Il trasporto Nessuno Dubitò Delle nostre parole In realtà Pur in preda Al dolore Alla sorpresa E all'orrore Che ci tormentava L'anima Non ci allontanammo Molto dalla verità E di questo Vado ancora Molto orgoglioso L'aspetto Terribile Della faccenda Sta in quello Che non rivelammo Affatto E che nemmeno Ora rivelerei Se non fosse Per mettere in guardia Altri uomini Da terrori Senza nome E' vero Che il vento Aveva messo a soccuadro L'accampamento E' improbabile Che gli uomini Sarebbero sopravvissuti Alla tempesta Anche senza L'altra cosa La bufera Accompagnata Dal volo impazzito Di migliaia Di schegge Di ghiaccio Doveva aver raggiunto Una violenza Senza precedenti Il rifugio Di uno Degli aerei Era quasi polverizzato Ma anche gli altri Si trovavano In condizioni Precarie Inadeguate La torre Di trivellazione Che sorgeva Sullo scavo A una certa distanza Dall'accampamento Era a pezzi Le parti metalliche Desposte Di aerei E scavatrici Sembravano tirate A lucido E due delle tende Più piccole Si erano piegate Nonostante Rinforzi di neve Le superfici Di legno Esposte alla bufera Erano scrostate E prive di vernice E qualsiasi impronta Nella neve Era scomparsa Inoltre Nessuno Degli esemplari Biologici Scoperti da Lake Era integro Raccogliemmo Una serie di minerali Da un gran mucchio Dove si trovavano Alla rinfusa E fra questi I frammenti Di steatite A forma di stella Con i misteriosi Puntini Raggruppati Secondo modelli Regolari Che avevano causato Tante ipotesi Arbitrarie Quindi Mettemmo da parte Alcune ossa fossili Fra cui Le più tipiche Degli esemplari Danneggiati Nessuno dei cani Era sopravvissuto E il recinto Costruito Nella neve Vicino al campo Era quasi Completamente distrutto Doveva essere Opera del vento Anche se I danni maggiori Si osservavano Sul lato Prospicente L'accampamento Che non era Quello da cui Aveva soffiato La bufera Questo particolare Fa pensare Che gli animali Avessero tentato Di fuggire Terrorizzati In quella direzione Le tre slitte Erano scomparse E abbiamo tentato Di spiegare Che forse Il vento Le ha fatte volare Chissà dove La scavatrice E l'apparecchio Per la fusione Del ghiaccio Erano Irrimediabilmente Danneggiati E non valeva la pena Portarli con noi Quindi Li usammo Per bloccare L'inquietante Soglia Che Lake Aveva aperto Sul passato Lasciammo All'accampamento I due aerei Più mal ridotti Anche perché Ormai Potevamo contare Solo su quattro piloti Sherman Danford Metig E Robs Danford Per giunta Era in pessime Condizioni nervose E per il momento Non poteva volare Portammo con noi Tutti i libri Le attrezzature Scientifiche E altri oggetti Che riuscimmo A salvare Ma la maggior parte Dei beni Erano scomparsi Senza lasciare Traccia Tende E pellicce In soprannumero Mancavano O erano In cattive Condizioni Verso le quattro Del pomeriggio Dopo che un ampio Volo di ricognizione Ci costrinse A dare Gedney Per perduto Inviamo All'Arkham Il nostro messaggio Censurato In modo Che lo diffondesse Nel mondo Penso Che adottare Un tono calmo E neutro Fosse una saggia Decisione Almeno per quanto Le circostanze Permettevano E l'unico Accenno Di inquietitudine Che lasciamo Trapelare Riguardava I nostri cani Il cui nervosismo In prossimità Degli esemplari Biologici Era già stato Segnalato Da Lake Non mi pare Che parlassimo Dell'irrequietezza Da cui gli animali Furono presi Quando annusarono Le strane Formazioni Di steatite verde O altri oggetti Dell'accampamento Distrutto Apparecchi scientifici Aerei Macchinari Che si trovavano Al campo O presso gli scavi E le cui parti Erano state rimosse Smontate E danneggiate Da venti Che parevano animati Da una singolare Curiosità E intelligenza Sui 14 esemplari Biologici Mantenemmo Penso comprensibilmente Un maggiore riservo Riferimmo Che ne avevamo trovato Solo una parte E in condizioni Gravemente danneggiate Ma aggiungemmo Che le parti rimaste Conferivano Le accurate Descrizioni Di Lake Fu veramente Arduo Tenere fuori Le nostre emozioni Dai rapporti ufficiali Non accennare Al numero esatto Degli esemplari E né al modo In cui li avevamo trovati Ci eravamo tacitamente Accordati Di non trasmettere Nessuna notizia Che potesse far pensare Un'eventuale follia Di Lake O dei suoi uomini E il fatto Che sei Di quelle Imperfette Mostruosità Fossero sepolte In posizione E retta Dentro fosse Profonde Circa tre metri Sovrastate da tumuli A cinque punte Attraversati Da piccoli buchi Che riproducevano La disposizione Dei puntini Trovati sulla steatite Del mesozoico Del terziario Era semplice follia Quanto agli otto Esemplari integri Di cui Lake Ci aveva parlato Sembravano Essersi dissolti Nel nulla La pace mentale Dell'opinione pubblica Ci stava Particolarmente A cuore Per cui Né Dunford Né io Accennammo Allo spaventoso Volo sulle montagne Del giorno seguente A limitare Misericordiosamente Il numero Dell'equipaggio Composto soltanto Da noi due Fu il fatto Che solo Un apparecchio Alleggerito Al massimo Poteva levarsi A quell'altezza Straordinaria Al nostro ritorno Verso l'una Del pomeriggio Dunford Era prossimo A una crisi isterica Ma riuscì A controllarsi Non fu necessaria La persuasione Per convincerlo A promettermi Di non mostrare I disegni Che avevamo Effettuato dall'alto E gli oggetti Che avevamo In tasca E di non rivelare I compagni Più di quanto Avessimo già Deciso di far Trapelare Al mondo esterno Inoltre Decidemmo Di nascondere Le pellicole Fotografiche E svilupparle Soltanto in seguito Una parte Del mio racconto Dunque Giungerà nuovo Alle orecchie Di Pavody McTig Ropes Sherman E gli altri Della spedizione Non meno Che a quelle Del mondo Devo inoltre Confessare Che Dunford È anche Più coraggioso Perché Vide O credette Di vedere Qualcosa Che non è disposto Rivelare Neppure a me Come tutti Sanno Il nostro Rapporto Comincia Con una Descrizione Della Formidabile Ascesa E la Conferma Della Teoria Di Lake Secondo Cui Le immense Montagne Risalgono All'Archeano E sono Composte Di Ardesia E altri Antichissimi Strati Rimasti Immutati Almeno Fino Al Medio Comanciano Prosegue Con una Serie Di osservazioni Piuttosto Convenzionali Sulla Regolarità Dei Cubi Laterali E Delle Formazioni Tipo Bastione Che Coronano Le Vette Conclude Che Le Bocche Di Caverna Indicano Vene Calcare E Dissolte E Avanza L'ipotesi Che Alcune Pareti O Passi Della Catena Possano Essere Scalati E Valicati Da Esperti Alpinisti Il Rapporto Si Chiude Con L'osservazione Che Il Versante Opposto Delle Montagne Fin Qui Misterioso Si Apre Su Un Immenso Super Altipiano Vecchio E Immutabile Come Le Montagne Stesse Situato A Una Quota Di Circa 7000 Metri E Caratterizzato Da Grottesche Formazioni Rocciose Che Sporgono Da Un Sottile Strato Di Ghiaccio Non Che Da Una Serie Di Elevazioni Più Modeste Che Si Trovano Fra La Superficie Dell' Altipiano E I Precipizi Delle Vette Maggiori In sé Queste Informazioni Non Contengono Nessun Dato Erroneo E Soddisfecero I Nostri Compagni All'accampamento Attribuimmo La Nostra Assenza Di 16 Ore Un Periodo Più Lungo Di Quello Richiesto Dal Programma Di Volo Atterraggio Esplorazione E Raccolta Di Esemplari Geologici Alle Incredibili Avversità Del Versante Opposto Per Fortuna Il Racconto Suonò Abbastanza Realistico E Prosaico Da Non Indurre Nessuno Degli Altri A Imitare La Nostra Impresa Ma Se Avesse Rosato Avrei Adoperato Tutta La Mia Forza Di Convinzione Per Dissuaderli Durante La Nostra Assenza Pavody Sherman Ropes Met Teague Williamson Avevano Lavorato Come Muri Sui Due Aerei Di Lake Rimasti In Condizioni Migliori Ed Erano Riusciti A Rimetterli In Sesto Nonostante Il Disordine Assolutamente Incomprensibile In cui Avevano Trovato Le Parti Meccaniche Decidemmo Di Caricare I Quattro Aerei Il Mattino Seguente E Tornare Alla Vecchia Base Appena Possibile Anche Se Indiretta Era La Via Più Sicura Per Arrivare Allo Stretto Di McMardo Perché Un Volo Senza Scalo Attraverso Le Distese Sconosciute Di Quel Continente Morto Da Millenni Avrebbe Presentato Non Pochi Pericoli Non Era Concepibile Effettuare Altre Esplorazioni Dopo La Decimazione Dei Nostri Uomini E La Distruzione Delle Scavatrici Inoltre I Dubbi E Gli Orrori Da Cui Ci Sentivamo Avviluppati E Che Non Avevamo Rivelato Al Resto Del Mondo Ci Facevano Desiderare Di Fuggire Al Più Presto Da Quel Regno Australe Di Desolazione E Cupa Follia Come Il Pubblico Sa Il Nostro Ritorno Avvenne Senza Ulteriori Drammi Gli Aerei Raggiunsero La Vecchia Base La Sera Del Giorno Seguente Il 27 Gennaio Dopo Un Volo Veloce E Senza Soste Il 28 Raggiungemmo Lo Stretto Di McMardo In Due Tappe Costretti A Una Breve Sosta Da Un Avaria Al Timone Di Un Aereo Dovuto Al Vento Furioso Che Si Scatenò Sulla Distesa Di Ghiaccio Dopo Che Avevamo Abbandonato Il Grande Altipiano Nel Giro Di Altre Cinque Giorni L'Arcam E La Miskatonic Con Tutti Gli Uomini E Le Con I Monti Beffardi Della Terra Di Vittoria Che Svettavano Ovest Contro Un Fosco Cielo Antartico E Il Gemito Del Vento Che Ricordava Un Suono Di Flauti Dalle Mille Sfumature Una Cosa Assolutamente Aghiacciante Meno Di Due Settimane Dopo Ci Lasciamo Alle Spalle L'ultimo Lembo Di Terra Polare E Ringraziamo Il Cielo Di Esserci Salvati Da Quel Mondo Inquietante E Maledetto Dove Vita E Morte Spazio E Tempo Hanno Stretto Un'oscura E Blasfema Alleanza Fin Dall'epoca Ignota In Cui La Materia Ha Cominciato A Striciare E A Nuotare Sulla Superficie Appena Raffreddata Del Pianeta Dopo Il Nostro Ritorno Abbiamo Fatto Di Tutto Per Scoraggiare L'esplorazione Antartica E Abbiamo Tenuto Per Noi I Dubbi E Le Ipotesi Peggiori Con Grande Senso Di Unità E Fedeltà Alle Promesse Che C'eravamo Fatti Persino Il Giovane Dunford Che Ha Avuto Un Esaurimento Nervoso Non Si È Lasciato Sfuggire Con I Medici La Minima Allusione O Confidenza E Come Ho Detto C'è Qualcosa Che Pensa Di Aver Visto Soltanto Lui E Che Non È Disposto Rivelarmi Nonostante La Liberazione Che Proverebbe A Parlarne Quel Particolare Potrebbe Spiegare Molte Cose E Renderle Più Comprensibili Anche Se Forse È Stata Soltanto Un'illusione Provocata Dallo Shock Precedente Questa È L'opinione Che Mi Son Fatta Nei Rari Momenti In cui Dunford Si È Lasciato Sfuggire In Mia Presenza Pudia Quando Riacquista Il Controllo Di Sè Sarà Dura Convincere L'umanità A Lasciar Perdere Le Vaste Bianche Distese Del Sud Anzi Una Parte Dei Nostri Sforzi Potrebbe Ottenere L'effetto Contrario Attirando L'attenzione Dei Curiosi Avremmo Dovuto Sapere Fin Dall'inizio Che La Curiosità Dell'uomo È Imbattibile E Che I Risultati Della Nostra Spedizione Avrebbero Convinto Altri A Gettarsi Nell'eterna Ricerca Dell'ignoto Le Mostruosità Biologiche Di cui Ha Parlato Lake Hanno Acceso L'interesse Di Naturalisti E Paleontologi Portandolo All'estremo Per Fortuna Non Abbiamo Mostrato Le Parti Staccate Dagli Esemplari Sepolti E Le Fotografie Scattate Al Momento Del Ritrovamento E Ci Siamo Astenuti Dal Far Vedere Le Misteriose Ossa Intaccate O Le Steatiti Verdastre Quanto Ad Hanfort E A Me Conserviamo Gelosamente Le Foto E I Disegni Che Abbiamo Fatto Sull'immenso Altipiano Oltre Le Montagne Ma Anche Gli Oggetti Che Abbiamo Ripulito Studiato Con Terrore E Portato In Tasca Al Momento Di Tornare Indietro Ma Ora Si Organizza La Spedizione Stark Weather Moor Con Obiettivi Molto Più Ambiziosi Di Quelli Che C'Eravamo Posti Noi Se Non Verranno Dissuasi In Tempo Raggiungeranno Il Cuore Dell'Antartide Fonderanno Il Ghiaccio Scaveranno E Finalmente Troveranno Ciò Che Potrà Rappresentare La Fine Del Mondo Che Noi Conosciamo E Per Questo Che Devo Superare Ogni Reticenza Compreso Il Montagne Della Follia Quattro E con la più grande ripugnanza ed esitazione che torno con la mente all'accampamento di Lake e a ciò che vi trovammo in realtà Senza contare l'altra cosa oltre la spaventosa barriera delle montagne Sono continuamente tentato di evitare i particolari, di sostituire i fatti veri e propri e le inevitabili conclusioni con opportune allusioni Spero di aver già detto abbastanza per potermi permettere di affrontare il resto rapidamente Voglio dire Il resto dell'orrore all'accampamento Ho parlato della terra sconvolta dal vento, dei rifugi danneggiati, delle macchine inspiegabilmente manomesse, dell'inquietudine dei cani, delle slitte e altri oggetti scomparsi Della morte di uomini e cani, dell'assenza di gadney e di sei esemplari biologici provenienti da un mondo morto da almeno 40 milioni di anni Follemente sepolti e ancora saldi nella struttura corporea nonostante i danni subiti Non ricordo se l'ho detto, ma esaminando i cadaveri dei cani scoprimmo che uno era scomparso Non ci pensammo più per molto tempo e in seguito solo Danforth e io ce ne siamo preoccupati Le principali omissioni del mio rapporto ufficiale riguardano lo stato dei cadaveri e alcuni particolari sfuggenti che potrebbero spiegare, sia pure in modo orribile, l'apparente caos che regnava all'accampamento Allora feci di tutto per distogliere la mente degli uomini da quei particolari perché era molto più semplice, molto più normale attribuire tutto a uno scoppio di follia tra gli uomini di Lake Da come sembrava che fossero andate le cose, era probabile che in quell'epicentro di tutti i misteri e miserie della terra il vento terribile delle montagne avesse fatto impazzire uno dei membri del gruppo La principale anomalia era costituita dalle condizioni dei cadaveri di uomini e cani Sembrava che avessero partecipato a una tremenda battaglia ed erano dilaniati ma ciullati in modo orrendo e inesplicabile In tutti i casi, secondo quello che potemmo accertare, la morte era sopravvenuta per strangolamento o una qualche lacerazione I cani erano stati primi a dare segno di inquietitudine perché le condizioni del recinto disfatto testimoniavano che era stato abbattuto dall'interno Il recinto sorgeva a qualche distanza dall'accampamento perché gli animali mostravano una forte avversione per le antichissime mostruose creature Ma a quanto pare, la precauzione era stata presa in vano Lasciati soli nel vento terrificante dietro l'insufficiente riparo del recinto I cani erano diventati furiosi o per effetto della tempesta o per il sottile, crescente odore emesso dagli orrendi reperti Impossibile stabilirlo con certezza Naturalmente, gli esemplari erano coperti da un telo Ma il sole basso dell'Antartico vi batteva costantemente contro E Lake aveva detto che il calore solare tendeva a rilassare ed espandere i tessuti robusti e ben conservati delle creature Forse il vento aveva strappato il telo Esponendole in modo tale che l'odore pungente da cui erano caratterizzate si spandesse nell'aria Nonostante la loro incredibile antichità Ma qualunque cosa fosse accaduta era orribile e ripugnante Sarà meglio che metta da parte le mie debolezze e riveli finalmente il peggio Prometto soltanto che in base alle nostre osservazioni e alle rigorose deduzioni di Danforth e mie Lo scomparso Gedney, perché tale, lo ritenevamo, non poteva in nessun modo essere incolpato degli orrori che scoprimmo Ho detto che i cadaveri erano orribilmente storpiati Ma ora devo aggiungere che erano sezionati e mutilati nel modo più bizzarro Imparziale e inumano Non c'era differenza di trattamento fra uomini e cani I corpi più robusti, bipedi e quadrupedi che fossero, erano stati privati di cospicue masse di tessuti Come se uno scrupoloso macellaio le avesse tagliate e portate via E intorno erano sparse manciate di sale, prese dalle provviste sugli aerei, che suggerivano le idee più orrende Tutto questo si era verificato in uno dei rozzi rifugi per aerei L'apparecchio era stato trascinato fuori e i venti avevano cancellato qualsiasi traccia che potesse fornire una plausibile spiegazione Pezzi di vestiti lacerati, strappati alla meglio dai cadaveri, non offrivano ulteriori indizi Ed è inutile tirare in ballo le vaghe impronte che si intravedevano presso un angolo del rifugio in rovina nella neve Perché non si trattava affatto di impronte umane Ma forse erano il frutto della suggestione e dei lunghi discorsi sulle impronte fossili che Lake ci aveva tenuto nelle settimane precedenti Bisognava stare attenti a non lasciar correre l'immaginazione all'ombra delle tenebrose montagne della follia Come ho detto, alla fine scoprimmo che Gedney e uno dei cani erano scomparsi Ma nel momento in cui arrivammo al terribile rifugio, mancavano all'appello due cani e due uomini La tenda laboratorio in cui entrammo dopo aver esplorato le mostruose tombe e che si presentava quasi intatta Ci rivelò tuttavia delle sorprese Non era nelle condizioni in cui Lake l'aveva lasciata Perché il mostro primigenio e semisbembrato era stato rimosso dal tavolo di dissezione Nel frattempo ci eravamo resi conto che una delle sei creature imperfette e seppellite in modo allucinante Rappresentava un insieme delle varie parti che Lake aveva cercato di analizzare Era la stessa che emanava lo spiacevolissimo odore Intorno al tavolo del laboratorio erano disseminati altri resti E non ci volle molto per capire che si trattava delle parti anatomiche Sezionate scrupolosamente ma in modo bizzarro e con mano inesperta di un uomo e un cane Per rispetto verso la famiglia non rivelerò l'identità dell'uomo Gli strumenti anatomici di Lake mancavano Ma c'erano le prove che qualcuno li aveva fatti sparire La stufa benzina era scomparsa Anche se intorno al punto che aveva occupato trovammo resti di fiammifari Seppellimmo i resti umani accanto a quelli degli altri dieci uomini E quelli del cane con i suoi 35 compagni Le curiose macchie sul tavolo del laboratorio E il mucchio di libri illustrati che trovammo nei pressi E che qualcuno aveva maneggiato con estrema incuranza Ci lasciarono quanto mai perplessi E questo è il peggio dell'orrore che trovammo all'accampamento Ma altri particolari non erano meno sconcertanti La totale scomparsa di Gedney e di un cane Degli otto esemplari biologici intatti Tre slitte Alcune apparecchiature Libri illustrati di argomento tecnico e scientifico Materiale per scrivere Torce elettriche e batterie Cibo Carburante Apparecchi per riscaldamento Alcune tende Pellicce e così via Andava al di là di qualsiasi congettura ragionevole Lo stesso vale per le macchie di inchiostro Che trovammo su alcuni fogli di carta E le tracce di misteriose manomissioni intorno agli aerei O altre apparecchiature al campo e nei pressi degli scavi Come se qualcuno avesse cercato di usarle I cani Nutrivono un'avversione assoluta per le apparecchiature manomesse La dispensa era a soccuadro E certi generi erano spariti I barattoli di cibo in scatola Erano ammonticchiati in modo quasi comico E aperti nei posti più impensati In maniera assurda La profusione di fiammiferi sparsi dappertutto Intatti, consumati o semplicemente spezzati Costituiva un altro piccolo enigma Come un paio di tende di pellicce Che trovammo nei paraggi Lacerate in modo assurdo Per adattarsi a un uso inconcepibile Il maltrattamento dei corpi umani e animali E la pazzesca sepoltura degli antichissimi esemplari Completavano il quadro di assoluta follia In vista di un'eventualità come quella attuale Fotografammo le principali testimonianze della distruzione del campo Useremo proprio quelle foto Per corroborare la nostra richiesta Che la spedizione Starkweather Moor Non parta affatto Dopo aver trovato i cadaveri nel rifugio Il nostro primo gesto fu di aprire e fotografare La pazzesca fila di tombe Sormontate dai tumuli a cinque punte Ovviamente notammo la somiglianza fra i tumuli Dai fori misteriosi e le esteatiti descritte dal povero Lake E quando ci imbattemmo nel mucchio di minerali E potemmo fare il confronto da soli Osservammo che la somiglianza era estremamente accentuata La formazione ricordava in modo orribile La testa stella delle antichissime creature E ci trovammo d'accordo nell'ipotizzare Che questo fatto doveva aver scosso non poco I nervi degli uomini di Lake Già stanchi e provati La scoperta delle creature sepolte Fu una cosa orribile E Pavodi ed io Riandammo con l'immaginazione Ai terribili miti primitivi Di cui avevo letto o sentito parlare La vista delle creature E la loro vicinanza Unita all'opprimente solitudine E al terribile vento che soffiava dalle montagne Dovevano essersi uniti Nello spingere il gruppo verso la follia Perché la follia Di cui Gedney sembrava l'unico possibile agente superstite Fu la spiegazione immediata adottata da tutti Almeno a livello verbale Ma non sarò così ingenuo da negare Che ognuno di noi Avesse le teorie più stravaganti E che solo il rispetto della ragione Ci impedisse di formularle completamente Nel pomeriggio Sherman, Pavodi e McTig Fecero un volo di ricognizione Nella zona adiacente Perlustrando l'orizzonte col binocolo In cerca di Gedney E degli oggetti scomparsi Ma non trovarono nulla Il gruppo riferì Che la titanica catena di montagne Si estendeva a destra e a sinistra A perdita d'occhio Senza diminuire in altezza O modificarsi nella struttura generale Su alcune montagne, tuttavia Le formazioni cubiche a bastioni Si distinguevano meglio E sembravano intatte Indubbiamente Somigliavano alle rovine dipinte da Roerich Sulle cime dell'Asia Per quanto si poteva osservare La distribuzione delle misteriose caverne Vicino alle vette scure Senza neve Era regolare Nonostante gli orrori Che avevamo trovato al campo C'era rimasto sufficiente zelo scientifico E senso dell'avventura Per domandarci Quale regno sconosciuto Si trovasse sull'altro versante delle montagne Come riferito dai nostri prudenti bollettini A mezzanotte Andammo a riposare Dopo una giornata di terrori Ed enigmi senza risposta Tuttavia Avevamo abbozzato un piano Per uno o più voli Ad alta quota In un aereo alleggerito al massimo E munito di macchine fotografiche Più le attrezzature geologiche La partenza Sarebbe avvenuta Il mattino successivo Fu deciso Che Danfort e io Avremmo costituito Il primo gruppo d'esplorazione E alle sette Ci svegliammo Per cominciare il viaggio di buon'ora Tuttavia I forti venti Che soffiavano sulla regione E di cui parlammo Nei messaggi inviati Al mondo esterno Ritardarono la nostra partenza Fino alle nove Ho già accennato Al fatto Che sedici ore dopo Danfort e io Facemmo agli uomini Dell'accampamento Un racconto Espurgato Poi trasmesso All'esterno Via radio Ora Ho il terribile Compito di espanderlo Riempiendo i vuoti Pietosi di allora Con alcuni accenni A ciò che effettivamente Vedemmo nel mondo Nascosto Al di là Delle montagne E alle scoperte Che hanno portato Danfort Al collasso nervoso Vorrei che il mio compagno Ci parlasse francamente Della cosa Che ritiene Di aver visto da solo Anche se probabilmente Fu un inganno Dei nervi scossi E che lo ha condotto Al punto In cui si trova ora Purtroppo È fermamente Intenzionato A non farlo E io dovrò limitarmi A riferire Le frasi sconnesse Che mi sbigliò In seguito Ricordando ciò Che lo aveva spinto Ad urlare Con tutte le sue forze Mentre l'aereo Virava sul passo Di montagna Dopo il concreto E tangibile Spavento Che avevo condiviso Con lui Saranno queste Le mie ultime parole E se le prove Della sopravvivenza Di orrori primigeni Non bastassero A trattenere altri Da turbare Il silenzio Dell'Antartide O almeno Dal sondare Troppo profondamente Ciò che si nasconde Sotto la superficie Di quell'estremo deserto Di segreti proibiti E inumani Quella terra Di maledette solitudini La responsabilità Delle catastrofi Che seguiranno Inconcepibili E incommensurabili Non sarà mia Danfort ed io Studiamo gli appunti Presi da Pavodi Nel volo del pomeriggio E facemmo alcuni calcoli Con il sestante In questo modo Scoprimmo Che il passo Più abbordabile Si trovava Alla nostra destra Era visibile Dal campo Ed era situato Oltre 7000 metri Sul livello del mare Fu la prima meta Del nostro viaggio Di scoperta E in quella direzione Puntammo L'aereo alleggerito Il campo Situato in mezzo A una serie Di elevazioni Più modeste Che svettavano Da un alto Tavoliere continentale Si trovava Oltre 3500 metri L'ascesa dunque Non sarebbe stata Troppo drastica Nonostante questo Ci rendemmo conto Che l'aria Si rarefaceva E il freddo Diventava intensissimo Perché per ragioni Di visibilità Dovevamo lasciare Aperti i finestrini Indossavamo Ovviamente Le nostre pellicce Più pesanti Man mano Che ci avvicinavamo Alle vette gigantesche Nere E sinistre Sulla linea di neve Screpolata E i ghiacciai Che colmavano Gli interstizi Notammo Un numero Sempre più grande Di strane Formazioni regolari Aggrappate ai pendii Pensammo Ancora una volta Agli straordinari Paesaggi asiatici Di Nicholas Roerich Gli antichi strati Rocciosi Smussati dai venti Rispondevano in pieno Alle informazioni Che ci aveva inviato Lake E dimostravano Che quelle altissime Montagne Si erano innalzate In un'epoca remotissima Della storia terrestre Forse più di 50 milioni Di anni prima Inutile domandarsi Se fossero state Ancora più alte Ma in quella regione Straordinaria C'era qualcosa Che faceva pensare A oscure Influenze atmosferiche Sfavorevoli Ai cambiamenti E fatte apposta Per ritardare I normali processi Climatici Di disgregazione Dei minerali Ma ciò che ci affascinava Di più Era il groviglio Di cubi geometrici Bastioni E imboccature Di caverne Che si aprivano Sui fianchi Delle montagne Li osservai Con un binocolo E scattai Una serie Di fotografie aeree Mentre Danforth Pilotava Ogni tanto Gli davo il cambio Ma le mie Cognizioni Di navigazione Erano quelle Di un dilettante In ogni caso Danforth Ne approfittava Per usare Il binocolo Ci rendemmo conto Che i misteriosi Bastioni Erano costituiti Per la maggior parte Da una leggera E antichissima Quarzite Diversa Da qualunque Formazione visibile Sulla superficie Generale Della montagna E che la loro Forma Era assolutamente Geometrica Il povero Lake Non ci aveva Preparati a nulla Di tanto Straordinario Proprio Come avevo detto Gli angoli Erano smussati O sbriciolati Da innumerevoli Secoli Di erosione Atmosferica Ma la loro Eccezionale Solidità E la durezza Del materiale Li avevano Salvati Dall'estinzione Alcune parti Specialmente Quelle più vicine Alla montagna Sembravano identiche Alla superficie Di roccia circostante E l'insieme Ricordava le rovine Del maciupicio Nelle ande O le antiche fondamente Di quiche Portate alla luce Nel 1929 Dalla spedizione Oxford Film Museum Sia Dunford Sia Dunford che io Avemmo l'impressione Che le pareti Fossero costituite Da blocchi ciclopici Separati Proprio Come era parso Al compagno di volo Di Lake Carroll La presenza Di oggetti simili In un ambiente Come quello Andava al di là Delle mie capacità D'immaginazione E in quanto geologo Mi sentì Piuttosto mortificato A volte Le formazioni Igne Hanno forme Stranamente regolari Come la famosa Strada dei giganti In Irlanda Ma nonostante Le ipotesi di Lake Su eventuali Coni fumanti Era evidente Che la portentosa Catena Non aveva nulla Di vulcanico Le strane caverne Nei pressi Delle quali Le misteriose formazioni Sembravano più numerose Offrivano Un altro E secondario Enigma A causa Dell'estrema regolarità Delle imboccature Spesso Proprio come ci aveva Informato Il bollettino di Lake Erano quadrate O semicircolari Come se le aperture Originarie Fossero state Plasmate In modo simmetrico Da una magica mano Il loro numero E ampia distribuzione Erano notevoli E facevano pensare Che tutta la regione Fosse crivellata Di gallerie Ricavate Negli strati Di Ardesia Le occhiate Che potemmo gettare Non ci permettevano Di sondare L'interno Delle caverne Ma se non altro Riuscimmo a stabilire Che erano prive Di stalattiti E stalagmiti All'esterno E in prossimità Delle caverne Il fianco Della montagna Pareva invariabilmente Lice e regolare Ed Hanford Immaginò Che le sottili Spaccature E irregolarità Causate dalle intemperie Tendessero a formare Modelli bizzarri Saturo Com'era Degli orrori E misteri Scoperti All'accampamento Accennò Che le fessure Ricordavano I bizzarri Raggruppamenti Di puntini Sulle steatiti Verdi E duplicati In modo Tanto orribile Sui tumuli Di neve Che coprivano Le tombe Dei sei mostri Ci eravamo Alzati gradualmente Fino alle alture Pedemontane Maggiori E procedevamo Lungo il passo Relativamente basso Che avevamo scelto Di tanto in tanto Guardavamo la neve E il ghiaccio Sotto di noi Chiedendoci Se un tragitto Del genere Sarebbe stato possibile Con l'equipaggiamento Meno sofisticato Di epoche precedenti Con nostra sorpresa Ci accorgemmo Che la superficie Non era affatto Impervia Per quanto Possano non esserlo Luoghi del genere E nonostante I crepacci E alcuni punti Insicuri Non avrebbe Frenato le slitte Di uno scotto Uno Shackleton O una Munsen Alcune piste Ghiacciate Conducevano Con un'insolita Continuità Verso i passi Frustati dal vento E quando raggiungemmo Il nostro Ci accorgemmo Che la situazione Era la stessa È difficile Rendere per iscritto La sensazione Di tensione E aspettativa Che provammo Nell'accingerci A superare la cresta E a gettare Lo sguardo Su quel mondo Totalmente inesplorato Anche se non avevamo Ragione di credere Che la regione Sull'altro versante Fosse troppo diversa Da quelle già viste O attraversate L'idea Che il baluardo Di montagne E l'ammiccante Distesa del cielo Palescente Al di là di esse Nascondessero Un mistero O un maleficio Era sottile Era sottile E di per sé Elusiva Non spiegabile A parole Era questione Di vaghi simbolismi Psicologici Associazioni estetiche Qualcosa di inestricabilmente Connesso Con esotiche forme Di poesia E di pittura Con i miti arcaici Celati nelle pagine Di volumi Temuti E sfuggiti Persino La forza del vento Suggeriva Una vena Di straordinaria E cosciente malignità E per un attimo Parve che il suo ululato Fosse prodotto Da un bizzarro Insieme musicale Un acuto pigolio Che risuonava Ogni raffica Fra le onnipresenti Imboccature Delle grotte La musica Suggeriva Un che di repulsivo Ma come le altre Spiacevoli sensazioni Era complessa E difficile Da identificare Dopo un'ascesa graduale Eravamo arrivati Secondo l'altimeto Alla quota Di circa Settemila metri La parte innevata Delle montagne Era ormai Alle nostre spalle E davanti a noi Si innalzavano Pareti Nere E nude Oltre ai primi Ghiacciai Scanalati Ma i misteriosi Cubi di pietra I bastioni E le caverne Risonanti Aggiungevano Al paesaggio Un che di naturale Dionirico E fantastico Scrutando La fila Di altissime cime Credetti Di identificare Quella che aveva Descritto il povero Lake Con uno dei bastioni Esattamente Sulla vetta Sembrava perduto In una specie Di bizzarra Foschia antartica La stessa forse Che aveva indotto Lake A ipotizzare La presenza Di zone vulcaniche Il passo Si trovava Davanti a noi Liscio E frustato Dal vento Fra i pilastri Che lo limitavano Minacciosi E malevoli Al di là Il cielo Era attraversato Da vapori Turbinanti E illuminato Dal basso sole Polare Il cielo Del misterioso Regno Su cui Nessun occhio Umano Si era mai posato Ancora pochi metri E l'avremmo visto Danfort e io Che a causa Del vento urlante E del rumore Dei motori Non potevamo parlare Se non gridando Ci scambiavamo Occhiate eloquenti Poi guadagnati Pochi metri Che dovevamo Ancora salire Guardammo Al di là Della gigantesca Barriera E ci trovammo Dinnanzi Ai segreti Insondati Di una terra Più antica E sconosciuta 5 Ricordo che urlammo Simultaneamente In un misto Di timore reverenziale Meraviglia Terrore E incredulità Nei nostri sensi Avevamo appena Superato il passo E ci era apparso Ciò che si trovava Oltre Per mantenere L'equilibrio Delle nostre facoltà Dovemmo ricorrere A spiegazioni naturali Fabricate sul momento Forse pensammo Ai massi grotteschi E modellati Dalle intemperie Che si trovano Nel giardino Degli dei in Colorado O alle rocce Assurdamente simmetriche Scolpite dal vento Nel deserto Dell'Arizona Forse supponemmo Che si trattasse D'un miraggio Come quello Che avevamo visto La mattina Del giorno prima Avvicinandoci Alle montagne Della follia Mentre gli occhi Esploravano L'altipiano Sconfinato E segnato Dalle cicatrici Delle intemperie E poco a poco Assorbivano La visione Dell'interminabile Labirinto Di masse Di pietre gigantesche Regolari E geometriche Che innalzavano Le loro guglie In rovina Su una lastra Di ghiaccio Non più spessa Di 15 o 20 metri Nel punto più profondo E altrove Molto più sottile Sono sicuro Che ci aggrappammo All'una o all'altra Delle spiegazioni Prosaiche Cui ho accennato L'effetto Della mostruosa Visione Fu indescrivibile Perché fin dall'inizio Capimmo Che ci trovammo In presenza Di una terribile Violazione Delle leggi Naturali Conosciute Su un altipiano Antichissimo E situato A un'altezza Di circa 7000 metri In un clima Mortale Per qualsiasi Essere vivente Fin da tempi Preumani E comunque Dalmeno Mezzo milione Di anni Si stendeva A perdita D'occhio Un labirinto Regolare Di pietra Che solo La disperazione Dell'autodifesa Mentale Poteva attribuire Al caso E non ad artefici Intelligenti E consapevoli Fino a quel momento Almeno Al livello Delle più serie Considerazioni Scientifiche Avevamo scartato Qualsiasi Teoria Che attribuisse Ai cubi E bastioni Sparsi Sulle montagne Un'origine Non naturale Come poteva Essere Altrimenti Quando all'epoca In cui i ghiacci Avevano coperto Il continente Antartico E l'avevano Trasformato In un regno Di morte L'uomo Non si era Ancora Differenziato Dalle grandi Scimmie Ma ora Il senso Della ragione Pareva Irrimediabilmente Scosso Perché il ciclopico Labirinto Di blocchi Squadrati Curvi O disposti Ad angolo Ci offriva Un quadro In cui era impossibile Cercare conforto O rifugio Era senz'altro La blasfema Città del miraggio Che ci appariva Nella sua nuda Obiettiva Ineluttabile Realtà Dopotutto Il maledetto Prodigio Aveva un fondamento Concreto Probabilmente Uno strato Orizzontale Di polvere Di ghiaccio Si era alzato Verso gli strati Superiori Dell'atmosfera E la traumatica Reliquie Di pietra Aveva proiettato La sua immagine Oltre le montagne Secondo le semplici Leggi Della riflessione Ovviamente Il miraggio Era distorto Ed esagerato Con particolari Che la sorgente Reale Non conteneva Ma ora In presenza Della fonte La giudicammo Ancora più Orribile E minacciosa Che non La proiezione Solo L'incredibile Inumana Solidità Delle grandi Torri di pietra E dei bastioni Che costituivano L'orribile Dedalo Lo aveva salvato Da completa Distruzione Nelle centinaia Di migliaia Di anni Forse milioni In cui aveva Proiettato le sue ombre Sull'altipiano Sferzato dal vento Coronamundi Il tetto del mondo Ogni sorta di epiteti Fantastici Salirono alle nostre Labbra Mentre fissavamo L'incredibile Spettacolo Ancora una volta Pensai ai miti Antichissimi Che mi perseguitavano Da quando avevo Messo piede Nel desolato Mondo antartico All'altipiano Di Leng Ai Migo Agli abominevoli Uomini delle nevi Che si dice Vivano Sull'Himalaya Ai manoscritti Pnaccotici Con i loro riferimenti A età preumane Al culto di Cthulhu Al Necronomicon E alle leggende Iperboree Dell'informe Zatogua E della progenie Stellare Peggio che informe Associata a Quell'oscura Entità Il Dedalo Si estendeva Per chilometri E chilometri In ogni direzione Senza mai Di radare Anzi Seguendolo Con gli occhi A destra E a sinistra Lungo La base Dei monti Più bassi Che lo separavano Dalla catena Vera e propria Decidemmo Che l'immensa Distesa Non diradava Affatto Salvo Interrompersi Bruscamente A sinistra Del passo Che avevamo Sorvolato Ci eravamo Imbattuti Per caso Nel segmento Limitato Di un insieme Incalcolabile Le alture Che scendevano Verso L'altipiano Erano punteggiate Da grottesche Strutture Di pietra Che collegavano La terribile città Ai familiari Cubi e bastioni Evidentemente Questi ultimi Costituivano Le sue estreme Propaggini montane Come le bizzarre Imboccature Delle caverne Erano altrettanto Spessi Sull'uno E l'altro Versante Della catena L'inconcepibile Labirinto Di pietra Consisteva Per la maggior parte Di mura Che affioravano Dal ghiaccio A varie altezze Da tre metri E mezzo A oltre Cinquanta metri Con uno Spessore Che andava Da un metro e settanta A due metri E quaranta La muraglia Era composta Da giganteschi Blocchi di Ardesia Primitiva Schisto E arenaria Che in alcuni punti Misuravano addirittura Centoquaranta Per duecento Per duecentottanta Centimetri In altre zone Sembrava ricavata Direttamente Da un irregolare Letto roccioso Di Ardesia Precambrica Gli edifici Non erano affatto Uniformi C'erano numerosi Alveari Di proporzioni Gigantesche Ma anche strutture Separate Più piccole La forma generale Degli edifici Era conica Piramidale O a terrazze Anche se non mancavano Cilindri perfetti Cubi perfetti Ammassi di cubi E altre forme Rettangolari E ogni tanto Strutture angolose Il cui piano A cinque punte Suggeriva L'aspetto Di moderne Fortificazioni I costruttori Avevano usato Costantemente Con perizia Il principio Dell'arco E all'epoca Del massimo splendore Di quella città Erano esistite Probabilmente Cupole Il groviglio Di pietra Era terribilmente Logorato Dalle intemperie E le superfici Di ghiaccio Su cui svettavano Le torri Era cosparsa Di blocchi Caduti E detriti Antichissimi Dove la glaciazione Era trasparente Potemmo vedere Le parti inferiori Delle enormi strutture E notammo I ponti di pietra Conservati nel ghiaccio Che collegavano Varie torri A diverse altezze Sulle mura Sulle mura esposte Scorgemmo Le intaccature Che corrispondevano All'estremità Di ponti simili Ora scomparsi Un'ispezione Più attenta Rivelò Numerose Grandi finestre Alcune Erano chiuse Da imposte Di materiale Pietrificato Che in origine Poteva essere Stato legno Altre restavano Spalancate In modo sinistro E minaccioso Ovviamente Molte delle rovine Erano senza tetto Con i bordi superiori Irregolari Anche se arrotondati Dal vento Altre Di forma Conica O piramidale E protette Da strutture Più alte Che sorgevano Intorno Mantenevano Intatta La forma Originaria Nonostante Le inevitabili Tracce Di deterioramento E rovina Con il binocolo Riuscimmo A distinguere Quelle che Sembravano Decorazioni O sculture Disposte In fasce Orizzontali Fra cui I misteriosi Puntini Raggruppati Secondo Modelli Preordinati Che avevamo Già visto Sugli oggetti Di Steatite E che ora Assumevano Un significato Molto più ampio In molte zone Gli edifici Erano in completa Rovina E la superficie Di ghiaccio Era profondamente Intaccata Da varie Cause geologiche In altri luoghi La pietra Si era consumata Fino ad appiattirsi Sul ghiacciaio Un tratto Piuttosto ampio Che dall'interno Dell'altipiano Si stendeva Fino una gola Nelle alture Circa un chilometro E mezzo Sulla sinistra Del passo Che avevamo Attraversato Era sgombro Di edifici Concludemmo Che probabilmente Rappresentava Il letto Di un grande fiume Che durante Il terziario Milioni di anni fa Aveva attraversato La città Per riversarsi In un abisso Prodigioso Che sottendeva La catena Di montagne Certo Si trattava Di una regione Ricca di caverne Spelonche E segreti Del sottosuolo Che andavano Al di là Di ogni comprensione Ripensando Alle nostre Sensazioni E ricordando La meraviglia Che avevamo provato Nel contemplare Quella mostruosa Reliquia Di epoche Che precedevano La comparsa Dell'uomo Mi sorprende Che riuscissimo A conservare Una parvenza D'equilibrio Ovviamente Ci rendevamo Conto Che nella Cronologia Comunemente Accettata Nelle teorie Scientifiche E forse Nella nostra Stessa coscienza C'era qualcosa Di profondamente Sbagliato Ma mantenemmo Il sangue Freddo Necessario A pilotare L'aereo A osservare Minuziosamente Una quantità Di particolari E scattare Una serie Di fotografie Che possono Ancora Rivelarsi Utili A noi E al mondo Intero Nel mio caso L'attitudine Scientifica Di tutta Una vita Mi ha Senz'altro Aiutato Perché al di sopra Dello stupore Del senso Di minaccia Bruciava La fondamentale Curiosità Di svelare L'antichissimo Mistero Sapere Che specie Ed esseri Avessero costruito L'immensa città E poi L'avessero abitata E quale rapporto Fosse esistito Fra una così Straordinaria Concentrazione Di esseri Viventi E il mondo Del suo tempo O altri tempi Perché Quella Non era Una città Normale Ma aveva Costituito Il centro O nucleo Primario Di un capitolo Incredibile Arcaico Della storia Della terra E le sue Ramificazioni Esterne Di cui Favoleggiavano Vagamente I miti Più oscuri E distorti Erano Scomparse Nel caos Delle convulsioni Geologiche Molto prima Che la razza Umana Come noi La conosciamo Si fosse Separata Dalle scimmie Davanti ai nostri occhi Si stendeva Una metropoli Primigenia A confronto Della quale Le terre favolose Di Atlantide E Lemuria Con Morium O Zuldarum E Olotè Nel paese Di Lomar Sembrano cose Recenti Che non risalgono Nemmeno a ieri Ma oggi stesso Una megalopoli Che reggeva Il confronto Con altri Orribili centri Preumani Di cui si mormora Nelle leggende Valusia Raelie Ib Nella terra Di Mnar E la città Senza nome Nel deserto Arabo Volando Su quel groviglio Di torri nudi E gigantesche La mia immaginazione Sfuggì A tutti i vincoli E si immerse Priva di direzione Nel regno Delle pure Associazioni Fantastiche Fino a ipotizzare Un legame Fra quel mondo Perduto E le più assurde Supposizioni Che avevo fatto Dopo la scoperta Dell'orrorore All'accampamento Per dare all'aereo La massima leggerezza Non avevamo riempito Completamente Il serbatoio Del carburante Quindi bisognava Usare una certa cautela Nelle nostre esplorazioni Anche così Coprimmo Una superficie enorme In linea d'aria Ovviamente E scendemmo A una quota In cui il vento Si era fatto Trascurabile Non sembrava Esserci limite Alla catena Di montagne O all'estensione Della spaventosa Città di pietra Che confinava Con le sue vette Più basse Ottanta chilometri Di volo In ogni direzione Non mostrarono Alcun cambiamento Nel labirinto Di pietra e mattoni Che stava Barbicato Il ghiacciaio Come un immenso Cadavere C'erano Tuttavia Alcuni tratti Distintivi Come i bassorilievi Visibili Lungo la gola Un tempo Attraversata Dal fiume Nel suo percorso Lungo le cime Più basse Verso il punto In cui si gettava Fra le grandi montagne Le alture All'imbocco Del fiume Erano state Modellate Arditamente In gigantesche Colonne E nel disegno Scanalato Dei fusti A forma di barile C'era qualcosa Che risvegliò In Danforth Conte me Ricordi Inafferrabili Orrendi E confusi Trovammo Numerosi Spazi aperti Evidentemente Piazze pubbliche A forma di stella E notammo Varie ondulazioni Nel terreno In cima Alle vette Più pronunciate C'era quasi sempre Un alto edificio Di pietra Ricavato direttamente Dalla roccia Ma c'erano Almeno due eccezioni Nel primo caso L'edificio Che sorgeva Sulla collina Era troppo Deteriorato Per capire Che tipo Di costruzione Fosse Mentre in cima Alla seconda Si vedeva Un fantastico Monumento conico Intagliato Nella roccia Somigliava Alla famosa Tomba del serpente Nell'antica Valle di pedra Allontanandoci Dalle montagne E procedendo Verso l'entroterra Scoprimmo Che la città Non era Di larghezza Infinita Anche se In lunghezza Lungo i piedi Della catena Pareva che Non avesse limiti Dopo quasi 50 chilometri I grotteschi edifici Di pietra Cominciarono a diradarsi E in capo Ad altri 15 Ci imbattemmo In una landa Desolata Senza traccia Di artefatti Il corso del fiume Oltre la città Era marcato Da un'ampia linea Depressa La terra Assumeva Un carattere Più accidentato E nel perdersi Fra le nebbie D'Occidente Pareva che salisse Di nuovo Fino a quel momento Non eravamo Atterrati Ma abbandonare L'altipiano Senza cercare Di entrare In una delle Mostruose strutture Sarebbe stato Impensabile Decidemmo Di trovare Un tratto Di terreno Non accidentato Nei pressi Del passo Che avevamo Sorvolato Tra le alture Minori Ai piedi Della catena Una volta Effettuato L'atterraggio Avremmo Continuato Con l'esplorazione A piedi Anche se Le alture Che digradavano Verso l'altipiano Erano parzialmente Coperte Da rovine Individuamo Un discreto Numero Di luoghi Adatti Alla discesa Scegliemmo Il più vicino Al passo In modo Da poter Tornare facilmente Al campo Al di là Delle montagne E verso Le 12 e 30 Pomeridiane Riuscimmo Ad abbassarci Su una spianata Di neve Indurita Liscia E priva Di ostacoli Che in seguito Ci avrebbe consentito Un ottimo decollo Non ci parve Necessario Costruire Un recinto Di neve Intorno All'aereo Per un periodo Così breve E in assenza Di venti D'alta quota Un fatto Che non smettevamo Di apprezzare Quindi Ci limitammo Ad assicurarci Che i pattini D'atterraggio Fossero ben fissati E le parti vitali Dell'apparecchio Fossero protette Dal freddo Per il viaggio A piedi Ci togliemmo Le tute di pelliccia Più pesanti E portammo con noi Una piccola attrezzatura Che consisteva Di una bussola Attascabile Una macchina fotografica Manuale Poche provviste Alcuni voluminosi Album e tacquini Martello da geologo E scalpello Sacchetti per i reperti Un rotolo di corda E potenti torce elettriche Con batteria di riserva Avevamo caricato Tutto questo In previsione Di un eventuale Atterraggio E della necessità Di scattare fotografie Al suolo Fare disegni E schizzi topografici Oppure staccare Esemplari di roccia Da una parete Uno sperone O una grotta di montagna Per fortuna Avevamo una scorta Di carta straccia Che mettemmo In un sacchetto E che avremmo Adoperato come Nel gioco dei cani E della lepre Segnando il cammino Se ci fossimo Addentrati In uno dei labirinti L'avevamo portata Con noi In previsione Della necessità Di esplorare Un sistema di caverne Dove l'aria Fosse abbastanza tranquilla Da consentire Quel pratico sistema Invece del più normale Che consiste Nel disseminare Sassolini Scendemmo il pendio Incamminandoci Sulla neve Compatta Verso il meraviglioso Labirinto di pietra Che si stagliava Contro il cielo Palescente Dell'Ovest E provammo L'acuta sensazione Di imminenti Meraviglie Che già Avevamo sperimentato Avvicinandoci Al passo inviolato Quattro ore prima È vero Ormai Ci eravamo Familiarizzati Con l'incredibile Segreto Nascosto Dalla barriera Di montagne Ma la prospettiva Di entrare Fra le mura primordiali Erette da essere intelligenti Forse milioni Di anni fa Prima che la razza umana Fosse mai esistita Era qualcosa Che incuteva timore E la promessa Di misteri Su scala cosmica Nascondeva Tremende potenzialità A quell'altezza La rarefazione Dell'aria Rendeva ogni sforzo Più penoso Ma Danfort E io Ci sentivamo bene E pronti Ad affrontare Qualsiasi compito Ci fosse presentato In pochi passi Arrivammo Una rovina informe E tanto consunta Che si alzava Appena sul livello Della neve Mentre a 60 o 70 metri Di distanza Sorgeva un grande edificio Senza tetto Ma ancora completo Nella gigantesca sagoma Cinque punte Che si innalzava In modo irregolare A un'altezza Di 3 o 4 metri Ci dirigemmo Verso quest'ultimo E quando finalmente Riuscimmo a sfiorare I blocchi ciclopici Sentimmo di aver istituito Un legame Senza precedenti Quasi blasfemo Con età dimenticate E normalmente preclusa Alla nostra specie L'edificio a forma di stella E con un diametro Di circa 100 metri Da una punta all'altra Era fatto Di blocchi d'arenaria Del giurassico Con una superficie media Di 2 metri per 3 Una fila Di minuscole finestre O feritoie Alte circa 1 metro e 80 E larghe 1 e 40 Correva simmetricamente Lungo le punte Della stella In corrispondenza Degli angoli interni E si trovava Circa un metro e mezzo Dal suolo gelato Guardando attraverso Le finestre Ci rendemmo conto Che i blocchi Erano spessi Almeno un metro e 70 E che sulle pareti interne C'erano tracce Di sculture O basso rilievi L'avevamo già intuito Sorvolando questo edificio E altri simili Benché un tempo Probabilmente Fossero esistiti Dei piani inferiori Le loro tracce Erano state cancellate Dallo spesso Strato di ghiaccio E neve Ci introducemmo In una delle finestre Cercando in vano Di decifrare Le decorazioni Semi cancellate Alle pareti Ma non osammo Affrontare Il pavimento gelato Durante il volo C'eravamo accorti Che all'interno Della città Vera e propria Esistevano Degli edifici Meno soffocati Dal ghiaccio E che entrando In uno di quelli Ancora forniti Del tetto Avremmo trovato Forse Un interno intatto E quindi I piani inferiori Prima di lasciare Il rudere Lo fotografammo Accuratamente E ne studiamo Meravigliati La gigantesca Architettura Che non faceva Alcun uso Della calce Avremmo voluto Che Pavodi Fosse con noi Perché con la sua Esperienza di ingegnere Ci avrebbe spiegato Come era stato Possibile maneggiare I colossali Blocchi di pietra Nell'età lontanissima In cui la città E i suoi dintorni Erano stati costruiti La discesa Verso la città Vera e propria Quasi un chilometro Col vento Che soffiava Tutta forza Fra le vette più alte Senza poterci raggiungere Rimarrà impresso Nella mia mente Fino ai più piccoli Dettagli Solo negli incubi Più fantastici L'uomo può osservare Certi effetti ottici Ma Danfort e io Costituivamo L'eccezione Fra noi E i vapori Turbinanti A occidente Si stendeva Un mostruoso Groviglio Di torri Di pietra nera Le cui forme Incredibili Ci stupivano Ogni volta Che cambiava L'angolo visuale Era un miraggio Di pietra E se non fosse Per le nostre Fotografie Dubiterei Che possa esistere Un luogo del genere I materiali Erano identici A quelli Dell'edificio Che avevamo Lasciato Ma le forme Stravaganti Che assumevano Nell'architettura urbana Superavano Ogni descrizione Anche le fotografie Rendono solo in parte L'idea Della sua estrema Bizzarria Interminabile varietà Quasi soprannaturale Solidità E dell'esotismo Ultraterreno Da cui era caratterizzata C'erano forme geometriche A cui Euclide Non sarebbe riuscito A trovare un nome Coni troncati In mille modi astrusi Irregolari In altri mille Terrazze Sproporzionate In modo oltraggioso Fusti che offrivano Improvvisamente Svasature Semisferiche Colonne spezzate E misteriosamente Raggruppate Follie Che ripetevano In modo assurdo Il modello A cinque punte O a cinque scanalature Avvicinandoci Riuscimmo a vedere meglio Sotto le parti Trasparenti Della lastra di ghiaccio E individuammo I ponti tubolari Di pietra Che collegavano A varie altezze Le strutture Disposte In modo assurdo Non sembravano Esserci strade Normali E l'unica apertura Si trovava Oltre un chilometro E mezzo Sulla sinistra Indubbiamente Dove il fiume Aveva attraversato La città Verso le montagne Usando il binocolo Vedemmo che Le fasce orizzontali Di sculture Semicancellate E i misteriosi Gruppi di puntini Erano più abbondanti E cercammo E cercammo di immaginare Come la città Dovesse essersi Presentato Un tempo Anche se La maggior parte Dei tetti E la sommità Delle torri Era andata distrutta Nel complesso Doveva essere stato Un dedalo Di vicoli E viottoli Sprofondati Tra edifici altissimi Alcuni Non molto Diversi Dai tunnel Schiacciati Fra i ponti A mezz'aria E le altre Costruzioni Ora Distesa Sotto di noi La città Pareva la visione Di un sogno Delineata Contro i vapori Del cielo occidentale Dove il basso sole Antartico Lottava Per risplendere Nel primo pomeriggio Quando il sole Incontrava Un'ostruzione Più consistente Che gettava Il paesaggio Nell'ombra Almeno Temporaneamente L'effetto Diventava Minaccioso In un modo Che non posso Sperare di descrivere Persino il suono Del vento Fra le montagne Un ululato Quasi musicale Che soffiava Tra i passi Più alti E a stento Ci raggiungeva Prendeva Una nota Sinistra Di spiccata Malvagità L'ultima fase Della discesa Verso la città Fu più ripida E brusca E uno sperone Di roccia Che si trovava Proprio nel punto In cui cambiava L'inclinazione Ci fece supporre Che un tempo Doveva essere Esistita Una terrazza Artificiale Sotto il ghiaccio Secondo noi C'era una scalinata O il suo equivalente Quando ci immergemmo Nella città labirinto Incespicando Sui blocchi Crollati E cercando Di sfuggire L'oppressiva Vicinanza E l'altezza Schiacciante Delle mure Intaccate O in rovina Le nostre emozioni Raggiunsero Un tale livello Che ancora una volta Mi stupisco Del nostro autocontrollo Dunford Dunford era ridotto Un mucchio di nervi E cominciò a fare Insensate supposizioni Sull'orrore All'accampamento Io ne rimasi Turbato Tanto più Che non potevo Fare a meno Di condividere Certe conclusioni Suggerite da alcuni aspetti Di quella morbosa Reliquia Di età perdute Anche l'immaginazione Di Dunford Ne fu influenzata Perché nel punto Dove un vicolo Zeppo di detriti Descriveva Improvvisamente Una curva Egli Insiste Di aver visto Deboli impronte Che non gli piacevano E un'altra volta Si fermò Ad ascoltare Un suono sottile E immaginario Che veniva Da un punto imprecisato Disse Che si trattava Di uno zufolio Soffocato E non diverso Da quello provocato Dal vento Nelle caverne Fra le montagne Ma in qualche modo Più minaccioso L'eterno modello A cinque punte Dell'architettura Circostante E dei pochi arabeschi Che potevamo distinguere Sulle mura Aveva un potere Suggestivo E inquietante A cui non potevamo Sfuggire E a livello inconscio Ci dava La misteriosa Certezza Di ciò Che dovevano Essere state Le entità primigene Che avevano Costruito E abitato Quel luogo maledetto Ma il nostro Animo scientifico E avventuroso Non era morto E portammo avanti Meccanicamente Il programma Che consisteva Nel prelevare Esemplari Da tutti i tipi Di pietra Di cui erano Fatti gli edifici Ce ne occorreva Un buon numero Per determinare L'età del luogo Nessun componente Delle grandi mura esterne Sembrava più tardo Del giurassico E del comanciano E in tutta la città Non c'era una sola pietra Più recente Del pliocene Era praticamente certo Che ci stavamo Girando in un luogo Dove la morte Regnava Dalmeno mezzo milione Di anni Probabilmente Di più Procedendo Nel labirinto Di pietra e ombre Ci fermammo Davanti A tutte le aperture Disponibili Per indagare L'interno E stabilire Dove potessimo Entrare Alcune Erano troppo alte Altre Immettevano In rovine Soffocate Dal ghiaccio Come quella Che avevamo trovato Sull'altura Senza tetto Ed esolate Un'apertura Benché spaziosa Invitante Dava su un abisso Senza fondo In cui non esistevano Mezzi di discesa Di tanto in tanto Avevamo la possibilità Di osservare Il legno pietrificato Di un'imposta Che si era salvata Ed eravamo Impressionati Dalla favolosa Antichità Che si poteva Dedurre Dalla fibra I materiali Provenivano Da gimnosperme E conifere Del mesozoico In particolare Cicadee Del cretaceo E dalle palme A ventaglio O altre antiche Angiosperme Del terziario Non trovammo niente Che fosse più recente Del pliocene La tecnica Adoperata Per montare Le imposte I cui bordi Rivelavano La presenza Di bizzarri cardini Ormai spariti Da moltissimo tempo Sembrava variare Alcune Si trovavano Sul lato esterno Altre su quello interno Delle profonde aperture Erano rimaste incuneate Al loro posto E in questo modo Erano sopravvissute All'arrugginimento Dei cardini O delle altre parti metalliche Che un tempo Le avevano sorrette Dopo un certo tempo Vedemmo una serie Di finestre Che si aprivano Lungo le sporgenze Di un gigantesco cono Dal vertice intatto E solcato Da cinque costoni Le finestre Davano Su una grande stanza Perfettamente Conservata Dal pavimento Di pietra Ma si trovavano Un'altezza eccessiva Per permetterci Di raggiungerlo Senza una corda Ne avevamo una Ma a meno Di non esservi costretti Avremmo evitato Volentieri Un salto Di sette O otto metri L'aria rarefatta Dell'altipiano Richiedeva Un notevole Sforzo cardiaco Anche per le azioni Più semplici L'enorme locale Doveva essere Una sala O un luogo Di riunione E le torce elettriche Rivelarono Una serie Di vivide E forse Eccezionali Sculture Che correvano Lungo le pareti In ampie fasce Orizzontali Separate Da strisce Di uguale larghezza Coperte Da arabeschi Più convenzionali Prendemmo Accuratamente Nota del luogo Decidendo Che a meno Di non trovare Un ingresso Più facile Ci saremmo Calati con la fune Finalmente Con il tempo Trovammo L'apertura Che desideravamo Un arco Largo Più di due metri E altro Tre metri e mezzo Che costituiva L'antica estremità Di un ponte aereo Il quale Correva Su un vicolo A circa Un metro e settanta Sopra l'attuale strato Di ghiaccio Ovviamente Gli sbocchi Dei corridoi aerei Si trovavano A livello Dei piani superiori E in questo caso Il piano Corrispondente Esisteva ancora L'edificio A cui avremmo Potuto accedere Era costituito Da una serie Di terrazze Rettangolari Alla nostra sinistra Rivolto a occidente Al di là Del vicolo Dove si apriva L'arco opposto Sorgeva un decrepito Cilindro Senza finestre E con un curioso Rigonfiamento Circa tre metri e mezzo Sopra l'apertura L'interno Era buio E l'arco Pareva spalancarsi Su un pozzo D'illimitata profondità Un mucchio Di detriti Rendeva ancora Più facile L'ingresso Al grande edificio Ma prima di approfittare Dell'agoniato accesso Esitammo un momento Benché ormai fossimo Nel cuore Di quel groviglio Di misteri Ci voleva una decisione Tutta particolare Per varcare la soglia Di un edificio Intatto E sopravvissuto Da un mondo primitivo La cui natura Ci si rivelava In modo sempre Più minaccioso Alla fine Comunque Raccogliemmo Il coraggio E ci arrampicammo Sui detriti Verso l'apertura Che si spalancava Davanti a noi All'interno Il pavimento Era fatto Di grandi blocchi D'ardesia E costituiva L'estremità Di un lungo Alto Corridoio Dalle pareti Scolpite Osservando I numerosi Archi Che conducevano In altri locali E rendendoci conto Della vastità Della rete Di appartamenti Interni Decidemmo Che era venuto Il momento Di seminare I nostri pezzettini Di carta Fino ad allora Le bussole E lo spettacolo Delle montagne Visibili fra le torri Alle nostre spalle Erano bastati A non farci perdere L'orientamento Ma d'ora in poi Avremmo avuto bisogno Di un aiuto supplementare Tagliamo quindi La carta In piccoli pezzetti E li sistemammo In un sacchetto Che avrebbe portato Danford Quindi ci preparammo A usarli Con parsimonia Ma in modo Di non mettere Repentaglio La nostra sicurezza Questo metodo Ci avrebbe permesso Di non perderci Perché all'interno Dell'antichissimo edificio Non soffiavano Forti correnti D'aria Se a un certo punto Si fosse alzato Il vento O se avessimo Finito La carta Ci saremmo rivolti Al più sicuro Anche se più lento E noioso metodo Di scalpellare La pietra Per ricavarne Sassolini Quanto fosse grande La zona Che si apriva Alle nostre esplorazioni Beh Questo non era Facile da dire La vicinanza Degli edifici Collegati fra loro Faceva pensare Che avremmo potuto Trasferirci Dall'uno all'altro Grazie ai punti Che correvano Sotto il ghiaccio Salvo nei punti Dove si era Verificato un crollo O un blocco Dovuto all'accumulo Di materiale geologico Gli immensi palazzi In genere Non sembravano Ostruiti Dalla glaciazione In quasi tutte le zone Dove il ghiaccio Era trasparente Avevamo visto Finestre sommerse E protette Dalle imposte chiuse Come se la città Fosse stata lasciata In quello stato uniforme Fino a quando La lastra del ghiacciaio Ne aveva cristallizzato La parte inferiore Per i secoli futuri Nel complesso Si aveva l'impressione Che fosse stata Deliberatamente chiusa E abbandonata In un'epoca remota Non distrutta Da un'improvvisa calamità O da graduale decadenza L'arrivo del ghiaccio Era forse stato previsto La popolazione sconosciuta Si era trasferita in massa Verso luoghi più favorevoli Le condizioni fisiografiche Che avevano determinato La formazione del ghiacciaio In quel punto Avrebbero richiesto Un'indagine Che per il momento Bisognava rimandare Con ogni evidenza Non si era trattato Di un'azione distruttiva Forse ne era responsabile L'accumulo delle nevi O un'inondazione del fiume O il crollo Di un antico bacino di ghiacci Nella catena di montagne Una di queste ragioni Aveva contribuito A determinare Le condizioni Che osservavamo In quel momento Ma in un posto del genere L'immaginazione Poteva concepire Qualsiasi cosa Sei Fornire un resoconto Dettagliato Dei nostri vagabondaggi In quel dedolo cavernoso Di edifici primitivi E morti Da millenni Non sarebbe pratico Per la prima volta Dopo infiniti secoli Il suono Di piedi umani Risuonava In quel mostruoso Archivio Di segreti Del passato Perché di questo Si trattava Buona parte Delle orribili Rivelazioni In cui stavamo Per imbatterci Sarebbe scaturita Da un semplice esame Delle onnipresenti Sculture murali Le fotografie Che abbiamo scattato Col flash Confermeranno la verità Di ciò che stiamo Per dire Ma è un peccato Che non avessimo con noi Una maggior quantità Di pellicola Una volta finito Il materiale fotografico Abbiamo tentato Di disegnare Gli oggetti Più notevoli Che si trovavano Sul nostro cammino L'edificio In cui eravamo entrati Era complesso E di grandi dimensioni E ci diede Un'impressionante Dimostrazione Di ciò Di cui erano capaci Gli architetti Di quelle ignote Ere geologiche Le pareti interne Erano più sottili Delle mura Ma i piani inferiori Erano conservate In modo eccellente L'intera struttura Era caratterizzata Da una complessità Labyrinthica E da misteriosi Dislivelli Nel pavimento Se non fosse Per la scia di carta Che ci lasciavamo Alle spalle Ci saremmo perduti Sicuramente Innanzitutto Decidemmo Di esplorare I piani superiori E più deteriorati Ci addentrammo Nel labirinto Per una trentina Di metri In salita E raggiungemmo Una serie Di locali coperti Di neve E in rovina Che affacciavano Direttamente Sul cielo polare Per arrivarci Ci servimmo Di rampe Scanalate Piuttosto ripide O dei piani Inclinati Che ovunque Sostituivano Le scale Le stanze In cui entrammo Erano tutte Di forme E proporzioni Immaginabili Dalla stella Cinque punte Al triangolo Fino A cubi perfetti Posso affermare Con una certa Sicurezza Che la superficie Del pavimento Misurava in genere Una decina Di metri Mentre l'altezza Delle camere Si aggirava Intorno ai sette Esistevano Comunque Appartamenti Più spaziosi Dopo aver esaminato Attentamente I piani superiori E quelli Al livello Del ghiacciaio Scendemmo Nella parte sommersa Che come ci accorgemmo Ben presto Era costituita Da una serie Di stanze Corridoi Che probabilmente Portavano Verso decine Di edifici esterni La ciclopica Grandezza E il gigantismo Di tutto ciò Che ci circondava Diventarono Opprimenti C'era qualcosa Di indefinibile Ma di profondamente Inumano Nei contorni Nelle dimensioni Nelle proporzioni E nelle decorazioni E perfino In tutti I particolari Di quegli edifici Maledettamente antichi Da ciò Che i bassorilievi Ci svelarono Capimmo Che la città Era vecchia Di milioni Di anni Non riuscivamo A spiegarci I principi architettonici Che erano stati Adoperati Nell'insolita Equilibratura E nella disposizione Dei blocchi di pietra Ma le funzioni Dell'arco Erano ampiamente Sfruttate Le stanze Che visitammo Erano del tutto Prive Di oggetti mobili Circostanza Che confermò La nostra teoria Sull'abbandono Della città Le decorazioni Erano costituite Principalmente Dal sistema Universale Di sculture murali Che correvano In fasce orizzontali Continue Larghe circa Un metro E si alternavano Dal pavimento Al soffitto Agli arabeschi Geometrici Che seguivano In altrettante strisce Delle stesse proporzioni C'era qualche eccezione Ma in genere Questa organizzazione Era prevalente Ogni tanto Appariva un cartiglio Più o meno liscio Su cui erano incisi Gruppi di puntini Misteriosamente Raggruppati E che interrompevano Le fasce geometriche La tecnica Come ben presto Ci accorgemmo Era matura E compiuta E da un punto Di vista estetico Si poteva considerare Il risultato Di una raffinata Civiltà Ma i particolari Erano estranei A qualsiasi Tradizione umana Per quanto riguarda La finezza dell'esecuzione Nessuna scultura Che io abbia visto Regge il paragone I più piccoli dettagli Dell'intricata vegetazione O della vita animale Erano resi Con eccezionale vividezza Nonostante La grande scala Dei bassorilievi Quanto ai disegni Geometrici Erano capolavori Di geniale complessità Gli arabeschi Denotavano Un sapiente Uso di principi Matematici Ed erano costituiti Da curve Vagamente simmetriche E angoli Basati sulla quantità Cinque Le strisce figurative Seguivano una tradizione Estremamente formalizzata E facevano un uso Particolare Della prospettiva Ma possedevano Una forza artistica Che ci commosse Profondamente Nonostante L'abisso di tempo Che ci separava L'esecuzione Era basata Su una singolare Contrapposizione Della sezione Incrociata Con il profilo Bidimensionale E mostrava Una ricchezza Psicologica Superiore A quella Espressa Da qualsiasi Popolo Dell'antichità Sarebbe vano Paragonare La forma D'arte Che avevamo Appena scoperto Con qualsiasi Altra Custodita Nei nostri Musei Chi vedrà Le fotografie Si renderà Conto Che esiste Una certa Analogia Solo con Le grottesche Visioni Dei più sfrenati Futuristi Il tracciato Geometrico Consisteva Di linee Incavate La cui Profondità Nel caso Di pareti Non deteriorate Dalle intemperie Variava Da due centimetri E mezzo A cinque Nei cartigli Con i gruppi Di puntini Forse iscrizioni In un linguaggio E un alfabeto Primordiale La depressione Della superficie Liscia Si aggirava Sui tre centimetri E mezzo Mentre i puntini Erano profondi Un centimetro O poco più Le strisce Figurative Erano costituite Da bassorilievi Il cui fondo Era incavato Per circa Cinque centimetri Nella superficie Della parete In alcuni casi Individuammo Tracce Di un'antica Colorazione Ma in genere I secoli Avevano cancellato Qualsiasi traccia Di pigmenti Più osservavamo Quella tecnica Meravigliosa E più L'ammiravamo Sotto il rigido Formalismo Potevamo cogliere L'abilità tecnica E la minuta Accurata Capacità di osservazione Degli artisti In realtà Le stesse convenzioni Accentuavano L'essenza simbolica Dei soggetti E li differenziavano Fra loro Ma al di là Delle qualità Di cui eravamo Consapevoli Ne esistevano altre Che sfuggivano Alle nostre Facoltà di percezione Ogni tanto Alcuni particolari Suggerivano Simboli E stimoli Latenti Che avremmo Potuto apprezzare Più profondamente Solo con un diverso Bagaglio emotivo E mentale O addirittura Con un numero Di sensi Superiore E diversi Dai nostri Come è ovvio Le sculture Si ispiravano Alla vita Dell'epoca In cui erano State concepite E riassumevano Un'ampia porzione Della sua storia È questa normale Preoccupazione storica Della razza primigenia Una circostanza Che per pura coincidenza Ha agito Miracolosamente In nostro favore Ad aver reso possibile La scoperta Di tante informazioni Ed averci indotti Ad anteporre La riproduzione Delle sculture A qualsiasi Altro obiettivo In alcune stanze L'ordinamento Prevalente Era alterato Dalla presenza Di mappe Carte astronomiche E altri diagrammi Scientifici Ingigantiti In essi Trovammo Una semplice E terribile Conferma Delle informazioni Che avevamo già tratto Dalle strisce Dei rilievi Nell'esporre ciò Che tutto questo Ci ha svelato Spero di non suscitare Nel mio uditorio Una curiosità Più grande Della necessaria Cautela Sarebbe Tragico Se qualcuno Dovesse essere Attratto Verso quel regno Della morte Dell'orrore Dalle parole Che scrivo Per mettere in guardia La nostra razza Le pareti scolpite Erano interrotte Da alte finestre E imponenti arcate Di circa Quattro metri Entrambe In qualche caso Conservavano I pannelli Di legno Pietrificato A loro volta Scolpiti E lavorati Che erano ciò Che restava Delle imposte O delle porte Vere e proprie I pezzi metallici Erano scomparsi Da tempo Alcune porte Erano rimaste Al loro posto E dovettero Essere forzate Man mano Che passavamo Da una stanza All'altra Qua e là Sopravviveva Il telaio Di una finestra Con bizzarri Pannelli Trasparenti Per lo più Ellittici Ma non erano Molti Notammo Alcune nicchie Di grandi dimensioni Di solito Vuote Ogni tanto Qualcuno Ospitava Un bizzarro Oggetto Scolpito Di steatite Verde Ma portarli Con noi Sarebbe stato Impossibile Perché erano Consunti E in condizioni Troppo precarie Per uscire Indenni dal Trasporto Altre aperture Erano senza Dubbio collegate Con antichissimi Apparati Meccanici Per l'illuminazione Il riscaldamento E simili Che le sculture A loro modo Descrivevano Di solito I soffitti Erano lisci Ma alcuni Erano stati Decorati Con piastrelle Di steatite Verdi O altri Minerali Ora Per lo più Cadute I pavimenti Erano ricoperti Da piastrelle Dello stesso Tipo Anche se Nella maggior Parte Dei locali Predominava La pietra Pura e Semplice Come ho detto Mobilia E altri Oggetti Trasportabili Erano Assenti Ma le sculture Ci diedero Un'idea Abbastanza Chiara Degli apparati Che un tempo Avevano popolato Quei saloni Echeggianti Come tombe Sopra Lo strato Di ghiaccio I pavimenti Erano Generalmente Ingombri Di detriti Scorie E altri Rifiuti Ma ai livelli Inferiori Il fenomeno Diminuiva In alcuni Dei corridoi E saloni Più bassi C'erano Soltanto Polvere Rocciosa E antiche Incrostrazioni Mentre ogni Tanto Appariva Come per Miracolo Una zona Dall'aspetto Quasi intatto E immacolato Ovviamente Dove C'erano Stati Crolli O Slavine I piani Inferiori Erano Ingombri Come i Superiori Un cortile Centrale Simile a quello Che avevamo notato Dall'aereo In altri edifici Impediva Che le zone Più interne Del Dedalo Sprofondassero Nel buio Completo E grazie a questo Fatto Dovemmo ricorrere Raramente Alle torce Elettriche Per esaminare I particolari Delle sculture Questo Almeno Ai piani Superiori Sotto La lastra Di ghiaccio Il buio Infittiva E in numerosi Punti A pian terreno Regnava Una tenebra Quasi Assoluta Per farsi Un'idea Anche Approssimativa Dei nostri Pensieri E sentimenti Man mano Che ci addentravamo In quel labirinto Disumano E sprofondato Nel silenzio Da milioni D'anni Bisognerebbe Mettere ordine In uno straordinario Caos Di emozioni Ricordi E sensazioni Fuggevoli La paurosa Antichità Del luogo E la sua Mortale Desolazione Avevano Il potere Di schiacciare Qualunque Persona Dotata Di sensibilità Ma a questi Elementi Bisogna Aggiungere Il recente E inspiegabile Orrora All'accampamento E le rivelazioni Fin troppo improvvise Delle tremende Sculture Murali Quando ci Imbattemmo In una rappresentazione Perfettamente Conservata E in cui Non esistevano Ambiguità Di interpretazione Un esame Molto breve Bastò A rivelarci L'orribile Verità Verità Che Danfort E io Avevamo Già sospettato E inutile Negarlo Ma che Ci eravamo Vietati Di esprimere Persino L'uno All'altro Ormai Non potevano Esserci dubbi Sulla natura Degli esseri Che avevano Costruito E abitato La mostruosa Città morta Da milioni Di anni Quando Gli antenati Dell'uomo Erano ancora Mammiferi Primitivi Ed enormi Dinosauri Vagavano Nelle steppe Tropicali Dell'Europa E dell'Asia Fino a quel momento Ci eravamo Aggrappati A una disperata Alternativa Dicendo a noi stessi Che l'onnipresente Motivo a cinque punte Non era che l'icona Culturale O religiosa Di un antichissimo Oggetto naturale La cui forma Era appunto Quella di una stella E che i costruttori Della città Adoravano Allo stesso modo In cui a Creta Questo simbolo Era stato il toro In Egitto Lo Scarabeo A Roma La Lupa E l'Aquila E in innumerevoli Tribù selvagge Un determinato Animale Totem Ma quest'ultima Possibilità Di rifugio Ci fu Letteralmente Strappata E dovemmo Affrontare La sconvolgente Verità Che il lettore Di queste pagine Ha certo Intuito Da tempo Anche adesso Non sopporto L'idea Di metterla Nero su bianco Ma forse Non sarà necessario Le creature Che avevano Costruito E popolato Lo spaventoso Labirinto Che risaliva All'età Dei dinosauri Non erano Dinosauri Ma molto peggio A loro confronto I grandi rettili Erano creature Recenti E praticamente Senza cervello Mentre i costruttori Appartenevano Un'antica razza E sapiente E avevano Lasciato impronte Nella roccia Che già allora Risalivano A quasi un miliardo D'anni prima E la roccia Si era formata Prima che la vita Sulla terra Progredisse Oltre lo stadio Di malleabili Gruppi di cellule Ragion per cui Precedeva Assolutamente L'origine Della nostra Evoluzione Biologica Perché erano Essi ad aver Creato le forme Di vita terrestri E ad averle Fatte schiave E senza dubbio Essi Avevano fornito Il modello Delle creature Mostruose Descritte Nei miti Primigeni Quelli cui Accennano Con terrore I manoscritti Pnacotici E il Necronomicon Erano I grandi Antichi Filtrati Dalle stelle Quando la Terra Era giovane Gli esseri Plasmati Da un'evoluzione Aliena E dotati Di tali Poteri Che il nostro Pianeta Non ne ha mai Conosciuto L'uguale E pensare Che solo Il giorno Prima Danforth E io Avevamo Esaminato I frammenti Della loro Materia Corporea Fossilizzata Da milioni Di anni E il povero Lake E il suo Gruppo Li avevano Visti Interi E' impossibile Raccontare Nell'ordine Preciso Le varie Scoperte Che ci hanno Permesso Di scoprire Ciò Che ora Sappiamo Su quel Mostruoso Capitolo Di storia Preumana Dopo il primo Shock Della rivelazione Dovemmo Fermarci Un poco Per riprenderci Ed erano Ormai Le tre Quando cominciammo Un'esplorazione Sistematica Del luogo Le sculture Dell'edificio In cui eravamo Entrati Erano Ditata Relativamente Tarda Come Confermarono Una serie Di informazioni Geologiche Biologiche E astronomiche Contenute Nelle rappresentazioni Forse Risalivano A due Milioni Di anni Fa La loro Arte A paragone Degli esemplari Più antichi Che scoprimmo In altre Costruzioni Dopo aver attraversato Alcuni ponti Sotto il ghiaccio Aveva caratteristiche Che definiremmo Decadenti Un edificio Un edificio Un edificio Scavato Scavato direttamente Nella roccia Risaliva forse A 40 o 50 milioni D'anni fa Al basso Eocene O al cretaceo Superiore E conteneva Basso rilievi Di una maestria Tale Che superavano Tutti gli altri Con un'unica eccezione Vita preterrestre Degli esseri Dalla testa Forma di stella E che erano Ambientate su altri Pianeti In altre galassie O altri universi Possono essere lette Come la loro Fantastica mitologia Eppure Anche le sculture Più antiche Contenevano Disegni E diagrammi Straordinariamente Vicini Alle ultime scoperte Della matematica E dell'astrofisica Non so Cosa pensare Altri Giudicheranno Dopo aver visto Le fotografie Che ora pubblicherò Naturalmente Ogni basso rilievo Raccontava solo Una frazione Della storia Complessiva E non ci imbattemmo Nei vari capitoli Nell'ordine esatto Alcune sale Costituivano Dal punto di vista artistico Episodi indipendenti Altre volte Una determinata serie Di avvenimenti Veniva continuata In una teoria Di stanze O corridoi Le mappe E i diagrammi migliori Si trovavano Sulle pareti Di un abisso Spaventoso Sotto l'antico livello Del suolo Una caverna Dal diametro Di circa 70 metri E alta quasi 20 Che doveva essere stata Una specie Di centro educativo Nelle varie stanze Ed edifici C'erano parecchie Interessanti ripetizioni Dello stesso materiale Perché evidentemente Alcuni episodi Della loro esperienza E i riassunti Di alcuni momenti Chiave Della storia Erano prediletti Da parecchi artisti E dai proprietari Delle rispettive dimore A volte Varianti Sullo stesso tema Si rivelarono utili Per decidere Sui punti Più controversi O per colmare Lacune La nostra capacità Di ricavare Tante informazioni Nel breve Lasso di tempo Che abbiamo avuto A disposizione Mi stupisce Ovviamente Anche ora Possediamo Soltanto Un vaghissimo Schema generale Gran parte Del quale È stato Dedotto In seguito Dallo studio Delle fotografie E dei disegni Che riportammo Indietro Proprio L'effetto Di questi Successivi Approfondimenti E la necessità Di rivivere Ricordi Ed impressioni Elusive Eccitando Una personalità Già sensibile E scossa Dall'orrenda Visione finale Che non è disposto A rivelare Neppure a me Sono le cause Immediate Dell'attuale Esaurimento Di Dunford Ma non potevamo Fare diversamente Non si può Lanciare un avvertimento Al mondo Senza aver studiato A fondo Tutte le informazioni Possibili E l'avvertimento Di per sé È una necessità Vitale Le presenze Che ancora Leggiano Nell'ignoto Continente Dove il tempo È sconvolto E le leggi Naturali Sembrano Sobvertite Rendono Imperativa L'opera Di dissuasione Nei confronti Di future Missioni Esplorative Sette La storia completa Per quanto è stato possibile Decifrare sino ad ora Apparirà fra breve In un bollettino ufficiale Della Miscatonici University Qui mi limiterò a riassumere i punti principali In maniera informale e discorsiva Mito o no Le sculture raccontavano come gli esseri della testa stellata Fossero arrivati dallo spazio profondo Su una terra Ancora senza vita e informazione E non furono i soli A visitare il pianeta Perché li seguirono altre entità Che a loro volta Si erano dedicate ai viaggi spaziali A quanto pareva Erano in grado di attraversare L'etere interstellare Su grandi ali membranose Fatto che confermerebbe Certe curiose leggende Che si narrano Sulle nostre colline E che mi sono state riferite Da un collega Appassionato di antichità Le creature Avevano vissuto a lungo In fondo al mare Costruendo fantastiche città E combattendo inaudite battaglie Contro avversari sconosciuti Con l'aiuto di complessi meccanismi Che impiegavano ignote fonti d'energia Evidentemente Le loro conoscenze scientifiche e tecniche Superavano di gran lunga Quelle attuali dell'uomo Anche se gli aspetti più spettacolari E avanzati della loro tecnologia Venivano usati solo in caso Di stretta necessità Alcuni bassorilievi Facevano pensare Che le creature Avessero attraversato Una fase intensamente tecnologica Su altri pianeti Ma vi avessero rinunciato Quando avevano scoperto Che si trattava Di un modo di vivere Dalle tristi conseguenze psicologiche L'eccezionale resistenza Dei loro organismi E la semplicità Dei relativi bisogni Li rendeva particolarmente adatti A mantenere un elevato tenore D'esistenza senza far ricorso A manufatti troppo sofisticati E addirittura A fare a meno di vestiti Se non in rari casi Come protezione contro gli elementi Fu nel mare Prima per cibarsene E poi per altri scopi Che crearono la vita Sul nostro pianeta Si servirono delle sostanze A disposizione E impiegarono metodi Sconosciuti da tempo Gli esperimenti più complessi Avvennero dopo la distruzione Di vari nemici cosmici Avevano fatto lo stesso Su altri pianeti Fabbricando non solo il cibo Che ritenevano necessario Ma vere e proprie masse Multicellulari protoplasmatiche Capaci di modellare I propri tessuti In ogni sorta di organi provvisori Il tutto sotto influsso ipnotico In questo modo Le creature stellate Si erano dotate di schiavi Ideali Per eseguire i lavori pesanti Necessari alla comunità Non c'è dubbio Che queste masse informi Siano ciò Che Abdullah al-Adred Definisce Shoggoth Nello spaventoso Necronomicon Benché persino Quel folle Non abbia mai Osato immaginare Che esistessero davvero Salvo nei sogni Drogati Di chi masticava Una certa pianta Alcaloide Quando gli antichi Dalla testa Forma di stella Ebbero sintetizzato Il cibo elementare Di cui avevano bisogno E prodotto Una buona quantità Di shoggoth Consentirono Che determinati gruppi Di cellule Si evolvessero In altre forme Di vita animale E vegetale Per servire I loro oscuri propositi Sterminare qualunque specie La cui presenza Diventasse Una fonte Di preoccupazione Con l'aiuto Degli shoggoth Che potevano espandersi Fino a trasportare Pesi colossali Le piccole E basse città Sottomarine Si trasformarono In enormi E impotenti Labirinti di pietra Non diversi Da quelli Che più tardi Sarebbero sorti Sulla terraferma Gli antichi Del resto Erano molto Adattabili In altre regioni Dell'universo Avevano vissuto Su una terra E conoscevano L'arte Della costruzione In superficie Studiando L'architettura Delle antichissime Città scolpite Sulle pareti Non diverse Da quelle Di cui stavamo Attraversando I corridoi deserti Da milioni D'anni Fummo colpiti Da un particolare Che non abbiamo Ancora tentato Di spiegare Neppure a noi stessi La sommità Degli edifici Che nella città Intorno a noi Era ridotta A rovine Informi Da milioni Di anni A causa Delle intemperie Era rappresentata Con estrema precisione Nei bassorilievi Si vedevano Masse di gugli Aghiformi Delicati ornamenti Ai vertici Dei coni E delle piramidi Strati Di sottili Dischi scanalati Che sormontavano Gli edifici Cilindrici Era esattamente Ciò che avevamo visto Nel mostruoso miraggio Proiettato Dalla città morta E che ci era apparso Mentre volavamo Sulle Iper scrutabili Montagne Della follia Avvicinandoci All'accampamento Del povero lake Eppure Strutture Del genere Erano scomparse Da migliaia O decine Di migliaia D'anni Sulla vita Degli antichi Nel mare O sulla terra Ferma Dove una parte Di essi migrò Si potrebbero Scrivere Volumi Quelli Rimaste In acque Poco profonde Avevano Continuato Usare Gli occhi Peduncolati All'estremità Dei cinque Tentacoli Maggiori Che sporgevano Dalla testa Avevano Praticato L'arte Della scultura E della scrittura Nel modo Consueto Per scrivere Si servivano Di blocchi Di cera Impermeabile E stilo Quelli Che vivevano Nelle profondità Dell'oceano Pur facendo Uso Di un misterioso Organismo Fosforescente Che dava luce Ottenevano L'equivalente Della vista Grazie a speciali Sensi Che operavano Attraverso Le ciglia Prismatiche Della testa Sensi Che in caso D'emergenza Parevano Funzionare Almeno in parte Anche Nell'oscurità Man mano Che gli antichi Si inabbissavano La loro cultura E la loro scrittura Erano cambiate In modo peculiare Servendosi Di processi chimici Di verniciatura Che i bassorilievi Non ci chiarirono Del tutto Ma che probabilmente Servivano A ottenere La fosforescenza Le creature Si muovevano Nel mare Nuotando E per questo Usavano Le membre laterali Crinoidi Oppure Propellendosi Con i tentacoli Inferiori Qui erano collegati Gli pseudopodi Di tanto in tanto Compivano Balzi più lunghi Con l'aiuto Di due O più paia D'ali avvolgibili Sulla terra Ferma Usavano Gli pseudopodi Per piccoli Spostamenti Ma per le distanze Maggiori Si alzavano In volo A grande altezza I numerosi E sottili Tentacoli In cui si ramificavano Le membre Crinoidi Erano Delicatissimi Forti Flessibili E molto accurati Dal punto di vista Della coordinazione Muscolare Nervosa In questo modo Le creature Potevano contare Su un'estrema Abilità Nello svolgimento Di tutti i lavori Manuali E nella creazione Artistica La robustezza Di quegli esseri Era incredibile Persino La tremenda Pressione Del fondo Dell'oceano Non l'impensieriva Quasi nessuno Di loro Moriva Se non Di morte Violenta E i luoghi Di sepoltura Erano pochi L'abitudine Di seppellire I defunti In posizione Verticale E di coronare La tomba Con un tumulo A cinque punte Che recava Un'iscrizione Fece nascere In Dunford E me Nuovi sospetti E dopo che le sculture Ci ebbero rivelato Questo particolare Dovemmo fare Una pausa Per riprenderci La loro riproduzione Avveniva per mezzo Di spore Come le Peridofite Del regno vegetale E questo Confermò Le ipotesi Di Lake Tuttavia Grazie alla loro Estrema resistenza E longevità Le creature Non avevano Bisogno Di moltiplicarsi Eccessivamente E non incoraggiavano Lo sviluppo Su larga scala Di nuovi protalli Salvo quando Dovevano colonizzare Nuove regioni I giovani Maturavano rapidamente E ricevevano Un'educazione Superiore A qualsiasi standard Che noi possiamo Immaginare Le attività estetiche E intellettuali Che erano Predominanti Avevano raggiunto Un livello Elevatissimo E prodotto Un sistema Di costumi E istituzioni Durature Che descriverò Nella mia prossima Monografia I loro costumi Variavano Leggermente In base All'ambiente Di vita Marino O terrestre Ma le basi E i punti Essenziali Erano gli stessi Benché capaci Come i vegetali Di ricavare Il proprio nutrimento Da sostanze inorganiche Gli antichi Preferivano Senz'altro Quelle organiche E in modo particolare Il cibo animale Quelli che vivevano In profondità Mangiavano Creature marine Non cucinate Ma sulla terra Cuocevano i viveri Praticavano la caccia E allevavano Il bestiame E per uccidere Si servivano Di armi appuntite Di cui la nostra Spedizione Ha notato L'effetto Su alcuni fossili D'ossa Sopportavano Magnificamente Qualsiasi temperatura Ed erano in grado Di vivere Nell'acqua Fino al punto Di congelamento Senza protezioni Di sorta Quando si era Poi avvicinato Il grande freddo Del Pleistocene Circa un milione Di anni fa Gli abitanti Della terraferma Erano ricorsi Tuttavia A misure speciali Come il riscaldamento Artificiale E alla fine Il gelo Sempre più terribile Gli aveva Risospinti Nel mare Secondo le leggende All'epoca Della preistorica Traversata Dello spazio Gli antichi Avevano assorbito Una vasta serie Di sostanze chimiche E si erano Resi indipendenti Dalla necessità Di mangiare Respirare O regolare La temperatura Ma quando venne Il gelo Del Pleistocene Avevano Dimenticato Il metodo E in ogni caso Non avrebbero Potuto perpetuare Quello stato Artificiale A tempo Indeterminato Date le loro Caratteristiche Di creature Semivegetali E che non si Accoppiavano Da un punto di vista Biologico Gli antichi Non avevano Bisogno Della fase familiare Che caratterizza La vita Dei mammiferi A quanto pare Vivevano In grandi comunità Organizzate Secondo i principi Della convivenza E dello spazio Ma anche Come poi deducemmo Dai bassorilievi Che rappresentavano Le occupazioni E gli svaghi Di individui Che vivevano insieme Dalla reciproca Con genialità L'arredamento Delle case Era basato Sul principio Di tenere tutto Al centro Delle grandi stanze E di lasciare Libere le pareti Per le decorazioni E le sculture L'illuminazione Nel caso Degli abitanti Della terraferma Era ottenuto Con un sistema Elettrochimico Tanto nel mare Che in superficie Usavano Curiose tavole Sedie E divani Simili a gabbie Cilindriche Perché quelle creature Riposavano E dormivano In posizione Eretta Con i tentacoli Ripiegati E ne mancavano Loro scaffali Per i blocchi Di fogli rilegati E coperti Di puntini Che evidentemente Costituivano I loro libri Il governo Era complesso E probabilmente Di tipo socialista Anche se a questo proposito I bassorilievi Non hanno potuto Darci nessuna sicurezza Il loro commercio Era fiorente Sia a livello locale Che fra diverse città Piccole superfici piatte A forma di stella Con i consueti puntini Rappresentavano Le monete Forse Le steatiti Più piccole Trovate dalla nostra Spedizione Erano Il loro denaro Sebbene La cultura Degli antichi Fosse in gran parte Urbana L'agricoltura Era praticata E così anche L'allevamento Del bestiame Sfruttamento minerario E una limitata Attività industriale Non erano sconosciuti I viaggi Erano frequenti Ma i flussi migratori Costanti Parevano rari Salvo nel caso Di movimenti di massa A scopo di colonizzazione Era questo Il metodo Con cui la razza Si espandeva Per gli spostamenti Personali Gli antichi Non facevano Ricorso a mezzi esterni Perché possedevano Capacità di locomozione Più che veloci Sia in aria Che nel mare O sulla terraferma I carichi pesanti Erano portati Da animali da Soma Gli scioggot Sotto il mare E nei periodi Più tardi Della vita terrestre Da una strana Varietà Di vertebrati primitivi Questi vertebrati Come un'infinità Di altre forme Di vita animale Vegetale Marina Terrestre E aerea Erano il prodotto Di un'evoluzione Non guidata Che agiva direttamente Sulle cellule vive Create dagli antichi E sfuggite Alla loro attenzione Il loro sviluppo Era stato permesso Perché non intralciava I progetti Della specie dominante Ma se una Qualsiasi forma di vita Fosse entrata In conflitto Con gli antichi Sarebbe stata Automaticamente Distrutta In alcune Delle sculture Più tarde Decadenti Ci colpì L'apparizione Di un mammifero Goffo E primitivo Che a volte Veniva usato Come cibo E a volte Come innocuo buffone Dai signori Della terraferma I tratti scimmieschi I tratti scimmieschi Di quell'essere E una remota Somiglianza Con l'uomo Erano Inconfondibili Pterodattili Con una formidabile Apertura alare E appartenente A una specie Fin qui ignota I paleontologi Avevano trasportato I grandi blocchi Di pietra Usati per costruire Le torri Delle città Di superficie La tenacia Con cui gli antichi Erano sopravvissuti Ai numerosi Cambiamenti geologici E alle convulsioni Della crosta terrestre Aveva del miracoloso Sembra che poche O nessuna Delle loro prime città Sia sopravvissuta Al periodo archeano Ma la civiltà Di quelle creature Continuò a fiorire E non ci fu interruzione Nella trasmissione Dei dati storici L'oceano antartico È il luogo In cui per la prima Volta si erano calati Sulla terra Ed è probabile Che ciò Sia avvenuto Non molto tempo dopo Che la materia Destinata a formare La luna Si fosse staccata Dal vicino Oceano pacifico Stando a una Delle mappe Scolpite sulle pareti Tutto il globo Era allora Sommerso dalle acque E le città di pietra Erano state fondate In punti Sempre più lontani Dall'antartico Ma questo processo Era avvenuto Nel corso Di millenni Un'altra mappa Che trovammo Mostrava grandi Quantità di terra Emersa Intorno al polo sud Dove È evidente Che alcuni Di quegli esseri Tentarono Di stabilire Avamposti Sperimentali Intanto I centri principali Venivano trasferiti Nelle profondità Marine circostanti In mappe successive Che mostrarono La spaccatura E infine La deriva Della massa Continentale Parti della quale Si spostarono Verso nord Confermano In modo sorprendente Le teorie Sulla deriva Dei continenti Formulate recentemente Da Taylor Wegener E Jolie Con l'emergere Di nuove terre Nel pacifico meridionale Si verificarono Eventi portentosi Alcune città marine Furono Irrimediabilmente Distrutte Ma non fu questa La calamità Peggiore Accadde infatti Che un'altra razza Creature di superficie Simili a piovre Che probabilmente Corrispondono Alla genia Preumana Di Cthulhu Giunse dalle infinità Del cosmo E provocò Una guerra mostruosa In seguito Alla quale Gli antichi Vennero ricacciati Nel mare Per loro Fu un colpo Tremendo Vista la tendenza Sempre più accentuata A stabilire Avamposti Sulla terraferma In seguito Venne fatta La pace E le nuove terre Furono concesse Alla progenie Di Cthulhu Mentre gli antichi Tennero per sé Il mare E le terre Di precedente Formazione Vennero fondate Nuove città In superficie Le più grandi Delle quali Nell'Antartico La regione Del primo approdo Rimaneva ancora La più sacra Da allora E come già Era avvenuto In passato L'Antartico Rimase il centro Delle civiltà Degli antichi E tutte le città Che la progenie Di Cthulhu Vi aveva costruito Furono distrutte Man mano Che venivano Identificate Poi Le terre Del pacifico Sprofondarono Di nuovo Portando negli abissi La spaventosa Città di pietra Di Raylie E le piovre Venute dal cosmo In questo modo Gli antichi Rimasero padroni Del pianeta Minacciati Soltanto Da un oscuro Timore Di cui Preferivano Non parlare In epoche più tarde Le loro città Sorsero in tutti gli oceani E le terre del mondo Per questo Nella monografia Che sto per pubblicare Raccomando che alcuni Archeologi Muniti dei macchinari Di pavodi Svolgono una serie Di scavi sistematici Anche in regioni Molto lontane Fra loro Attraverso i millenni La tendenza Degli antichi Fu sempre quella Di trasferirsi Dal mare Alla terraferma Movimento Incoraggiato Dal sorgere Di nuove Masse terrestri Che tuttavia Non portò All'abbandono Completo Dell'oceano Un'altra Causa Dello spostamento Verso la superficie Era la difficoltà Mai sperimentata Prima Di allevare E dirigere Gli scioggot Da cui la vita Sottomarina Dipendeva profondamente Con il passare Del tempo Come le sculture Confessavano Tristemente L'arte di creare Nuova vita Dalla materia Inorganica Era andata Perduta E gli antichi Avevano dovuto Accontentarsi Di rimodellare Forme già esistenti Sulla terraferma I grandi rettili Si erano rivelati Estremamente Trattabili Ma gli scioggot Marini Che si riproducevano Per fissione E avevano sviluppato Accidentalmente Un pericoloso Livello Di intelligenza Costituirono Per diverso tempo Un grave problema Fino a quel momento Gli antichi Gli antichi Gli avevano sempre Controllati Ipnoticamente Modellandone La robusta Struttura plastica In vari organi Appendici temporanee Ma con il tempo Gli scioggot Avevano imparato Ad automodellarsi E ad esercitare Questa facoltà Indipendentemente Imitando le forme Già note Per suggestione A quanto pare Avevano sviluppato Un cervello Più o meno stabile La cui autonomia E a volte Ostinata Capacità di volizione Scimmiottava Le istruzioni Impartite dagli antichi Senza Necessariamente Obbedirvi Le immagini Degli scioggot Presenti Nei bassorilievi Riempirono Dunford E me Di orrore E disgusto Si trattava Solitamente Di entità Informi E fatte Di una gelatina Viscosa Che ricordava Un agglomerato Di bolle Quando assumevano Un aspetto Vagamente sferico Il diametro Si aggirava Sui 5 metri E più In realtà Cambiavano Continuamente Forma E dimensioni Ed erano In grado Di sviluppare Appendici temporanee E di formare Quelli che Sembravano Organi Della vista Dell'udito E della parola A imitazione Dei loro padroni Questo processo Avveniva Spontaneamente O per suggestione Verso poi La metà Del Permiano Circa 150 milioni Di anni fa Queste peculiari Creature Erano diventate Del tutto Intrattabili E gli antichi Che vivevano Nel mare Avevano dovuto Combattere Una vera E propria Guerra Di riassoggettamento Nei loro Confronti Nonostante L'abisso Dei secoli Che ci separava Le rappresentazioni Della guerra E del modo In cui Gli scioggot Abbandonavano Le loro vittime Decapitate E coperte Di umori Viscosi Avevano una capacità Quasi portentosa Di suscitare Il terrore Contro i ribelli Gli antichi Avevano usato Potenti armi Che causavano Scompensi molecolari E in definitiva Avevano riportato Una vittoria Completa Le sculture Le sculture Successivamente Dipingevano Un periodo In cui Gli scioggot Venivano Catturati E addomesticati Dai padroni In armi Un po' Come i cavalli Selvatici Dell'Ovest Americano Sono stati Addomesticati Dai cowboy Benché Durante la rivolta Gli scioggot Avessero mostrato Una certa capacità Di vivere Fuori dall'acqua Questo passo Non venne Incoraggiato Dai padroni Poiché La loro utilità Sulla terraferma Difficilmente Avrebbe compensato Gli sforzi Necessari A mantenervi Durante Il giurassico Gli antichi Avevano dovuto Affrontare Altre difficoltà Rappresentate Da una nuova Invasione spaziale Questa volta Si trattava Di creature Metafunghi E metacrostacei Che provenivano Da un pianeta Identificabile Con il lontano Plutone Da poco Scoperto anche Dai nostri astronomi Le creature In questione Sono senz'altro Le stesse Di cui parlano Certe oscure Leggende del nord E che nell'Himalaya Sono ricordate Come Mico Gli abominevoli Uomini delle nevi Per combattere I nuovi nemici E per la prima volta Dopo il loro arrivo Sulla terra Gli antichi Tentarono di volare Nello spazio interplanetario Ma nonostante I laboriosi preparativi Scoprirono Che non riuscivano A lasciare L'atmosfera terrestre Qualunque fosse Il segreto Del volo interstellare Era per loro Perduto per sempre Alla fine della guerra I Migo Erano riusciti A scacciare Gli antichi Da tutte le regioni Del nord Anche se avevano Potuto ben poco Contro quelli Che vivevano nel mare Poco a poco La vecchia razza Cominciò La sua lenta Ritirata Verso l'originario Ambiente antartico Dalle raffigurazioni Delle battaglie Notammo con sorpresa Che la progenie Di Tulu E i Migo Sembravano composti Di materia Molto diversa Da quella Che sappiamo essere La sostanza Degli antichi Capaci quindi Di trasformazioni Impossibili Ai loro avversari Questi invasori Provenivano Originariamente Da abissi Anche più lontani Dello spazio cosmico A parte La loro Incredibile Robustezza E le peculiari Facoltà vitali Gli antichi Erano esseri Materiali Senz'altro Originatisi Nel continuo Spazio temporale Che conosciamo Degli altri Possiamo solo Azzardare la provenienza Col fiato Sospeso Tutto ciò Ovviamente Dando per scontato Che la provenienza Extraterrestre E le anomalie Attribuite agli invasori Non siano Pura leggenda È possibile Che gli antichi Abbiano inventato Un mito Cosmico Per giustificare Le loro occasionali Sconfitte Perché è ovvio Che orgoglio E interesse Per la storia Costituivano Le loro principali Caratteristiche Psicologiche Altro dato Significativo È che i loro Annali Non facciano Alcuna menzione Delle numerose E potenti Razze evolute Le cui Influenti Culture E grandiose Città Figurano Costantemente Nelle oscure Leggende Del passato Numerose mappe Sculture Rappresentavano I cambiamenti In corso Sulla terra Attraverso Le ere Geologiche In alcuni Casi La scienza Che conosciamo Dovrà essere Rivista Mentre in altri Le sue più audaci Teorie Trovano Una splendida Conferma Come ho già detto L'ipotesi Di Taylor Wegener E Jolie Secondo Cui Tutti I continenti Sarebbero Frammenti Di un'originaria Massa antartica Che si spezzò A causa Della forza Centrifuga E andò Alla deriva Su una più Bassa Superficie Viscosa Ipotesi Suggerita Dal contorno Complementare Dell'Africa E del Sud America E dalla Conformazione Delle grandi Catene Di montagne Trovò Una straordinaria Conferma In questa Fonte Impensata Le mappe Che rappresentavano Il mondo Del carbonifero Oltre 100 milioni Di anni fa Mostravano Una serie Di fratture Spaccature Che più tardi Avrebbero separato L'Africa Dal continente Un tempo Ininterrotto Che comprendeva L'Europa Ovalusia Come conosciuta In certe antiche E sinistre leggende L'Asia Le Americhe E l'Antartico Altre Raffigurazioni Del mondo La cui Più significativa Risaliva Al periodo In cui Era stata Fondata La città Dove ci trovavamo Mostrava Gli attuali Continenti Ben differenziati Nella mappa Più recente E che più o meno Risaliva Al Pio Cene Era riconoscibile Con una certa Approssimazione Il mondo Attuale Nonostante I legami Che ancora Univano Alaska E Siberia Nord America Ed Europa Tramite La Groenlandia E Sud America E Antartico Attraverso La terra Di Graham Nelle rappresentazioni Del Carbonifero Le grandi città Di pietra Degli antichi Erano simboleggiate In tutto il mondo Sia in fondo al mare Che sulla terraferma Ma nelle mappe successive La graduale recessione Verso l'Antartico Diventava Evidente La mappa Più recente Che trovammo Quella del Pliocene Non segnalava Città in superficie Tranne che Nel continente Antartico E all'estremità Meridionale Del Sud America E anche Le metropoli Sottomarine Non si spingevano Oltre il cinquantesimo Parallelo Di latitudine sud Gli antichi Avevano perso Ogni interesse Per il mondo Settentrionale Fatta eccezione Per lo studio Delle coste Che avevano Intrapreso Probabilmente Nel corso Di lunghe Esplorazioni Rese possibili Dalle loro ali Membranose E simili a Ventagli La distruzione Delle città Durante la formazione Di nuove catene montuose L'allontanamento Dei continenti Dovuto alla forza Centrifuga I grandi terremoti Maremoti E altri fenomeni Naturali Erano comunemente Registrati Negli annali Degli antichi Ed era curioso Osservare come Col passare Del tempo Un numero Di insediamenti Sempre minore Sostituisse Quelli precedenti L'immensa Megalopoli Defunta Che ci circondava Sembrava L'ultimo Centro Importante Della razza Costruito Nel Cretaceo Sorgeva Poco distante Dal luogo In cui Un immane Sconvolgimento Della terra Aveva distrutto Un insediamento Ancora più vasto A quanto Sembra La regione In cui ci trovavamo Era la più sacra Perché si riteneva Che lì Fossero scesi I primi antichi Stabilendosi Sul fondo Del mare Nella nuova città Molti edifici Della quale Erano riconoscibili Nei basso rilievi Ma che si estendeva Per oltre 180 chilometri Ai piedi Della catena Di montagne In ogni direzione E fino ai limiti Della nostra Ricognizione aerea Si riteneva Che fossero Conservate Alcune pietre sacre Provenienti Dalla prima Metropoli Costruita In fondo al mare E che erano Venute alla luce Dopo Innumerevoli secoli Nel corso Del generale Sollevamento Degli strati profondi 8 Ovviamente Danfort e io Studiamo con particolare interesse E un senso Indescrivibile Di timore reverenziale Tutto ciò Che riguardava La zona In cui ci trovavamo Di questo Materiale locale Esisteva una notevole Abbondanza E negli intricati Livelli inferiori Della città Fummo abbastanza Affortunati Da trovare Una casa Di tarda costruzione Le cui pareti Pur danneggiate Da un crepaccio Che si era aperto Nelle vicinanze Contenevano Sculture Di stile decadente Che continuavano La storia Della regione Molto più in là Del pliocene Epoca A cui risaliva La mappa Da cui avevamo tratto Le nostre ultime informazioni Su quel mondo Preumano Fu anche L'ultimo edificio Che esaminammo Nei particolari Perché ciò Che scoprimmo Al suo interno Ci diede Un nuovo E immediato Obiettivo Ci trovavamo Certamente In uno degli angoli Più strani Tremendi E fantastici Del globo Era infinitamente Più antico Di qualsiasi Terra esistente E nacque in noi La convinzione Che la desolata Distesa di ghiaccio Su cui eravamo Atterrati Non fosse altro Che Il favoloso Altopiano di Leng Luogo di incubi Cui persino Il folle autore Del Necronomicon Non accenna Volentieri La grande catena Di montagne Era lunghissima Cominciava Come una modesta Serie di elevazioni Nella terra Di Liutpold Sulla costa Del mare Di Weddell E attraversava Praticamente Tutto il continente La parte Più alta Formava Un arco Formidabile Che andava Da 82 gradi Di latitudine E 60 gradi Di longitudine Est A 70 gradi Di latitudine E 115 Di longitudine Est Con la parte Concava Rivolta Al nostro Accampamento E l'estremità Marina Nella regione Delle lunghe Coste ghiacciate Di cui Wilkes E Mouson Hanno intravisto I promontori Nel circolo Antartico Ma ci aspettava Un'anomalia Della natura Ancora più Mostruosa Ho detto Che queste montagne Sono più alte Dell'Himalaya Ma il contenuto Delle sculture Mi impedisce Di affermare Che siano Le più alte Del mondo Questo minaccioso Primato Spetta Qualcosa Che metà Dei bassorilievi Non riproducono Affatto Come per timore E altri Rappresentano Con evidenti Ripugnanza E trepidazione Sembra Che una parte Dell'antico Continente La prima Sorta dalle acque Dopo che la terra Si fu separata Dalla luna E che gli antichi Giunsero dalle stelle Fosse temuta Perché ospitava Una misteriosa E oscura Fonte Del male Le città Che vi erano State costruite Erano cadute Prima che venisse Il loro tempo E quando i primi Sconvolgimenti Su larga scala Avevano scosso La regione Nel periodo Comanciano Una spaventosa Catena di montagne Era sorta Improvvisamente Verso il cielo In mezzo Al caos E al frastuono Dell'Apocalisse Allora E solo allora La terra Aveva conosciuto Le sue più alte Terribili vette Se la scala Delle sculture Era attendibile Quelle orrende Formazioni Dovevano aver superato I 15.000 metri E avevano raggiunto Dimensioni Inimmaginabili Anche per quelle Montagne Della follia Si estendevano A quanto sembrava Da 77 gradi Di latitudine E 70 gradi Di longitudine Est A 70 gradi Di latitudine E 100 gradi Di longitudine Est Meno di 500 Kilometri Dalla città Morta Se non fosse Stato per L'eterna Bruma O palescente Ne avremmo Viste Le terrificanti Cime Occidente L'estremità Settentrionale Doveva essere Ugualmente Visibile Dalla lunga Linea Costiera Del circolo Antartico Nella terra Della regina Maria Una parte Degli antichi Ai tempi Della decadenza Aveva preso L'abitudine Di pregare Le gigantesche Montagne Ma nessuno Vi si era Avvicinato O aveva usato Immaginare Cosa si trovasse Al di là Nessun essere Umano Le ha mai viste E considerate Le emozioni Suscitate Dagli antichi Bassorilievi Ho pregato Perché questo Non avvenga mai Lungo la costa E al di là Delle montagne Vi sono più Modeste elevazioni Che in qualche modo Le proteggono Quelle della terra Della regina Maria E del Kaiser Guglielmo Ringrazio il cielo Che nessuno Sia riuscito A scalarle Non sono Scettico Come un tempo Sui vecchi Racconti Di paura E non rido Del concetto Espresso Dai venerabili Scultori Per cui I fulmini Ogni tanto Si attardavano Di proposito Sulle gigantesche Montagne E un bagliore Inesplicabile Splendeva Da uno dei pinnacoli Per tutta la durata Della notte polare Può esserci qualcosa Di profondamente vero E mostruoso Nelle leggende Pnacotiche Che riguardano Il Kadat Nella distesa gelata Ma il territorio In cui ci trovavamo Non era meno Straordinario Anche se su di esso Non pesava Un'indicibile maledizione Subito dopo La fondazione Della città La catena di montagne Più vicina Era divenuto Il luogo prescelto Per la costruzione Dei templi principali E molti I bassorilievi Mostravano Le torri fantastiche E grottesche Che avevano sfidato Il cielo Dove ora Non restavano Che cubi E bastioni Nel corso Dei secoli Erano apparse Le caverne Poi modellate In maniera Da funzionare Come locali Aggiuntivi Dei templi Con il procedere Dei millenni Tutte le vene Calcare Della regione Erano state Scavate Dalle acque Sotterranee In modo Che la catena Di montagne I contrafforti Più bassi E le pianure Sottostanti Erano diventati Una vera e propria Rete di gallerie E di grotte Comunicanti Molti bassorilievi Illustravano Esplorazioni Nel sottosuolo E culminavano Tra le terre E la terra E la terra E totten Sulla costa Di Wilkes Nel punto In cui Descriveva Questa curva Il fiume Aveva eroso Il calcare Dei promontori E col tempo Le sue correnti Si erano unite Alle acque Che scorrevano Nelle caverne Del sottosuolo Scavando Insieme ad esse Un abisso Ancora più profondo Finalmente Le acque Del fiume Si erano Riversate Completamente Nelle cavità Delle montagne E il vecchio letto Che correva Verso l'oceano Era rimasto Asciutto La maggior parte Della città In cui ci trovavamo Era stata costruita Su questo Antico Percorso Gli antichi Avevano capito Quello che era accaduto Ed esercitando Il loro vivo Senso artistico Avevano scolpito A guisa di colonne Le alture Fra cui le acque Si gettavano Nella notte eterna Un tempo Una serie Di punti di pietra Aveva attraversato Il fiume Che era lo stesso Di cui avevamo visto Il letto asciutto Dall'aeroplano La sua posizione Nelle diverse Rappresentazioni Della città Ci aiutò A orientarci Nello scenario Cangiante Dei secoli E delle ere perdute E come risultato Riuscimmo a schizzare Una mappa Abbastanza scrupolosa Dei suoi luoghi Notevoli Piazze Edifici principali Eccetera Che avrebbe potuto Guidarci In future esplorazioni Fummo in grado Di ricostruire Con la fantasia L'aspetto Della stupefacente Metropoli Come era stata Un milione Dieci milioni O cinquanta Milioni Di anni fa Perché i bassorilievi Rivelavano Con chiarezza Qual era l'aspetto Degli edifici Delle montagne Delle piazze Dei sobborghi Del paesaggio E della lussureggiante Vegetazione Del terziario Doveva essere Stata meravigliosa Addirittura Sublime E pensando A questo Riuscì quasi A dimenticare Il senso D'agghiacciante Oppressione Con cui La disumana Antichità Delle mura E la loro Enormità Solitudine Alienazione Opprimevano Il mio animo Nel crepuscolo Polare Stando ai bassorilievi Anche gli abitanti Della città Avevano conosciuto La morsa Del terrore Perché c'era Una scena oscura E ricorrente In cui gli antichi Erano ritratti Nell'atto di fuggire Spaventati Davanti a un oggetto Che non veniva Mai raffigurato Ma che era stato Trovato nel Grande fiume Secondo le indicazioni Degli scultori L'oggetto Era giunto a valle Dalle foreste Di Cicade Che coprivano Le orrende montagne Dell'Occidente Ma solo Nella casa Di epoca più tarda E ornata Di sculture decadenti Riuscimmo a farci Un'idea Della calamità finale Che aveva condotto All'abbandono Della città Non c'è dubbio Che in altri edifici Esistessero numerose Sculture Dello stesso periodo Pur tenendo conto Che le energie creative E le aspirazioni Della vecchia razza Fossero sensibilmente Diminuite A causa delle incertezze E turbolenze Dei tempi Anzi Subito dopo Trovammo le prove Dell'esistenza Di questo materiale Tuttavia L'unica sequenza Che vedemmo direttamente Fu quella Della vecchia casa E benché Ci proponessimo Di cercare ancora Ciò che scoprimmo Ci indusse Come ho detto A dedicarci Ad altri obiettivi Ci sentivamo Vicini A un limite Tra gli antichi La speranza Di occupare a lungo L'antica metropoli Si era spenta E si poteva Immaginare Che le sculture Murali Prima o poi Cessassero Definitivamente E colpo finale Ovviamente Era stato Il grande freddo Che aveva soggiogato La terra E che non ha più Abbandonato Gli sventurati poli Il grande freddo Che all'altra Estremità del mondo Avrebbe messo fine Alle terre favolose Di Lomar E Iperborea È difficile Stabilire In termini Di anni Quando Si è cominciata Questa tendenza Nell'Antartico Oggi calcoliamo Che il periodo Delle ere glaciali Abbia avuto inizio Mezzo milione Di anni fa Ma sui poli La maledizione Deve essersi abbattuta Molto prima Le stime quantitative Sono per forza Di cose Ipotetiche Ma è probabile Che le sculture decadenti Risalgono Molto meno Di un milione Di anni fa E che l'abbandono Della metropoli Si è avvenuto Molto prima Della data Da cui si fa iniziare Convenzionalmente Il Pleistocene Ovvero Mezzo milione Di anni Secondo le stime Generalizzate A tutto il pianeta I bassorilievi Del periodo decadente Mostravano Un complessivo Diradarsi Della vegetazione E la tendenza Degli antichi A vivere Sempre meno All'aperto Nelle case Comparivano Apparecchiature Per il riscaldamento E i viaggiatori Costretti a spostarsi D'inverno Erano imbaccuccati In vesti protettive Nelle sculture Più tarde Il sistema di strisce Continue Era spesso Interrotto Da cartigli Questi ultimi Dipingevano Costanti flussi Migratori Verso i luoghi Più caldi Raggiungibili Una parte Della popolazione Fuggiva Nelle città Sottomarina A largo Della costa Lontana Altri Approfittavano Del sistema Di caverne calcare Scavate Nelle montagne E si rifugiavano Nell'abisso oscuro Solcato Dalle acque Sotterranee In ultima analisi Fu questa La regione Più attivamente Colonizzata La cosa Era dovuta Senz'altro Al fatto Che la zona Era considerata Sacra Ma anche Alla possibilità Di continuare A usare i tempi Costruiti Sulle montagne E raggiungibili Attraverso il dedalo Di gallerie Inoltre D'estate Era ancora possibile Abitare nella metropoli E usarla Come centro Di comunicazioni Con le miniere Vecchie e nuove dimore Furono efficacemente Collegate Attraverso una serie Di ampliamenti E miglioramenti Delle vie tradizionali Numerose gallerie Vennero scavate Ex novo Per unire la metropoli E l'abisso Vennero creati Lunghi corridoi Ripidamente Inclinati Verso il basso Di cui segniamo Accuratamente Le imboccature Sulla mappa Che stavamo compilando E in cui Cercavamo di valutare Posizioni E distanze Secondo le stime Più attendibili Era ovvio Che almeno due Di questi tunnel Si trovavano A una distanza Ragionevole Dal punto In cui eravamo Entrambi Si aprivano Nella parte Della metropoli Vicina alle montagne Uno A meno di un chilometro Verso l'antico Corso del fiume E l'altro Nella direzione opposta A una distanza Forse doppia Sembra Che in alcuni punti Il mare Sotterraneo Lambisse Tratti Di terra asciutta Ma gli antichi Costruirono La nuova città Sotto le onde Una scelta Dettata senza dubbio Dal desiderio Di avere maggiore Uniformità Nella distribuzione Del calore La profondità Del mare Sotterraneo Era considerevole E il calore Interno Della terra Ne avrebbe garantito L'abitabilità A tempo indeterminato Sembra Che quegli esseri Non avessero Difficoltà Ad adattarsi A una vita Parzialmente O completamente Sottomarina Perché non avevano Mai permesso Che il loro sistema Di branchie Si atrofizzasse Numerose sculture Mostravano Le frequenti visite Che avevano reso I confratelli Che abitavano Sott'acqua E la loro abitudine Di fare il bagno Sul fondo Del grande fiume L'oscurità Dell'abisso Infine Non poteva Rappresentare Un ostacolo Per una razza Abituata Alle lunghe notti Antartiche Per decadente Che fosse Il loro stile Nel rappresentare La costruzione Della nuova città Sotto il mare Sotterraneo I bassodillievi Acquistavano Un carattere Epico Gli antichi Si erano dedicati Al progetto Scientificamente Estraendo Il materiale Insolubile Dal cuore Delle montagne E valendosi Di operai Esperti Fatti arrivare Dalla più vicina Metropoli Sottomarina In questo modo La costruzione Sarebbe avvenuta Secondo la miglior Tradizione Gli operai Avevano portato Con sé Tutto ciò Che occorreva All'impresa Tessuti Scioggot Per produrre Gli schiavi Destinati a Trasportare I blocchi di pietra E le bestie Da soma Di cui la nuova città Avrebbe avuto bisogno Materia protoplasmica Da modellare In organismi Fosforescenti Destinati All'illuminazione Finalmente Sul fondo Di quell'ostige Primordiale Era sorta Una possente Metropoli Architettonicamente Simile Alla gemella In superficie Era stata edificata Con criteri Che mostravano Ben pochi Segni di decadenza Perché Ispirati A rigorosi Principi I nuovi Scioggot Si svilupparono A dimensioni Enormi E raggiunsero Un'eccezionale Intelligenza I bassorilievi Li rappresentavano Nell'atto Di ricevere Ed eseguire Gli ordini Con stupefacente Rapidità Conversavano Con gli antichi Imitandone La voce Un suono Acuto E musicale Dalla scala Piuttosto ampia Se la dissezione Effettuata Da lake Era giunta Conclusione Attendibili E obbedivano A ordini Vocali Più che A comandi Ipnotici Come invece Era avvenuto In tempi Precedenti Nonostante Questo Venivano Tenuti Ammirevolmente Sotto Controllo Gli organismi Fosforescenti Davano luce Con molta Efficacia E senza dubbio Compensavano La perdita Delle familiari Aurore polari Che apparivano Di notte Nel mondo Esterno Arte E decorativismo Venivano Ancora Praticati Benché Con gusto Ormai Tardo Gli antichi Si erano Resi conto Di questa Decadenza E in molti Casi Avevano Anticipato La politica Di Costantino Il Grande Trasportando Le migliori Sculture Della città Di superficie In quella Nuova Proprio Come L'imperatore In un analogo Periodo Di declino Aveva privato La Grecia E l'Asia Delle opere Più belle Per dare Alla capitale Bizantina Uno splendore Maggiore Di quello Che la sua Gente Fosse in grado Di creare Che la città Di superficie Non venisse Spogliata Del tutto Si deve Al fatto Che da principio Non era stata Completamente Abbandonata Quando ciò Avvenne Certo Prima Che le glaciazioni Fossero Troppo avanzate Gli antichi Si erano Abituati Alla loro Arte decadente O avevano Smesso Di riconoscere I meriti Superiori Di quella Del passato In ogni caso Le rovine Silenziose Da milioni D'anni Che ci circondavano Non erano State private Di tutti I loro Capolavori Anche se Singole statue E tutti gli oggetti Mobili Erano stati Portati via I cartigli E rilievi Che raccontavano Questa storia Furono Come ho detto Gli ultimi In cui ci imbattemmo Nella nostra Limitata ricerca E ci lasciarono Con l'immagine Degli antichi Che alteravano La loro esistenza Fra la città Sulla terra D'estate E il mare Sotterraneo D'inverno E qualche volta Commerciavano Con le città Sommerse Al largo Della costa Antartica Ormai Dovevano Aver capito Che per le terre Di superficie Non c'era scampo E le sculture Rappresentavano In vari modi Le spietate Conquiste Del freddo La vegetazione Declinava E le terribili Nevi D'inverno Non si scioglievano Più del tutto Nemmeno Nel cuore Dell'estate I sauri Allevati dagli antichi Come bestiame Erano quasi Tutti morti E i mammiferi Non se la cavavano Meglio Per continuare A lavorare Sulla terraferma Avevano dovuto Adattare Alla vita Di superficie Gli amorfi Scioggot Che mostravano Una bizzarra Resistenza Al freddo Una risorsa A cui gli antichi Avevano sempre Preferito Rinunciare Ormai Il grande fiume Era morto E l'oceano Aveva perduto La maggior parte Dei suoi abitanti Eccezione fatta Per foche E balene Gli uccelli Erano volati Altrove Tranne i grandi E grotteschi Pinguini Quello che era Accaduto in seguito Potevamo solo Immaginarlo Per quanto tempo Era sopravvissuta La città Nel mare interno Era ancora laggiù Cadaveri di pietra Nel buio eterno Le acque sotterranee Erano gelate A loro volta Qual era stato Il destino Della metropoli Sul fondo Dell'oceano Qualcuno Degli antichi Si era avventurato A nord Forse cercando Di precedere La calotta Avanzante Dei ghiacci L'attuale geologia Non mostrava Nessuna traccia Della loro esistenza E gli spaventosi Migo Erano stati A lungo Una minaccia Nel mondo Di superficie Dell'emisfero Settentrionale Potevamo Essere sicuri Di ciò Che si annidava Ancora oggi Negli abissi Oscuri E insondati Dei più profondi Oceani della terra Quegli esseri Erano stati Capaci Di sopportare Qualunque tipo Di pressione E a volte I marinai Hanno ripescato Oggetti Molto strani E la teoria Della balena assassina Ha veramente Risolto il mistero Delle crudeli Misteriose Cicatrici Trovate sulle foche Dell'antartico Una generazione fa Gli esemplari Trovati dal povero Lake Non suscitavano Questi interrogativi Perché sembrava Che fossero vissuti In un periodo Molto antico Della storia Della città Stando al punto In cui erano stati Ritrovati Non avevano Meno di 30 Milioni di anni E riflettemmo Che a loro tempo La città Nel mare sotterraneo E addirittura L'abisso In cui si estendeva Non esistevano Affatto Quegli esseri Avrebbero ricordato Una scena Più antica Con abbondante Vegetazione Del terzario Ovunque Una città Più giovane In cui fiorivano Le arti E il grande fiume Che piegava nord Lungo la base Della possente catena Di montagne Verso il lontano Oceano tropicale Eppure Gli esemplari Continuavano A porci Degli interrogativi Per esempio Dov'erano Gli otto Campioni perfetti Che mancavano Dal campo Sconvolto Di Lake C'era qualcosa Di anormale In tutta la faccenda Gli strani Particolari Che con tanto Zelo Avevamo cercato Di attribuire Alla follia Di qualcuno Le tombe Spaventose E le quantità E la natura Del materiale Scomparso E Ghedni E l'impossibile Durezza Di quei mostri Primigeni E la straordinaria Caratteristica Vitale Che le sculture Ci avevano Rivelato Come un dono Tipico Di quella Razza Nelle ultime ore Danfort E io Avevamo visto Più che a sufficienza Ed eravamo pronti A credere Ai più mostruosi Incredibili Segreti Della natura Primitiva E a mantenere Il silenzio 9 Ho detto Che dopo aver esaminato Le sculture più tarde Cambiamo i nostri programmi La causa di questa decisione Naturalmente Furono i tunnel Scavati Nell'oscuro mondo sotterraneo Di cui Fino a quel momento Non avevamo Sospettato L'esistenza Ma che ora Eravamo ansiosi Di localizzare Ed attraversare Stando alla scala Dei bassorilievi Deducemmo Che una ripida discesa Di circa un chilometro e mezzo Ci avrebbe portati Sull'orlo Delle pareti vertiginose E immerse nel buio Che sovrastavano L'abisso Lungo i fianchi rocciosi Esistevano sentieri Che gli antichi Avevano perfezionato E che portavano Alle sponde rocciose Dell'oceano Segreto E notturno Era impossibile Una volta Che se n'era venuti A conoscenza Resistere Alla tentazione Di osservare Dal vero Quelle profondità Favolose Ma ci rendemmo conto Che dovevamo Affrettarci Se volevamo Riuscirci Questa volta Erano le 8 di sera E non avevamo Sufficienti batterie Di ricambio Per lasciare Ininterrottamente Accese le torce Avevamo eseguito Gran parte Dei nostri studi E schizzi Sotto il livello Del ghiacciaio E le batterie Avevano già dovuto Sopportare 5 ore Di uso continuo La speciale formula Cellula secca Ci consentiva Di mantenerle In attività Per altre 4 ore Ma se avessimo Ottenuto una torcia Spenta Salvo nei momenti Più interessanti O difficili Saremmo riusciti A prolungare Considerevolmente Quel margine Di sicurezza Avventurarsi Nelle ciclopiche Catacombe Senza luce Era assurdo Dunque Per portare a termine Il viaggio Avremmo dovuto Rinunciare A decifrare Le sculture Sulle pareti Allora Pensavamo Di tornare Nella città Per molti giorni Consecutivi Forse settimane Di studi E riprese fotografiche Da tempo La curiosità Aveva avuto La meglio Sull'orrore Ma ora come ora Dovevamo affrettarci La quantità Di carta Da seminare Lungo il cammino Non era infinita E non ce la sentivamo Di sacrificare I tacquini Di riserva O la carta Da disegno Tuttavia Ci privammo Lo stesso Di un grosso Quaderno Nella peggiore Delle ipotesi Avremmo staccato Dei pezzetti Di roccia E anche se Avessimo perso L'orientamento Ci sarebbe rimasta La possibilità Di tornare Alla luce Del giorno Attraverso L'uno O l'altro Dei corridoi Tutto Stava ad avere Il tempo Di fare Un tentativo Dopo l'altro Finalmente Ci avviammo Ansiosi Nella direzione Della galleria Più vicina Stando alle sculture Da cui avevamo Ricavato la nostra mappa L'imboccatura Del tunnel Non poteva essere Distante Più di 500 metri Dal punto In cui eravamo E lo spazio Intermedio Era occupato Da robusti edifici Molto probabilmente Attraversabili Anche se sotto Lo strato Di ghiaccio L'apertura Si trovava Nell'angolo Più vicino Alla base Delle montagne Di un vasto Locale Seminterrato All'interno Di un grande edificio A 5 punte Che evidentemente Era servito A scobi pubblici E forse cerimoniali E che tentammo Di identificare In base ai ricordi Di ciò Che avevamo visto In volo Nessun edificio Del genere Ci tornò Alla memoria Concludemmo Che le parti superiori Dovevano essere State gravemente Danneggiate O che l'intera struttura Si era inabissata In una spaccatura Nel ghiacciaio Che avevamo osservato Se era vera Quest'ultima ipotesi Era probabile Che la galleria Fosse ostruita E avremmo dovuto Cercare l'altra Meno di due chilometri A nord Il corso del fiume Che si frapponeva Fra noi E le gallerie meridionali Ci impediva Di metterci alla ricerca Di queste ultime Nel viaggio attuale Del resto Se entrambi Tunnel più vicini Fossero stati ostruiti Era improbabile Che le nostre batterie Ci avrebbero dato Il tempo Di cercare Il successivo A quasi Due chilometri Di distanza Dal secondo Ci facemmo Allora strada Nel labirinto oscuro Con l'aiuto Di mappa E bussola Attraversammo Stanze E corridoi In ogni stadio Di rovina E di conservazione Salimmo rampe Camminammo Su piani E ponti Per scendere Di nuovo Dalla parte opposta Incontrammo Porte incrostate E mucchi Di detriti Affrettandoci Ogni tanto In ambienti Ben conservati E quasi Miracolosamente Intatti Inboccammo Strade sbagliate E a volte Dovemmo Tornare indietro In questi casi Raccoglievamo I pezzetti Di carta Che portavamo Nel vicolo cieco E più volte Raggiungemmo Il fondo Di un pozzo Nudo Attraverso cui La luce del giorno Si riversava Abbondantemente Oppure con avarizia Durante il cammino Le pareti scolpite Ai nostri fianchi Ci tentavano Costantemente Molte Avranno raccontato Episodi Di immensa Importanza storica E solo La prospettiva Di tornare in seguito Ci permetteva Di abbandonarle Alle nostre spalle Raramente Allentavamo Il passo E accendevamo La seconda torcia Se avessimo Avuto maggiori Riserve Di pellicola Ci saremmo fermati A fotografare Alcuni bassodilievi Ma copiarle a mano Era un lavoro Troppo lungo E dovemmo rinunciare Eccomi allora Di nuovo Ad un punto In cui la tentazione Di tirarmi indietro Di dire E non dire Si fa molto forte Tuttavia Per giustificare Le mie riserve Contro qualsiasi Esplorazione Del continente È necessario Raccontare anche il resto Eravamo arrivati Sia pur lentamente Al luogo In cui calcolavamo Che dovesse aprirsi L'imboccatura Della galleria Attraversammo Un ponte di pietra Sopraelevato All'altezza Di circa Due piani Che conduceva All'estremità Di un edificio A punte E scendemmo In un precipitoso Corridoio Ricco di elaborate Sculture decadenti Probabilmente rituali La cui lavorazione Sembrava risalire A un'epoca Molto tarda Erano circa Le otto e mezza Di sera Quando Il sensibile olfatto Di Dunford Ci avvertì Di qualcosa Di strano Se avessimo Avuto un cane L'avvertimento Ci sarebbe arrivato Anche prima In un primo momento Non riuscimmo A stabilire Che cosa Non andasse Nell'aria Fino un attimo Prima cristallina Ma dopo pochi secondi La memoria Ci aiutò Con fin troppa Precisione Cercherò Di descrivere La cosa Senza tirarmi Indietro Si trattava Di un odore Un odore Vagamente Sottilmente E inconfodibilmente Simile a quello Che ci aveva nauseati Quando avevamo Aperto la folle Tomba del mostro Sezionato Da Lake Naturalmente Non demmo La scoperta Per scontata Come può sembrare Ora Esistevano parecchie Spiegazioni alternative E per un po' Restammo A parlottare Decidemmo Di non tornare Indietro Senza aver Prima indagato E dopo esserci Spinti Fino a quel punto Ci saremmo ritirati Solo di fronte A un disastro Irreparabile Ma ciò che sospettavamo Era pazzesco Incredibile Cose del genere Non avvengono Nel mondo normale Fu l'istinto Che prescinde Dalla ragione A farci spegnere La torcia Perché non eravamo Più tentati Dalle sculture Sinistre E decadenti Che ghignavano Minacciose Da quelle mura Oppressive E fu l'istinto A farci continuare Il cammino In punta di piedi Avanzando A piccoli passi Sul pavimento Sempre più In gombro Di macerie E di detriti Gli occhi E l'olfatto Di Danforth Si rivelarono Superiori Ai miei Perché dopo Aver attraversato Alcuni archi Semi soffocati Che conducevano Alle stanze E ai corridoi Del pian terreno Fu lui A notare Lo strano Aspetto Dei detriti Non sembravano Abbandonati Da migliaia O milioni Di anni E quando Riaccendemmo Con cautela Una delle torce Vedemmo Che in mezzo Alle macerie Era stato Ricavato A quanto pare Di recente Una specie Di sentiero La natura Irregolare Dei detriti Ci impedì Di osservare Impronte Ben definite Ma nei punti Più sgombri Pareva che fossero Stati trascinati Degli oggetti Pesanti Una volta Pensammo Di vedere Tracce parallele Come di ruote E questo Ci spinse A fermarci Un'altra volta Durante la pausa Avvertimmo Nello stesso momento Questa volta L'odore davanti a noi Paradossalmente Era meno spaventoso E più spaventoso Allo stesso tempo In sé Non poteva Farci paura Ma in quel luogo E dopo ciò Che era accaduto All'accampamento Ci sembrò Aghiacciante A meno Che Gedney Perché si trattava Dell'odore normale Familiare Del petrolio Comunissima benzina Lascerò Gli psicologi Il compito Di spiegare Le nostre azioni Dopo quel momento Sapevamo Che una terribile Appendice Dell'orrore All'accampamento Si era rifugiata In quel cimitero Sprofondato Nella notte E deserto Da milioni di anni Questo Ci impediva Di dubitare L'esistenza Di forze O entità Senza nome A pochi passi Da noi Tuttora presenti Oppure appena passate Ma alla fine La curiosità Ci divorava O forse L'angoscia O il potere Dell'autosuggestione Oppure un vago Senso di responsabilità Nei confronti Di Gedney O quel che volete Ad ogni modo Qualcosa Ci spinse Ad andare avanti Dunforth Sussurrò Qualcosa A proposito Dell'impronta Che aveva visto Nelle rovine Di sopra Dove il vicolo Piegava E del lontano Pigolio musicale Che gli sembrava Di aver udito Poco dopo Proveniente Da ignoti Avissi Sotterranei Un suono Flautato Che alla luce Di ciò che Lake Aveva scoperto Durante la sua Dissezione Aveva un significato Terribile Nonostante La indubbia Somiglianza Con gli echi All'imbocco Delle caverne A mia volta Ricapitolai Le condizioni In cui il campo Era stato Abbandonato Gli oggetti Scomparsi E la follia Dell'unico superstite Che forse Aveva concepito L'inconcepibile Un viaggio Pazzesco Attraverso Le montagne E una discesa Fra le ignote rovine Della città Primordiale Ma non riuscimmo A convincerci Reciprocamente E in fondo Nemmeno noi stessi Di aver trovato Una spiegazione Plausibile Avevamo spento Allora anche L'altra torcia Perché in quel momento Non ci muovevamo E notammo Che una traccia Di luce esterna Impediva alle tenebre Di regnare Assolute Riprendemmo Allora Muoverci Accendendo La torcia A intervalli Senza riuscire A scuoterci Di dosso L'impressione Che le macerie Fossero state Spostate L'odore di benzina Si faceva Più forte Altre rovine Si presentarono I nostri occhi Ostacolando Il cammino Finché Ci rendemmo Conto Che la strada Sgombra Stava per finire Le nostre Pessimistiche Previsioni Sulla spaccatura Nel ghiacciaio Che avevamo vista Dall'aereo Non erano infondate La ricerca Della galleria Era finita E non potevamo Nemmeno raggiungere Il locale In cui si apriva L'imboccatura Che portava Al mare sotterraneo La torcia Balenò Sulle pareti Grottescamente Scolpite Del corridoio In cui ci trovavamo E rivelò Numerose porte Variamente ostruite Da una di esse L'odore Di petrolio Che copriva Quasi completamente L'altro Giungeva Con particolare Efficacia Guardando Attentamente Ci accorgemmo Che in quella Particolare apertura Una piccola Quantità di detriti Erano stati Rimossi di recente Senz'ombra di dubbio Per ricavare Una piccola Via d'accesso Qualunque fosse L'orrore Inagguato Avevamo individuato Il sentiero Che portava A lui Penso Che nessuno Si meraviglierà Se affermo Che aspettammo Un tempo Considerevole Prima di fare La mossa Successiva Ma quando Ci avventurammo Oltre L'arcata nera La nostra Prima sensazione Fu di delusione Nella distesa In gombra Di detriti Del locale Scolpito Un cubo Perfetto Con i lati Di oltre Sei metri Non c'erano Oggetti Abbastanza Grandi Da essere Riconosciuti Immediatamente E cercammo Istintivamente Ma in vano Un'uscita All'altro capo Della sala Un attimo dopo Tuttavia L'acuta vista Di Danforth Individuò Un punto In cui I detriti Erano stati Smossi E in quella Direzione Puntammo Le torce A potenza Piena Ciò che Vedemmo Era semplice Addirittura Banale Ma esito A dirlo Per ciò Che implicava Una rozza Spianata Fra le macerie In cui Qualcuno Aveva gettato Con non curanza Una serie Di piccoli Oggetti E in un angolo In cui doveva essere Stata versata Un'abbondante Quantità Di benzina L'odore Rimaneva forte Anche alla Grande altezza Dell'altipiano In altri termini Non poteva trattarsi Che di una specie D'accampamento Fatto da esseri Spinti Dallo spirito Di ricerca E come noi Scoraggiati Dal fatto Che la strada Per il mare interno Era ostruita Voglio essere chiaro Gli oggetti Sparpagliati Fra le rovine Venivano Dal campo Di lake E consistevano Di scatolette Aperte In modo Bizzarro Come quelle Che avevamo Già visto Nel luogo Dell'orrore Di numerosi Fiammiferi Spenti Tre libri Illustrati E macchiati In modo Più o meno Bizzarro Una bottiglia Vuota Di inchiostro Con un cartoncino Di istruzioni Disegnate Una penna Stilografica Brandelli Curiosamente Strappati Di pelliccia E tessuto Per tende Una batteria Elettrica Consumata Con relative Istruzioni Un opuscolo Che accompagnava Gli impianti Di riscaldamento Delle tende E una certa Quantità Di carte Appallottolate Era già brutta Così Ma quando Esaminammo Le carte E vedemmo Di che si trattava Ci rendemmo Conto Che eravamo Arrivati Al momento Peggiore Al campo Di lake Avevamo trovato Alcuni pezzi Di carta Imbrattata Che avrebbero Dovuto Prepararci Ma l'effetto Che ebbero Su di noi Nelle spelonche Preumane Di quella Città D'incubo Era troppo Per chiunque Ghebni Ghebni Impazzito Avrebbe potuto Copiare I gruppi Di pontini Che avevamo Trovato Sulle steatiti Verdi E allo stesso Modo Avrebbe potuto Imitarli Sui pazzeschi Tumuli A cinque punte Che sormontavano Le tombe Avrebbe potuto Preparare I rozzi Frettolosi Disegni Di varia Accuratezza O mancanza D'accuratezza Che riproducevano La zona Della città In cui ci trovavamo E indicavano La strada Da un luogo Circolare Che si trovava Oltre il percorso Da noi seguito E che identificammo Con una grande Torre cilindrica Vista nei bassorilievi O un profondo Pozzo circolare Che c'era apparso Dall'aereo Fino alla struttura Cinque punte In cui eravamo Adesso E quindi All'imboccatura Della galleria Ripeto Ghebni Avrebbe potuto Fare tutto questo Perché i disegni Che avevamo davanti Erano stati Ricavati Come i nostri Dai bassorilievi Del periodo decadente Disseminati Nel labirinto glaciale Anche se non erano Gli stessi Che avevamo visto E adoperato noi Ma ciò Che il nostro collega Oltretutto Digiuno d'arte Non avrebbe mai Potuto fare È schizzare I suoi disegni Con una tecnica Straordinaria E sicura Che nonostante La fretta E la mancanza Di attenzione Per i particolari Era forse Superiore Alle strutture decadenti Su cui si era ispirata L'inconfondibile Caratteristica Arte degli antichi All'epoca Del massimo splendore Non mancheranno Sono certo Coloro Che ci chiameranno Pazzi Per non essere Fuggiti immediatamente Dopo la scoperta E aver messo In salvo La pelle Specie Se si tiene conto Che nonostante La loro audacia Le nostre convinzioni Si erano ormai Completamente formate Ed erano Di un genere Che non c'è bisogno Di chiarire ulteriormente A chi mi ha letto Fin qui Forse Eravamo pazzi Davvero Non ho detto Infatti Che quelle orribili cime Erano le montagne Della follia Ma credo Che la nostra attitudine Almeno in parte E in forma Ma meno estrema Sia la stessa Degli esploratori Che inseguono Le belve feroci Nelle giungle africane Per fotografarle E studiarne le abitudini Benché Semi paralizzati Dal terrore Ardeva in noi Una fiamma Di curiosità E sacro rispetto Che alla fine Ebbe la meglio Ovviamente Non desideravamo Incontrare L'essere O gli esseri Che si erano Accampati Fra i detriti Ma sapevamo Che ormai Dovevano essersene Andati A quest'ora Avevano trovato Probabilmente L'altro ingresso Nelle vicinanze Che portava Al mare sotterraneo E lo avevano Varcato Per scoprire Gli oscuri Frammenti Del passato Che li aspettavano Nell'abisso Che non avevano Mai conosciuto E se anche Quella via Fosse stata Ostruita Ne avrebbero Cercato Un'altra Nord Come sapevamo Quegli esseri Potevano fare Quasi a meno Della luce Ripensando a quel momento Riesco a stento Ricordare Quale forma Prendessero i nostri Sentimenti E quale cambiamento Negli obiettivi Immediati Rendesse Così acuto Il nostro senso D'aspettativa Certo Non volevamo Affrontare Ciò che più Temevamo Ma non negherò Che in noi Serpeggiasse Un segreto E inconscio Desiderio Di osservare Tutto quel Che potevamo Da un punto di vista Nascosto E vantaggioso Forse Non avevamo Abbandonato L'idea Di poter Visitare L'abisso Anche se Una meta Più immediata Era costituita Ormai Dalla grande Costruzione Circolare Che appariva In uno Di disegni Appallottolati L'avevamo Riconosciuta Immediatamente Come la Mostruosa Torre Cilindrica Che figurava Nei rilievi Più antichi Ma che Dall'alto C'era apparsa Come una Prodigiosa Apertura Rotonda E nient'altro Nel modo Impressionante In cui Era raffigurata Persino In schizzi Così abbozzati C'era qualcosa Che ci indusse A riflettere Forse La parte Imprigionata Dal ghiaccio Rappresentava Tuttora Una reliquia Di grande Importanza Forse Conteneva Meraviglie Architettoniche Quali Non avevamo Ancora Incontrato Stando alle Sculture In cui Veniva Raffigurata Era Certo Antichissima Forse Una Delle Prime Strutture Della Città Se Anche Conteneva Sculture Ben Conservate C'era Ad aspettarsi Che fossero Della Massima Importanza Inoltre Poteva Rappresentare Un ottimo Collegamento Con il Mondo Esterno Una Via D'accesso Più Breve Di Quella Che Stavamo Accuratamente Perlustrando E La Stessa Da Cui Altre Probabilmente Erano Discese Comunque Ciò Che Facemmo Fu Di Studiare I Tremendi Schizzi Che Coincidevano Alla Perfezione Col Nostro E Ripercorrere Il Tragitto Che Conduceva L'edificio Circolare Lo Stesso Che I Nostri Predecessori Dovevano Aver Già Fatto Due Volte La Successiva Apertura Verso L'abisso Si Trovava Al Di Là Della Torre Non È Necessario Raccontare Il Viaggio Nei Particolari A Parte Il Fatto Che Continuammo A Lasciarci Alle Spalle Una Traccia Di Carta Ridotta All'Essenziale Perché Fu Del Tutto Identico A Quello Che Ci Aveva Permesso Di Raggiungere Il Coul de Sac L'unica Differenza È Che Il Tragitto Si Snodava Quasi A Livello Del Suolo E In Qualche Caso Ci Condusse Addirittura In Gallerie Semi Interrate Ogni Tanto Fra I Detriti E Le Macerie Che Si Trovavano I Nostri Piedi Trovavamo Con Un Sobbalzo Che L'altro E Più Terribile Odore Diventava Più Forte Quando Il Percorso Si Allontanò Dalla Via Che Avevamo Seguito Fino A Quel Momento Proiettammo Con Più Frequenza Il Raggio Della Nostra Unica Torcia Sulle Pareti E Quasi Sempre Trovammo Le Onnipresenti Sculture Che Sembravano Aver Rappresentato La Principale Forma D'arte Praticata Dagli Antichi Mentre Attraversavamo Un corridoio A volta In cui Il Pavimento Sempre Più Ghiacciato Faceva Supporre Che Ci Trovassimo Un Po Sotto Il Livello Del Suolo E Il Cui Soffitto Si Abbassava Man Mano Che Procedevamo Davanti A Noi Apparve La Chiara Luce Del Giorno E Potemmo Quindi Spegnere La Torcia A Quanto Pareva Eravamo Giunti Della Grande Costruzione Circolare E Non Ci Trovavamo A Molta Distanza Dal Mondo Esterno Il Corridoio Terminava In Un Arco Straordinariamente Basso Per Quelle Rovine Megalitiche Ma Anche Prima Di Emergere Riuscimmo A Vedere Attraverso Di Esso Gran Parte Della Scena Al Di L'arco Si Estendeva Una Spianata Rotonda Del Di Circa 70 Metri In Gombra A Quella Che Stavamo Per Attraversare Le Pareti Erano Audacemente Scolpite In Tutti Gli Spazi Disponibili E L'insieme Formava Una Spirale Scultorea Di Proporzioni Eroiche Nonostante L'azione Distruttiva Dell'atmosfera Inevitabile In Un Luogo Aperto Ci Trovammo Di Fronte A Uno Splendore Artistico Superiore A Tutto Ciò Che Avevamo Visto Fino A Quel E Immaginammo Che Il Fondo Vero E Proprio Della Costruzione Si Trovasse Molto Più In Basso Ma L'oggetto Saliente Era La Titanica Rampa Di Pietra Che Evitando Le Arcate Con Una Brusca Svolta Esterna In Mezzo Alla Spianata Si Avvolgeva Spirale Lungo Le Stupende Pareti Cilindriche Equivalente Interno Di Quelle Che Risalivano Esternamente Le Mostruosi Torri O Ziggurat Dell'Antica Babilonia Solo La Rapidità Del Nostro Volo E La Prospettiva Che In Discesa Confondeva Il Muro Interno Della Torre Ci Avevano Impedito Di Notare Quel Particolare Dall'alto E Ci Avevano Indotti A Cercare Un'altra Strada A Livello Sub Glaciale Pavodi Avrebbe Potuto Dirci Quale Prodigio Dell' Ingegneria La Che Ammirarla E Stupirci Qua e là Vedevamo Grandi Sostegni Di Pietra E Di Colonne Ma Nessuno Di Questi Oggetti Pareva Adeguato Alla Funzione Che Svolgeva La Rampa Era Ben Conservata Fino All'attuale Sommità Della Torre Cosa Davvero Notevole Se Si Pensa Che Era Esposta Alla Furia Degli Elementi Ma Proprio Il Riparo Che Offriva Aveva Contributo A Preservare Le Bizzarre Sculture Cosmiche Lungo Le Pareti Quando Emergemmo Nell'affascinante Mezza Luce In Fondo A Quel Mostruoso Cilindro Un Oggetto Vecchio Almeno Di 50 Milioni Di Anni Senza Dubbio La Struttura Più Antica Che Avessimo Mai Visto Ci Rendemmo Conto Che I Fianchi Della Torre Solcati Dalla Rampa Si Innalzavano Vertiginosamente A Un'altezza Di Oltre 20 Metri Tenendo Presente Ciò Che Avevamo Visto Durante La Ricognizione Aerea Questo Significava Che La Glaciazione Esterna Raggiungeva Almeno I 13 Metri Infatti L'abisso Che Avevamo Scorto Dall'apparecchio Si Apriva Alla Sommità Di Un Cumulo Di Macerie Alto Circa 7 Metri E Per Quasi Tre Quarti Della Circonferenza Era Protetto Dalle Pareti Curve Massicce Di Una Fila Di Rovine Più Alte Stando Alle Sculture La Torre Originaria Si Trovava Al Centro Di Un'immensa Piazza Circolare Ed Era Alta Qualcosa Come 180 O 200 Metri Con Vari Strati Di Dischi Orizzontali In Prossimità Della Cima E Una Fila Di Guglie Sottili Come Aghi Lungo Il Bordo Superiore Ovviamente Gran Parte Della Costruzione Era Rovinata All'esterno Invece Che All'interno Una Fortuna Perché Altrimenti La Rampa Sarebbe Andata Distrutta E L'edificio Soffocato Comunque La Rampa Mostrava I Segni Di Una Triste Rovina Mentre Lo Stato Dei Detriti Faceva Pensare Che Tutte Le Arcate Sul Fondo Fossero State Sgomberate Di Recente Ci Volle Solo Un Attimo Per Concludere Che Questa Era La Strada Per Cui Gli Altri Erano Scesi E Che Nonostante La Lunga Traccia Di Carte Che C'eravamo Lasciate Alle Spalle Ci Sarebbe Convenuto Risalire Per La Stessa Via L'orlo Della Torre Non Era Lontano Dai Contraforti Della Catena E Dell'aereo Che Ci Aspettava Più Del Grande Edificio A Terrazze Attraverso Cui Eravamo Entrati E Qualsiasi Esplorazione Subglaciale Che Avessimo Deciso Di Effettuare Durante L'attuale Spedizione Si Sarebbe Limitata Alla Stessa Regione Generale Stranamente Dopo Tutto Quello Che Avevamo Visto E Intuito Pensavamo Ancora Di Fare Altri Viaggi Nella Zona Poi Mentre Ci Avviavamo Cautamente Fra I Detriti Del Grande Spazio Vedemmo Qualcosa Che Per Il Momento Escluse Ogni Altra Considerazione Si Trattava Di Tre Slitte Accuratamente Ammucchiate Una Sull'altra E Situate All'estremità Della Rampa Che Proprio In Quel Punto Aggettava Verso L'esterno Nascondendole In Un Primo Momento Alla Nostra Vista Erano Le Slitte Che Mancavano Al Campo Di Lake Intaccate Dall'uso Improprio Che Doveva Essere Consistito Nel Trascinarle Su Lunghe Distese Di Pietra E Detriti Senza Neve O Di Guidarle A Mano Su Altre Superfici Ugualmente Innavigabili Le Avevano Legate E Impacchettate Con cura Insieme A Una Serie Di Oggetti Familiari E Ben Noti La Stufa Gas I Contenitori Di Combustibile Alcune Scatole Di Attrezzature E Di Cibo Alcune Incerate Che Ovviamente Contenevano Libri E Altre Che Coprivano Oggetti Meno Facilmente Identificabili Tutta Roba Che Apparteneva All' Attrezzatura Di Lake Dopo Ciò Che Avevamo Trovato Nell'altro Locale In Un Certo Senso Eravamo Preparati A Questa Sorpresa Ma L'autentico Shock Venne Quando Avanzammo Di Qualche Passo E Sollevammo Il Lembo Di Una Delle Incerate Ci Erano Sembrati Particolarmente Inquietanti A Quanto Pare Non Solo Lake Era Interessato Alla Raccolta Di Esemplari Biologici Davanti Ai Nostri Occhi Ce Ne Erano Due Congelati E Perfettamente Conservati Che Una Sorta Di Materiale Adesivo Aveva Provveduto A Rattoppare Sul Collo Dove Si Erano Aperte Alcune Ferite Per Evitare Ulteriori Danni Erano Stati Avvolti Nel Telo Con La Massima Cura Erano Il Cadavere Del Giovane Gedni E Del Cane Scomparso Dieci Molti Ci Giudicheranno Pazzi Oltre che Cinici Per 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 Aver Ripensato Al Tunnel Che Si Apriva Verso Nord E All'abisso Col Mare Sotterraneo Subito Dopo La Nostra Macabra Scoperta Tuttavia Non Credo Che Saremmo Tornati Sull'argomento Se Non Fosse Per Una Specifica Circostanza Che Aprì Una Nuova Serie Di Congetture Avevamo Rimesso Il Telo Sul Povero Gedni E Ce Ne Stavamo In Muto Stupore Quando Finalmente Quei Rumori Giunsero Alla Nostra Coscienza I Primi Suoni Che Udissimo Dopo Esserci Inabissati Dal Mondo Esterno Dove Il Vento Delle Montagne Ululava Debolmente Ad Altezze Vertiginose Per Familiari E Normali Che Fossero La Loro Presenza In Quell' Estremo Regno Di Morte Era Più I Prevedibile Snervante Di Un Concerto Fantastico Grottesco Perché Ribaltava Tutte Le Nostre Certezze D'armonia Nel Mondo Se Si Fosse Trattato Di Qualcosa Che Somigliava Ai Bizzarri Acuti Musicali Che I Rapporti Anatomici Di Lake Ci Avevano Indotto Ad Aspettarci Nelle Creature E Che Ovviamente La Nostra Fantasia Eccitata Aveva Creduto Di Rintracciare In Ogni Ululato Del Vento Sin Da Quando Eravamo Scesi Al Campo Dell' Orrore La Cosa Avrebbe Avuto Una Sorta Di Di Diabolica Coerenza Con L'ambiente Morto Da Millenni In Cui Ci Trovavamo Una Voce Di Epoche Sepolte Non È Fuori Posto In Un Cimitero Di Epoche Sepolte Il Suono Che Udimmo Invece Mandò In Pezzi I Nostri Più Intimi Criteri Di Giudizio E In Primo Luogo La Tacita Convinzione Che L'Antartide Fosse Una Distesa Assolutamente Priva Di Normali Forme Di Vita O Delle Loro Tracce Proprio Come Il Disco Sterile Della Luna Ciò Che Udimmo Non Fu La Musica Favolosa Prodotta Da Un Mostruoso Abitante Della Terra Primitiva Dalla Cui Eccezionale Corazza Il Sole Del Polo Che Al contrario Fu Qualcosa Di Così Assurdamente Normale E A Cui C'eravamo Persino Abituati Nei Lunghi Giorni Al Largo Della Terra Di Vittoria O All'accampamento Sullo Stretto Di McMardo Che Tremammo A Sentirla In Un Luogo Dove Cose Del Genere Non Dovrebbero Essere Per Dirla In Breve Fu Soltanto Il Verso Rauco Di Un Pinguino Il Verso Soffocato Proveniva Da Uno Dei Recessi Sepolti Del Ghiaccio Quasi Di Fronte Al Corridoio Da Cui Eravamo Giunti Regioni Che Evidentemente Si Trovavano In Direzione Dell'altra Galleria D'Accesso Al Mare Sotterraneo La Presenza Di Una Creatura Acquatica In Quella Zona E In Un Mondo La Cui Superficie Era Uniformemente Priva Di Vita Da Una Sola Conclusione Quindi Il Nostro Primo Pensiero Fu Di Verificare L'obiettiva Realtà Di Ciò Che Avevamo Sentito Ma Il Verso Si Ripetè E A Volte Sembrava Venire Da Più Animali Cercando Nella Fonte Passammo Sotto Un'arcata Da Cui Erano Stati Rimossi La Maggior Parte Dei Detriti E Quando Ci Lasciamo Alle Spalle La Luce Del Giorno Ricominciamo A Seminare Dietro Di Noi Una Striscia Di Carta Avevamo Attinto Sia Pure Con Una Certa Ripugnanza A Una Pila Che Si Trovava Sotto Delle Tere Incerate Collocate Sulle Slitte Man Mano Che Il Pavimento Ghiacciato Cedeva A Uno Strato Di Detriti Cominciamo A Distinguere Certe Curiose Tracce E Una Volta Danford Trovò Un' La strada Indicata Dalla Voce Dei Pinguini Coincideva Alla Perfezione Con Quella Che La Nostra Carta E La Bussola Rivelavano Essere Il Punto Di Congiuzione Con L'Imboccatura Del Tunnel Settentrionale E Fummo Lieti Di Scoprire Che La Via Sembrava Sgombra Sia A Livello Del Suolo Che A Quello Inferiore Stando Alla Mappa Il Tunnel Era Parsa Ben Conservata O Così Ricordavamo Lungo Il Sentiero L'unica Torcia Illuminava La Consueta Abbondanza Di Sculture Ma Non Ci Fermammo Esaminarne Alcuna All'improvviso Una Grossa Forma Bianca Balenò Davanti A Noi E Accendemmo La Seconda Torcia È Strano Quanto La Nuova Ricerca Avesse Allontanato Dalla Nostra Mente Le Solite Paure Di Ciò Dopo aver lasciato le provviste nel grande spiazzo circolare e aver ultimato la loro spedizione esplorativa, coloro che ci precedevano dovevano aver deciso di tornare in direzione dell'abisso, forse per calarsi dentro di esso. Da parte nostra ormai avevamo accantonato ogni cautela nei loro confronti, come se non fossero mai esistiti. L'oggetto bianco che ciondolava davanti a noi era alto più di un metro e ottanta, ma subito ci rendemmo conto che non era uno degli organismi ritrovati da Lake. Quelli erano più grandi e scuri e stando alle sculture si muovevano sulla terra con sicurezza e velocità, nonostante la bizzarria dei tentacoli sviluppati nel mare. Ma sarebbe inutile negare che la creatura bianca non ci spaventasse profondamente. Per un attimo fu mostretti da un terrore primordiale e quasi più violento delle peggiori paure che con la ragione avevamo in tessuto sugli altri. La rottura della tensione avvenne quando la creatura bianca scivolò in un'arcata alla nostra sinistra per raggiungere altri due esemplari della stessa specie che l'avevano chiamata con versi gutturali. In realtà si trattava solo di un pinguino, benché di una specie enorme e sconosciuta, le cui dimensioni superavano quelle dei più grandi pinguini reali e mostruosa nella sua combinazione di albinismo e quasi totale cecità. Quando seguimmo la creatura attraverso l'arco e puntammo tutte e due le torce sull'amorfo e indifferente gruppo dei tre, ci accorgemmo che anche gli altri appartenevano alla stessa specie sconosciuta caratterizzata da albinismo e gigantismo. Le dimensioni ricordavano quelle degli antichi pinguini raffigurati nei bassorilievi degli antichi e non ci volle molto per concludere che discendevano dalla stessa famiglia. Indubbiamente erano sopravvissuti grazie alla fuga in una regione più calda e interna, la cui parenne oscurità ne aveva distrutto il pigmento e ridotto gli occhi a inutili fessure. Non c'era alcun dubbio che l'ambiente in cui vivevano fosse il grande abisso di cui eravamo alla ricerca e la prova che fosse tuttora tiepido e abitabile ci spinse alle più curiose e conturbanti fantasie. Ci domandammo fra l'altro che cosa avesse spinto i tre animali a uscire dal loro habitat naturale. Le condizioni in cui si trovava l'immensa città e il silenzio che vi regnava testimoniavano che non si trattava di un luogo di migrazioni stagionali, mentre l'evidente indifferenza del trio alla nostra presenza faceva pensare che nemmeno il passaggio delle altre creature dovesse impensierirli. Era possibile che gli altri avessero intrapreso un'azione aggressiva o forse avessero cercato di incrementare le loro provviste di carne. Ci chiedemmo se l'odore acre detestato dai nostri cani spingesse i pinguini a un'analoga reazione, ma non era probabile. Dopotutto i loro antenati avevano vissuto in ottimi rapporti con gli antichi e le relazioni amichevoli erano senz'altro continuate nell'abisso, almeno finché era durata la razza dominante. In un ultimo sprazzo di fervore scientifico rimpiangemmo di non poter fotografare quelle straordinarie creature, ma le lasciamo ai loro versi striduli e ci spingemmo verso l'abisso, la cui apertura era ormai dimostrata e la cui esatta direzione era indicata da occasionali impronte di pinguini. Non molto dopo una ripida discesa per un corridoio lungo, basso, senza porte e stranamente privo di sculture, ci fece supporre finalmente di aver quasi raggiunto l'imboccatura del tunnel. Ci eravamo lasciati alle spalle due pinguini e davanti a noi se ne annunciavano altri. Poi il corridoio sboccò in un prodigioso spazio aperto che ci fece trasalire nostro malgrado. Un perfetto emisfero capovolto, senza dubbio a grande profondità sotto la superficie. Il diametro era di almeno 35 metri e l'altezza sfiorava i venti, mentre lungo tutta la circonferenza si apriva una serie di basse arcate, con l'eccezione di un unico spazio, dove giganteggiava un'apertura nera che rompeva la simmetria della volta e si innalzava a un'altezza di oltre 5 metri. Era l'ingresso del grande abisso. Nel vasto locale emisferico, il cui soffitto concavo era scolpito in modo impressionante, ma decadente e che riproduceva un'arcaica sfera celeste, alcuni pinguini bianchi trotterellavano come stranei che non si curavano di nulla e non vedevano nulla. Il nero tunnel si spalancava davanti a noi senza fine, in ripida discesa, e l'imboccatura era abbellita da pilastri e un'architrave grottescamente scolpiti. Da quella bocca misteriosa immaginammo di sentire una corrente d'aria più tiepida, addirittura di vapore. Ci chiedemmo quali esseri viventi, oltre ai pinguini, si nascondessero nella rete di gallerie contigue che sottendevano la superficie e la catena di montagne. Ci domandammo inoltre se il filo di fumo che il povero Lake aveva creduto di vedere sulla vetta e la curiosa bruma che noi stessi avevamo intravisto intorno alla cima circondata dai contrafforti della catena non fossero causati dal tortuoso percorso attraverso le gallerie di sostanze che provenivano da regioni abissali della Terra. Entrati nel tunnel, constatammo che le dimensioni, almeno all'inizio, erano di quasi 5 metri da un lato all'altro e che i fianchi, il pavimento e il soffitto arcuato erano fatti del solito materiale megalitico da costruzione. I fianchi erano frugalmente decorati da bassorilievi convenzionali eseguiti nel tardo stile decadente, ma sia la costruzione che le sculture erano conservate meravigliosamente. Il pavimento era abbastanza sgombro, a parte un leggero strato di detriti che recava impronti di pinguini diretti all'esterno e le tracce degli altri verso l'interno. Più si avanzava e più aumentava il calore, al punto che dovemmo sbottonare il nostro equipaggiamento pesante. Ci domandammo se non fosse in atto un'azione vulcanica e se le acque di quel mare senza sole fossero calde. Dopo un breve percorso, il materiale da costruzione cedette il posto alla roccia, benché il tunnel conservasse le stesse dimensioni e regolarità nelle sculture. A volte l'inclinazione si faceva così ripida che nel pavimento erano incise delle scanalature. In parecchie occasioni notammo l'imboccatura di gallerie laterali non riportate sulla nostra mappa, non da farci perdere l'orientamento comunque, e anzi accolte da noi come possibili rifugi nel caso incontrassimo creature spiacevoli che risalivano l'abisso. L'odore indefinibile di quegli esseri era ormai molto forte. Avventurarsi nel tunnel dopo quello che avevamo scoperto, forse può essere giudicato una pazzia suicida. Ma in alcuni il richiamo dell'ignoto è più forte di quanto sospetti la maggioranza, e proprio un'attrazione del genere ci aveva indotti ad esplorare le sconosciute distese polari. Attraversando la galleria superammo diversi pinguini e ci chiedemmo quale distanza avremmo dovuto percorrere. Stando alle sculture ci aspettavamo una ripida discesa di circa due chilometri, ma l'esperienza ci aveva insegnato che in fatto di proporzioni non c'era da fidarsi troppo. Dopo meno di 500 metri l'odore indefinibile si accentuò e cominciammo a registrare accuratamente le aperture laterali davanti alle quali passavamo. Non c'erano vapori visibili come all'imbocco del tunnel, ma questo era senz'altro dovuto alla mancanza d'aria fredda di contrasto. La temperatura saliva rapidamente e non ci sorprendemmo di imbatterci in un mucchio di materiale abbandonato senza cura che ci fece rabbrividire per la sua familiarità. Si trattava di pellicce e tessuto per tende presi dal campo di Lake, ma non ci fermammo a riflettere sulle forme grottesche in cui il materiale era stato tagliato. Poco oltre quel punto notammo un sensibile aumento del numero e delle dimensioni delle gallerie laterali e concludemmo che dovevamo aver raggiunto la regione densamente bucarellata che si apriva sotto i contrafforti maggiori della catena. L'odore indefinibile si mescolava a un altro non meno offensivo. Non riuscimmo a stabilirne la natura, ma supponemmo che si trattasse di organismi in putrefazione o forse ignoti funghi sotterranei. Poi il tunnel si allargò in modo sorprendente, fatto a cui le sculture non ci avevano preparati. Ci trovavamo in una vera e propria caverna ellittica, dal pavimento piano, lunga almeno 23 metri e larga 17. Numerosi e immensi corridoi laterali conducevano verso la tenebra assoluta. Benché in un primo momento la caverna sembrasse naturale, un'ispezione con le torce rivelò che era stata creata abbattendo artificialmente le pareti divisorie di altrettante gallerie. I fianchi erano ruvidi e il soffitto a volta, molto alto, era irto di stalattiti. Il pavimento di roccia tuttavia era stato ripulito ed appariva sgombro di macerie, detriti e polvere fino a rasentare l'incredibile. Con l'eccezione del tunnel da cui eravamo arrivati noi, ciò era vero per il pavimento di tutte le gallerie che si irradiavano nella caverna centrale. La singolarità della situazione era tale da metterci di fronte a una serie di domande senza risposta. Il bizzarro nuovo fetore, che si era giunto all'odore indefinibile di prima, era diventato oltremodo pungente e aveva cancellato ogni traccia dell'altro. In quel luogo, dai pavimenti levigati e quasi splendenti, c'era qualcosa di più orribile e inquietante che negli orrori in cui ci eravamo imbattuti fino a quel momento, anche se tutto restava molto vago. La regolarità del corridoio che si apriva davanti a noi e la maggior quantità di escrementi di pinguino ci impedirono di dubitare su quale fosse la strada giusta fra le innumerevoli gallerie più o meno della stessa grandezza. Nonostante questo, decidemmo che se ci fossimo trovati in difficoltà avremmo ripreso la semina dei pezzetti di carta, poiché sulle tracce lasciate nella polvere non potevamo più contare. Ripresa la marcia, proiettammo il fascio di una torcia sulle pareti e ci bloccammo subito, stupiti ad un estremo e radicale cambiamento che si era verificato nelle sculture di quel tratto. Come è ovvio, sapevamo che all'epoca in cui avevano scavato la galleria, gli antichi e la loro arte erano andati incontro a una rapida decadenza. Del resto avevamo già notato la qualità inferiore degli arabeschi che ornavano i tratti alle nostre spalle. Ma ora, nel settore più profondo oltre la caverna, ci apparve una differenza improvvisa e che sfidava ogni spiegazione, una differenza che riguardava la natura stessa delle sculture oltre che la loro qualità e rivelava una degradazione così profonda e disastrosa che, per quanto avevamo osservato, il ritmo a cui procedeva il declino della razza non avrebbe potuto in alcun modo prepararci a un simile spettacolo. Il nuovo e degenere prodotto era rozzo, sfacciato e mancava di qualsiasi sottigliezza nel dettaglio. Era sbalzato in strisce dall'esagerata profondità che seguivano lo stesso modello dei cartigli apposti sporadicamente nelle gallerie precedenti, ma le parti in rilievo non raggiungevano il livello della superficie complessiva. Danforth ebbe l'idea che si trattasse di seconde sculture, una specie di palinsesto creato dopo la cancellazione di opere precedenti. Lo stile, convenzionale e puramente decorativo, consisteva di angoli e rozze spirali che seguivano più o meno la matematica degli antichi fondata sul 5 e tuttavia sembravano più una parodia che una continuazione di quella tradizione. Non riuscivamo a liberarci dal pensiero che un elemento sottile ma profondamente straneo si fosse insinuato nel sentimento estetico che ispirava l'esecuzione delle sculture. Un elemento estraneo, suppose Danforth, a cui si doveva la laboriosa e palese sovrapposizione di un'opera all'altra. Era simile e al tempo stesso diversa da quella che avevamo imparato a riconoscere come l'arte degli antichi. Ripensai a oggetti goffi e ibridi come le sculture di Palmira, fatte a imitazione di quelle romane. Che altri avessero notato di recente questa nuova fascia di basso rilievi era dimostrato dalla presenza di una batteria usata per torcia proprio sul pavimento, di fronte a una delle opere più caratteristiche. Siccome non potevamo permetterci di dedicare molto tempo al loro esame, dopo un'occhiata sommaria riprendemmo ad avanzare. Ogni tanto tuttavia proiettavamo il fascio della torcia sulle pareti per individuare altri cambiamenti nelle decorazioni. Non notammo niente, ma in alcuni tratti i basso rilievi si facevano rari per via delle numerose imboccature dei corridoi laterali con i pavimenti lisci. Si vedevano e sentivano sempre meno pinguini, ma a un certo punto ci parve di cogliere in distanza un vaghissimo coro di quegli animali che si levasse dalle profondità della terra. Il nuovo e inspiegabile odore era terribilmente forte e ormai era quasi impossibile avvertire le tracce del precedente. Turbini di vapore davanti a noi tradivano un accentuato contrasto di temperatura e la relativa vicinanza delle pareti a strapiombo sul mare del grande abisso. Poi in modo abbastanza inatteso scorgemmo alcuni ostacoli sul pavimento tirato a lucido. Ostacoli che non avevano nulla a che fare con i pinguini e che ci spinsero ad accendere anche la seconda torcia. Comunque erano immobili. Undici Ancora una volta sono arrivato a un punto del racconto in cui mi è difficile continuare. A quest'ora dovrei esserci abituato ma ci sono esperienze e stati d'animo che feriscono troppo profondamente per permetterci di guarire e ci lasciano con una sensibilità esasperata capace di rivivere nella memoria tutto l'orrore della situazione originaria. Come ho detto il pavimento era ingombro di ostacoli e potrei aggiungere che le nostre narici furono assalite quasi nello stesso tempo da un curioso intensificarsi del misterioso fetore, ora abbastanza chiaramente mescolato al puzzo indefinibile degli esseri che ci avevano preceduto. La luce della seconda torcia non lasciava dubbi sulla natura degli ostacoli e osammo avvicinarci solo perché vedemmo anche a distanza che erano ben lungi dal poterci nuocere. Proprio come i sei esemplari scoperti nelle mostruose tombe sormontate dal tumulo a forma di stella nell'accampamento del povero Lake. Erano incompleti come la maggior parte di quelli che avevamo scoperto ma dalla pozza appiccicosa e verde scuro che si raccoglieva intorno ai corpi si intuiva che l'origine della loro incompletezza era molto più recente. Pareva che ce ne fossero solo quattro mentre i messaggi di Lake parlavano di non meno di otto creature nel gruppo che doveva averci preceduti. Trovarle in quelle condizioni fu un avvenimento del tutto imprevisto e ci chiedemmo quale mostruosa battaglia si fosse svolta nel buio. I pinguini se attaccati in massa si difendono ferocemente col loro becco e alle nostre orecchie giungevano con chiarezza sia pur in lontananza i suoni di una loro colonia. Gli altri avevano disturbato un luogo del genere e provocato la furia sanguinaria degli animali? A giudicare dai cadaveri non era probabile perché i becchi dei pinguini avrebbero potuto ben poco contro i durissimi tessuti sezionati da Lake e dunque non potevano essere la causa delle terribili ferite di cui man mano ci rendevamo conto. Inoltre i grandi uccelli ciechi che avevamo visto c'erano sembrati particolarmente pacifici. Dunque c'era stata battaglia fra gli esseri misteriosi e i quattro assenti erano responsabili del massacro? Ma in tal caso dove erano? Era possibile che fossero ancora nei paraggi e costituissero una minaccia per noi? Esplorammo con lo sguardo, non senza una certa apprensione, i corridoi laterali dal pavimento levigato. Bisognava andare avanti ma lo facemmo con lentezza e una certa riluttanza. Qualunque fosse la natura della battaglia che si era svolta poco prima aveva terrorizzato i pinguini e li aveva spinti ad avventurarsi per sentieri poco familiari. Questo significava che questa battaglia doveva essere scoppiata vicino alla colonia di cui ci giungevano ogni tanto i rumori e che con ogni probabilità si trovava nell'abisso insondabile. Infatti non c'era alcun segno che i pinguini vivessero normalmente dove eravamo noi adesso. Forse, immaginammo, c'era stata una caccia selvaggia e il gruppo più debole aveva tentato di tornare indietro per recuperare le slit nascoste, ma proprio allora gli inseguitori li avevano finiti. Ci si poteva figurare l'orrenda battaglia fra le entità mostruose che uscivano dall'abisso, precedute da torme di pinguini terrorizzati che urlavano e correvano davanti ad esse. Ho detto che ci avvicinammo ai corpi mutilati che ingombravano la strada con lentezza e riluttanza. Volesse il cielo che non ci fossimo accostati affatto, ma ce la fossimo data a gambe per uscire al più presto da quell'orribile galleria col pavimento liscio e appiccicoso, ornato di sculture che erano la caricatura di creature ormai superate. Volesse il cielo che avessimo voltato le spalle prima di vedere ciò che vedemmo e prima che le nostre menti fossero sconvolte da qualcosa che non ci permetterà mai più di respirare liberamente. Avevamo puntato tutte e due le torce sulle carcasse che ingombravano il pavimento e in breve ci rendemmo conto del fattore comune alla loro incompiutezza. Per maciullate, contorte o sfondate che esse fossero, la mutilazione comune a tutte era una completa decapitazione. La testa tentacolata a forma di stella era staccata e nell'avvicinarci osservammo che il metodo seguito per compiere l'operazione non era consistito in una comune forma di taglio ma in una specie di orribile strappo o addirittura suzione. L'icore verde scuro si era raccolto in una grande pozza che andava allargandosi ma il suo odore era in parte coperto dal nuovo e più sgradevole puzzo che in quel luogo era più forte che altrove. Solo quando ci fummo avvicinati ai corpi disseminati sul pavimento riuscimmo a individuare la fonte del secondo e inspiegabile fetore e nel momento in cui lo facemmo Danforth, che ricordava con chiarezza i bassorilievi che illustravano la vita degli antichi nel Permiano 150 milioni di anni fa lanciò un urlo disperato che cheggiò istericamente nell'antichissimo corridoio a volta tra le mostruose sculture a palinsesto. Anche io fui sul punto di urlare perché avevo visto quei bassorilievi e avevo ammirato con un brivido il modo in cui l'artista sconosciuto era riuscito a rappresentare l'orribile rivestimento gelatinoso che copriva i cadaveri di alcuni antichi caduti e mutilati quelli uccisi e privati della testa dai terribili scioggot nella feroce guerra di riassoggettamento degli schiavi. Erano opere infami, degne di un incubo anche se raffiguravano eventi accaduti milioni di anni fa perché gli scioggot e le loro gesta non possono essere sopportati dallo sguardo dell'uomo e non dovrebbero essere raffigurati da nessun essere vivente. Il folle, autore del Necronomicon ha tentato di rassicurarci con un certo nervosismo che simili entità non sono mai esistite sul nostro pianeta e che la loro invenzione si deve a sognatori schiavi dell'oppio protoplasma informe capace di imitare e riflettere qualunque forma di vita qualunque organo e processo vitale agglomerati vischiosi di cellule simili a bolle sferoidi gommosi del diametro di oltre 5 metri dotati di un'infinita d'utilità e plasticità schiavi della suggestione ipnotica costruttori di città sempre più determinati a fare a modo loro sempre più intelligenti anfibi straordinari e in grado di imitare le altre forme di vita in modo sempre più sofisticato. Grandio! quale follia può aver spinto gli antichi a servirsi di creature simili e a immortalarle nelle loro sculture quando Dunford e io vedemmo la pellicola scura iridescente e brillante che copriva abbondantemente i corpi senza testa liberando un odore tanto nauseante che solo una fantasia malata avrebbe potuto concepire quando vedemmo la gelatina che imbrattava i cadaveri e sia pure in quantità minore una faccia liscia della maledetta parete dove disegnava una serie di punti disposti secondo un certo ordine finalmente capimmo cos'è il terrore cosmico nelle sue più profonde implicazioni non era la paura delle quattro creature misteriose che mancavano all'appello perché sapevamo fin troppo bene che non erano più in grado di nuocerci poveri diavoli dopo tutto e rapportati ai loro parametri non erano esseri malvagi erano gli uomini di un altro tempo e un altro ordine biologico la natura aveva giocato loro un tiro diabolico come certo farà con tutti coloro che la follia umana lo sprezzo del pericolo o la pura e semplice crudeltà spingeranno ad avventurarsi nelle orrende distese polari morte o addormentate che siano sì questo era il tragico benvenuto che avevano ricevuto nel tentativo di tornare a casa non erano nemmeno selvaggi perché in definitiva che cosa avevano fatto? immaginate il loro orribile risveglio in un'epoca sconosciuta l'attacco che forse avevano subito da una muta di quadrupe di pelosi e che abbaiavano paurosamente la confusa difesa che erano stati costretti a opporre ai cani e alle scimmie bianche non meno frenetiche pur se dotate di strani vestiti e macchinari povero Lake povero Gedney e poveri antichi scienziati fino all'ultimo cosa avevano fatto che noi non avremmo fatto al posto loro? Dio che intelligenza e che tenacia! si erano trovati faccia a faccia con l'incredibile proprio come gli antenati raffigurati nei bassorilievi e che avevano dovuto affrontare prove poco meno fantastiche radiati vegetali mostri venuti dalle stelle qualunque cosa fossero erano stati uomini avevano traversato le vette ghiacciate sulle cui pendici costellate di templi un giorno avevano pregato i loro dei e vagato tra le felci preistoriche avevano trovato la loro città morta ridotta a rovine ciclopiche che ne riflettevano il triste destino avevano letto i bassorilievi dei suoi ultimi giorni proprio come avevamo fatto noi essi avevano tentato di raggiungere eventuali compagni ancora vivi nell'abisso favoloso che non avevano mai visto e che cosa avevano trovato? nel muovere lo sguardo dalle carcasse decapitate e coperte di gelatina alle diaboliche sculture che si trovavano alle loro spalle o ai gruppi di punti ottenuti con grumi di poltiglia fresca sulle pareti questi pensieri attraversarono come un lampo la mia mente e quella di Dunford guardammo e comprendemmo chi era sopravvissuto chi aveva trionfato nella gigantesca città sottomarina di quel mondo notturno oltre l'abisso popolato di pinguini l'abisso da cui aveva cominciato ad addensarsi come in risposta all'urlo isterico di Dunford una sinistra spirale di nebbia lo shock provocato dalla visione dei corpi senza testa e coperti di gelatina ci aveva trasformato in statue mute e immobili solo grazie alle confidenze che ci scambiamo in seguito riuscimmo a scoprire quali fossero i pensieri dell'uno e dell'altro rimanemmo in quella posizione per un tempo che sembrò interminabile ma in realtà non devono essere stati più di 10 o 15 secondi l'orribile pallida nebbia avanzava a spirale come spinta da un corpo solido più lontano e in movimento poi udimmo un suono che cambiò drasticamente i nostri programmi e nel far questo ruppe l'incantesimo di cui eravamo prigionieri e ci permise di correre all'impazzata oltre i pinguini che berciavano confusi e terrorizzati verso il sentiero che avevamo percorso all'andata e quindi la città corremmo fra corridoi megalitici sprofondati tra i ghiacci raggiungemmo il grande spiazzo aperto e salimmo l'antichissima rampa a spirale che si avvolgeva intorno al bastione una fuga disperata fatta di movimenti automatici in cerca dell'aria fresca del mondo esterno e della luce del giorno il nuovo suono come ho accennato ci spinse a cambiare i nostri programmi perché la dissezione anatomica fatta da Lake ci convinse che provenisse dalle creature che avevamo appena giudicate morte come Dunford mi confermò in seguito era lo stesso suono che avevamo colto in forma infinitamente più soffocata nel punto oltre l'angolo della viuzza sopra il livello dei ghiacci e aveva indubbiamente un'impressionante somiglianza con il sibilo del vento che tutti e due avevamo udito intorno alle bocche della caverna che si aprivano sulle montagne ad alta quota a costo di sembrare puerile aggiungerò un'altra cosa non foss'altro per la sorprendente convergenza delle mie sensazioni e quelle di Dunford naturalmente ciò che ci permise di giungere alla nostra interpretazione fu un libro accessibile a tutti ma Dunford insiste che nel comporre il suo Arthur Gordon Pym un secolo fa Edgar Poe abbia tenuto presenti certe fonte insospettabili e segrete e il lettore ricorderà che in quel fantastico romanzo ricorre un verso dal significato sconosciuto eppure terribile e prodigioso un verso che pare strettamente legato ai misteri dell'Antartico i giganteschi spettrali uccelli bianchi che popolano il cuore malefico di quella regione lo ripetono così Teche-li-li Teche-li-li Devo ammettere che è esattamente ciò che credemmo di udire quando alla vista della nebbia che avanzava a spirale si accompagnò improvvisamente il nuovo suono un insistente pigolio musicale su una gamma eccezionalmente vasta Cominciammo a correre prima che fossero state profferite tra note o sillabe che fossero pur sapendo che la velocità degli antichi avrebbe permesso a una qualunque delle creature scampate al massacro di raggiungerci in un attimo se davvero avessero voluto farlo Ci sorreggeva tuttavia la vaga speranza che una condotta non aggressiva e la dimostrazione che eravamo esseri pensanti come lui inducesse il nostro ipotetico inseguitore a risparmiarci in caso di cattura se non altro per curiosità scientifica Dopotutto se non si fosse vista minacciata la creatura non avrebbe avuto ragione di farci del male Poiché nella nostra situazione ogni tentativo di nasconderci sarebbe stato vano usammo la torcia per gettare un'ultima occhiata alle nostre spalle e ci accorgemmo che la nebbia si stava sottigliando Avremmo visto finalmente un esemplare vivo e completo di quelle creature Di nuovo si ripetè l'insidioso verso musicale Teche li li, teche li li Poi resici conto che stavamo guadagnando terreno sul nostro inseguitore riflettemmo che probabilmente era ferito Comunque non potevamo correre rischi perché era chiaro che si era mosso dopo l'urlo di Danforth e che non fuggiva a sua volta da un'altra creatura I tempi erano troppo ravvicinati per dare adito a dubbi Quanto all'altra creatura d'incubo l'inconcepibile, innominabile montagna di protoplasma fetido e limaccioso la cui razza aveva conquistato l'abisso e inviato striscianti esploratori sulla terraferma attraverso le gallerie da cui erano crivellate le montagne per scolpire nuovi bassorilievi al posto dei vecchi beh, non riuscivamo a immaginare dove si trovasse Ci costò sincero dolore abbandonare quel singolo antico ferito e forse unico superstite ai pericoli della cattura e di un incerto destino Grazie al cielo non rallentammo la corsa La spirale di nebbia si era fatta di nuovo spessa e procedeva verso di noi a velocità crescente I pinguini, alle nostre spalle, nel frattempo avevano cominciato a urlare e schiamazzare in preda a un panico inspiegabile se si tiene conto che quando eravamo passati in mezzo al gruppo si erano agitati molto meno Ancora una volta udimmo il sinistro e articolato vocio musicale Te che li li, te che li li Ci eravamo sbagliati La creatura non era ferita ma si era fermato un momento sui cadaveri dei suoi compagni e accanto all'infernale disegno tracciato con la fanghiglia sopra di loro Non avremmo mai conosciuto il significato di quell'iscrizione demoniaca ma le tombe trovata all'accampamento di Lake dimostravano quale importanza venisse attribuita ai morti da quegli esseri La torcia che avevamo usata senza risparmio illuminò davanti a noi la grande caverna in cui convergevano molti sentieri e ci rallegrammo di lasciarci alle spalle le morbose sculture a palinsesto anche quando non le guardavamo ci sembrava di sentirle Giunti nella caverna un'altra idea attraversò le nostre menti la possibilità di seminare il nostro inseguitore Infatti eravamo al centro di una vera e propria ragnatela di gallerie Nello spazio aperto c'erano numerosi pinguini albini e sembrava che la paura dell'essere che ci inseguiva avesse contagiato anche loro anzi a tal punto da diventare incontrollabile Se a quel punto avessimo ridotto la potenza della torcia al minimo in modo da illuminare il tratto di galleria davanti ai nostri piedi e nulla più era possibile che i movimenti e gli schiamazzi dei grandi uccelli spaventati coprissero il rumore dei nostri passi mascherando la direzione che avevamo presa e forse guidando il nostro segugio su una falsa pista In mezzo alla spirale di nebbia il pavimento opaco e ingombro di detriti che da quel punto in poi costituiva la galleria principale non avrebbe permesso al nostro inseguitore di orizzontarsi facilmente discorso completamente diverso rispetto ai cuniculi assurdamente levigati che avevamo attraversato prima Il nostro ragionamento valeva anche per gli antichi i cui sensi particolari li rendevano parzialmente indipendenti dalla luce nei casi di bisogno ma in modo imperfetto Per la verità eravamo preoccupati di perdere la strada noi stessi tanta era la fretta con cui ci muovevamo Come ho detto avevamo deciso di puntare direttamente alla città morta Se ci fossimo persi in quel dedalo di gallerie scavate nei contrafforti delle montagne le conseguenze avrebbero potuto essere inimmaginabili Il fatto che riuscissimo a salvarci e a tornare nel mondo di superficie è prova sufficiente che la creatura imboccò una galleria sbagliata mentre noi per fortuna trovammo quella giusta I pinguini da soli non avrebbero potuto salvarci ma insieme alla nebbia ci diedero manforte Il fato propizio fece in modo che al momento giusto i vapori si addensassero perché mutavano di continuo e avrebbero potuto diradarsi da un momento all'altro In effetti si alzarono per un attimo mentre uscivamo dalla galleria orribilmente scolpita e sboccavamo nella grande caverna In questo modo gettando un ultimo e disperato sguardo alle nostre spalle riuscimmo a intravedere per la prima volta l'essere che ci inseguiva Qualche secondo dopo riducemmo al minimo la potenza della torcia e ci mescolammo ai pinguini nella speranza di evitare l'inseguimento Se il fato che ci protesse fu benigno quell'unica occhiata alle nostre spalle ebbe un effetto diametralmente opposto Infatti a ciò che intravedemmo per un attimo possiamo attribuire una buona metà del terrore che ci perseguita dall'ora in poi Il motivo per cui ci guardammo indietro fu dettato forse dall'antichissimo istinto della preda di indovinare la natura e il percorso seguito dall'inseguitore o forse dal tentativo automatico di rispondere a una domanda posta a livello inconscio da uno dei nostri sensi Impegnati nella fuga con tutte le nostre facoltà centrate sul problema di salvarci non eravamo in grado di osservare e analizzare i particolari Anche così tuttavia le nostre cellule celebrali devono essersi interrogate su un certo messaggio che arrivava dalle narici In seguito ci saremmo resi conto del problema Il nostro allontanamento dalle carcasse decapitate le coperte di limo e il relativo avvicinarsi dell'inseguitore non avevano prodotto alcun avvicendamento negli odori come pure sarebbe stato logico Intorno alle creature morte il nuovo fetore, ormai inspiegabile, dominava su tutto ma a quest'ora avrebbe dovuto cedere il posto all'altro indescrivibile odore quello che associavamo agli antichi Questo non era avvenuto Anzi, il nuovo e in più insopportabile puzzo regnava assoluto facendosi a ogni istante più nauseante e nocivo Dunque ci guardammo alle spalle Nello stesso istante, pare benché il movimento improvviso dell'uno debba aver indotto l'altro a imitarlo Nel fare questo proiettammo entrambe le torce a piena potenza verso la nebbia che in quell'attimo si diradava Forse fu per l'ansia primitiva di vedere tutto ciò che potevamo o forse per lo sforzo, meno primitivo ma altrettanto inconscio di abbagliare l'essere che ci inseguiva prima di oscurare le torce e gettarci fra i pinguini che popolavano il centro del labirinto davanti a noi Ma fu una mossa infelice Né Orfeo, né la moglie di Lot pagarono molto più caro l'errore di essersi guardati alle spalle Di nuovo, udimmo l'agghiacciante verso musicale Te che li li, te che li li Conviene che io sia sincero anche se non riesco a sopportare l'idea di farlo in modo diretto e dica ciò che vedemmo benché sul momento non osassimo neppure ammetterlo l'uno con l'altro Le parole che giungeranno al lettore non potranno rendere nemmeno lontanamente l'orrore di ciò che vedemmo La nostra coscienza ne fu così schiacciata che sono stupito della nostra residua capacità di oscurare le torce come c'eravamo prefissi e imboccare la galleria giusta verso la città morta Solo l'istinto deve averci guidati forse meglio di quanto avrebbe potuto fare la ragione Ma se è stato questo a salvarci abbiamo pagato un prezzo molto alto Di ragione ce ne restava sicuramente poca Danforth era completamente fuori di sé e la prima cosa che ricordo del resto del viaggio è la sua voce che ripeteva avventatamente una cantilena che io solo in tutta l'umanità ero in grado di attribuire a qualcosa d'altro che semplice follia Risuonava un po' in falsetto tra i versi dei pinguini le volte che si spalancavano davanti a noi e quelle, per fortuna e deserte che ci eravamo lasciati alle spalle Una cosa era certa non si era messo a cantare subito o non saremmo stati vivi e intenti a correre come pazzi Tremo al pensiero di quello che sarebbe potuto accadere se la sua reazione nervosa fosse stata solo un attimo più intempestiva Egli continuava a borbottare South Station Hunter Washington Hunter Park Street Hunter Kendall Central Harvard Il disgraziato snocciolava le familiari stazioni della galleria ferroviaria Boston-Cambridge scavata nel pacifico suolo natio della Nuova Inghilterra a migliaia di chilometri di distanza Eppure quella litania non mi parve insensata e non mi diede alcun senso di familiarità e conforto Anzi, era orribile perché sapevo senza ombra di dubbio quale tremenda analogia l'avesse suggerita Guardandoci alle spalle e a patto che la nebbia si fosse diradata abbastanza ci eravamo aspettati di vedere uno di quegli incredibili esseri in movimento Ormai ce ne eravamo fatti un'idea abbastanza chiara Ciò che vedemmo invece grazie a un assottigliarsi fin troppo sinistro dei vapori Fu qualcosa di completamente diverso e infinitamente più orribile e disgustoso Era l'assoluta, concreta incarnazione della cosa che non dovrebbe esistere cara ai romanzieri e il paragone più comprensibile che si possa fare con un oggetto del nostro mondo è con un treno sotterraneo visto dal marciapiede della stazione Il grande muso che sorge gigantesco da immense cavità della terra costellato di strane luci colorate è prossimo a riempire la galleria come un pistone riempie un cilindro Ma noi non eravamo sul marciapiede di una stazione eravamo sul binario verso il quale avanzava ribollendo quella colonna di incubo nera iridescente plastica capace di estendersi fino a un raggio di 5 metri Acquistava una velocità insensata e spingeva davanti a sé una spirale formata dai palli di vapori del sottosuolo che si addensavano di nuovo Era una cosa terribile da non potersi descrivere più grande di qualsiasi treno sotterraneo Un'informe congerie di bolle protoplasmatiche accese debolmente di luce propria e con miria di gli occhi temporanei che si facevano e sfacevano come pustole di luce verdastra su tutta la faccia rivolta a noi e che riempiva la galleria schiacciando i pinguini atterriti e scivolando sul pavimento lucente che essa e le altre creature della sua specie avevano malignamente sgomberato dai detriti di nuovo ci giunse il beffardo e infernale «Te che li li! Te che li li!» E infine ricordammo che i demoniaci scioggot i quali avevano ricevuto la vita, il pensiero e la capacità di modellarsi a volontà dagli antichi e non conoscevano altro linguaggio all'infuori di quello espresso dai misteriosi puntini non possedevano neppure la voce a parte la facoltà di imitare alcune espressioni degli antichi padroni 12 Danfort e io ricordiamo di essere emersi nel grande emisfero ornato di sculture e di aver ritrovato la strada fra le stanze e i ciclopici corridoi della città morta ma sono soltanto frammenti come in un sogno e non abbiamo alcun ricordo di particolari decisioni prese in piena coscienza o stanchezza fisica era come se fluttuassimo in un mondo o dimensione nebulosa senza tempo causa e orientamento la luce grigiastra del grande spiazzo circolare ci aiutò a riprenderci un poco ma non ci avvicinammo alle slitte nascoste e non demmo un'ultima occhiata a Ghedni o al cane riposano in uno straordinario immenso mausoleo e spero che l'ultimo giorno del mondo li trovi ancora indisturbati mentre salivamo la gigantesca rampa a spirale avvertimmo per la prima volta la terribile stanchezza e la mancanza di fiato prodotte dalla nostra corsa nell'atmosfera rarefatta dell'altopiano ma nemmeno la paura di un collasso potei indurci a fare una pausa prima di aver raggiunto il mondo normale dell'aria e del sole oltre la città durante la fuga da quelle rovine di epoche sepolte osservammo uno spettacolo che ci parva appropriato mentre salivamo tra felati lungo l'antichissimo cilindro di pietra alto più di 20 metri potemmo ammirare una continua successione di sculture eroiche realizzate con la tecnica primitiva della razza scomparsa e non intaccata dalla decadenza un addio degli antichi scritto 50 milioni di anni fa quando finalmente raggiungemmo la cima ci trovammo su un grande cumulo di pietre crollate mentre le mura curve più alte della città sorgevano a ovest e le vette cupe delle grandi montagne apparivano a est dietro gli edifici più diroccati il basso sole antartico di mezzanotte ci spiava rosso dall'orizzonte meridionale infiltrandosi tra le spaccature che si aprivano nelle rovine smozzicate in contrasto con l'aspetto relativamente note familiare del paesaggio antartico la terribile decrepitezza e il senso di morte che alleggiava sulla città d'incubo sembravano ancora più marcati il cielo sopra di noi era una massa turbinosa e opalescente di tenui vapori di ghiaccio il freddo stringeva i nostri corpi in una morsa posammo sfiniti le borse con l'attrezzatura cui eravamo disperatamente attaccati durante la fuga e riabbottonammo le tute pesanti per affrontare la faticosa discesa lungo il cumulo di pietre e il tragitto che ci aspettava nell'antichissimo labirinto di pietra fino ai contrafforti della grande catena dove avevamo lasciato l'aereo quanto a ciò che ci aveva spinti a fuggire dalle tenebre della terra e dai suoi segreti non dicemmo neppure una parola in meno di un quarto d'ora avevamo trovato la ripida inclinazione che portava ai piedi delle montagne forse un'antica terrazza che avevamo già usato per la discesa e al di là della quale si scorgeva la sagoma oscura del grande aereo fra le rovine sparse del colle davanti a noi a metà salita ci fermammo per riprendere fiato e ci voltammo a guardare il fantastico labirinto di pietra preistorica che si stendeva tra mille incredibili forme sotto di noi e che ancora una volta ci appariva miracolosamente stagliato sullo sfondo dell'ignoto occidente allora ci rendemmo conto che il cielo non era più velato dalle brume del mattino e che gli inquieti vapore di ghiaccio si erano spostati verso lo zenith dove i loro contorni beffardi sembravano proprio sul punto di dare corpo a un disegno bizzarro che temevano di completare o definire sull'orizzonte bianco e lontano alle spalle della fantastica città si stagliava una vaga ed elusiva sagoma di picchi azzurrini le cui cime appuntite svettavano come sogni nel colore rosato del cielo occidentale l'antico tavoliere saliva verso quell'orlo splendente e il letto incavato del fiume scomparso l'attraversava come un irregolare nastro d'ombra per un attimo trattenemmo il fiato vinti dalla bellezza cosmica e quasi ultraterrena della visione poi una vaga forma di orrore si insinuò nelle nostre anime i picchi azzurrini infatti non potevano essere altro che le terribili montagne della terra proibita le più alte cime del pianeta e il centro di tutti i suoi malefici sede di orrori senza nome e segreti preistorici evitate e adorate da coloro che avevano persino temuto di scolpirne le leggende luoghi visitati da fulmini misteriosi e che a loro volta proiettavano raggi sconosciuti attraverso le pianure della notte polare senza dubbio erano l'immagine archetipa del temuto Kadat nel deserto gelato oltre l'orribile altipiano di Leng cui le leggende dell'età primitive alludono in modo evasivo eravamo i primi esseri umani a vederle prego Dio che possiamo essere gli ultimi se le mappe e le raffigurazioni che avevamo trovato nella città preumana avevano detto il vero le misteriose montagne azzurrine non potevano distare più di 500 km eppure la loro immagine irreale si stagliava nettamente sull'orizzonte remoto e coperto di neve come il bordo finito di un mostruoso pianeta straniero che stesse per levarsi in cieli sconosciuti dunque la loro altezza doveva essere superiore a ogni misura nota e i picchi si spingevano negli strati più tenui dell'atmosfera quelli popolati dai miraggi gassosi che solo gli aviatori più spericolati hanno potuto raccontare dopo le loro inspiegabili cadute a cui il più delle volte sono sopravvissuti per miracolo guardando le montagne lontane pensai nervosamente a certe allusioni che avevo colto nelle sculture della città e al fatto che il grande fiume scorresse nella metropoli dopo esser nato tra quelle cime maledette mi domandai quanto buonsenso o quanta superstizione avesse spinto gli antichi a rappresentare la catena lontana in modo così reticente ricordai che l'estremità settentrionale delle montagne finiva presso la costa della terra della regina Maria e che proprio in quel momento la spedizione di Sir Douglas Mosen stava lavorando a meno di 1800 km dal punto in questione mi augurai vivamente che la malasorte non si accanisse contro Sir Douglas e i suoi uomini rivelando loro ciò che probabilmente si nascondeva oltre la catena protettiva che digradava verso la costa questi pensieri danno la misura del mio nervosismo ma Dunford stava ancora peggio tuttavia molto prima di aver superato la grande rovina a forma di stella e aver raggiunto l'aereo le nostre paure si erano trasferite sulla catena minore ma pur sempre imponente che avremmo dovuto riattraversare dai contrafforti più bassi si innalzavano verso oriente a guzze minacciose le pareti nere e coperte di rovine che ancora una volta ci ricordavano gli enigmatici dipinti asiatici di Nicholas Roerich quando pensammo alle maledette gallerie da cui erano crivellate e alle spaventose amorfe entità che avrebbero potuto strisciare fino ai picchi più alti ammorbando l'aria di superficie fummo presi dal panico al pensiero di dover passare ancora una volta davanti a quelle inquietanti bocche di caverna che si aprivano sulle pareti ad altezze vertiginose dove il vento risuonava come un lamento musicale su una gamma incredibilmente vasta per rendere le cose ancora peggiori vedemmo chiare tracce di nebbia intorno a parecchie cime lo stesso fenomeno che aveva osservato Lake quando aveva supposto erroneamente che ci fosse un'attività vulcanica e pensammo rabbrividendo alla nebbia del tutto simile cui eravamo appena sfuggiti sì pensammo a quello e all'abisso blasfemo brulicanti di orrori da cui essa si era levata l'aereo era in perfette condizioni e goffamente ci infilammo le pellicce di volo dunford avviò il motore senza problemi e decollammo dolcemente sulla città d'incubo sotto di noi i giganteschi edifici preistorici si estendevano come la prima volta che li avevamo visti in un tempo così vicino eppure infinitamente remoto poi cominciammo a guadagnare quota e assaggiare la forza del vento prima di imboccare il passo ad alta quota dovevano esserci delle turbolenze perché le nuvole di ghiaccio polverizzato allo zenith mulinavano in modo fantastico ma a circa 7200 metri l'altitudine che dovevamo raggiungere per trasvolare il passo la navigazione non dava problemi man mano che ci avvicinavamo alle vette impervie cominciammo a udire di nuovo lo strano gemito musicale e mi accorsi che le mani di Dunford tremavano sui comandi benché io fossi solo un dilettante in un momento come quello pensai che avrei potuto governare l'aereo in modo più efficiente specialmente durante la traversata del passo e quando gli feci segno di scambiarci di posto il mio compagno non obiettò tercai di impegnarmi al massimo e di mantenere il controllo concentrandomi sul settore di cielo rossastro e lontano che si intravedeva tra le pareti del passo ma rifiutandomi di prestare attenzione agli sbuffi di vapore che incoronavano le montagne avrei voluto avere le orecchie tappate con la cera come i compagni di Ulisse nel mare delle sirene pur di non sentire l'odiosa melodia del vento ma Danforth liberato dalla preoccupazione del pilotaggio e giunto a un pericoloso stadio di nervosismo non riusciva a stare tranquillo lo sentì muoversi e voltarsi indietro per guardare la terribile città che si allontanava alle nostre spalle le vette bucherellate di caverne e costellate di parallelepipedi il desolato mare di cime più basse e innevate che si stendevano ai lati e il cielo nuvoloso ribollente in modo grottesco su di noi fu allora mentre io cercavo di puntare diritto attraverso il passo che il suo urlo disperato ci portò vicini alla catastrofe scuotendo l'autocontrollo che mi era imposto e facendomi perdere la presa sui comandi fu solo per un attimo poi la mia fermezza trionfò e completammo la traversata sani e salvi ma ho paura che Dunford non sarà mai più lo stesso ho detto che si è sempre rifiutato di rivelarmi l'orrore finale che lo feci urlare in modo così folle un orrore purtroppo ne sono certo che è in gran parte responsabile del suo attuale crollo nervoso mentre raggiungevamo il lato sicuro delle montagne e viravamo lentamente verso il campo riuscimmo a scambiare qualche parola gridando per sovrastare l'ullato del vento e il rombo dei motori ma in sostanza non facemmo che riconfermare l'impegno a mantenere il segreto su ciò che avevamo scoperto nella città d'incubo secondo gli accordi che avevamo preso prima di partire eravamo d'accordo che certi argomenti non sono fatti perché la gente li conosca e ne discuta alla leggera non ne parlerei nemmeno adesso se non fosse per impedire la partenza della spedizione Star Quathermoor e altre simili con tutte le mie forze è assolutamente necessario per la pace e la salvezza dell'umanità che alcuni degli angoli più oscuri e sepolti della terra e delle sue abissali profondità rimangano inviolati altrimenti orrori che dormono si sveglieranno una nuova vita e incubi sopravvissuti in modo proibito strisceranno o nuoteranno dai loro neri rifugi per rinnovare e ampliare le loro conquiste tutto ciò che Dunford ha potuto dirmi è che l'orrore finale deve essere stato un miraggio non aveva nulla a che fare sostiene con i parallelepipedi di pietra o le caverne risonanti che costellano le montagne della follia nebbiose e forate da mille cuniculi che ormai abbiamo attraversato anzi tutto si è risolto in una terribile e fantastica occhiata attraverso le nubi turbinanti allo zenith e nella visione fulminea di ciò che si trova oltre la catena più imponente quella azzurrina e occidentale che gli antichi avevano temuto ed evitato è probabile che la cosa sia soltanto un'allucinazione prodotta dallo stress cui abbiamo dovuto sottoporci o a un miraggio vero e proprio come quello reale anche se inspiegabile cui avevamo assistito il giorno prima vicino al campo di Lake e che ci aveva permesso di indovinare la città morta oltre le montagne in ogni modo si è trattato di un'esperienza così realistica che Dunford ne soffre ancora in rare occasioni si lascia sfuggire frasi disarticolate e irresponsabili come l'abisso nero il bordo scolpito i proto-shoggot i solidi senza finestra cinque dimensioni il cilindro indescrivibile i primi faraoni gli ogsotot il colore venuto dallo spazio le ali gli occhi nel buio la scala per salire sulla luna l'originale l'eterno immortale e altre bizzarre idee ma quando è nel pieno possesso delle sue facoltà ripudia tutto e attribuisce le sue parole alle curiose e macabre letture dei suoi anni di gioventù Dunford infatti è uno dei pochi che abbiano osato addentrarsi da cima a fondo nel Necronomicon di cui ha trovato una copia decrepita mangiucchiata dai tarli nella biblioteca dell'università mentre attraversavamo le montagne il cielo in alto era pieno di vapori turbinanti e benché non riuscissi a vedere lo zenith immagino che le nubi di ghiaccioli assumessero effettivamente forme fantastiche sapendo che anche le scene più lontane possono essere riflesse rifratte e ingrandite con grande vividezza da questi strati di nubi turbolente non è difficile supporre che l'immaginazione abbia fatto il resto e Dunford ovviamente non ha all'uso a nessuna delle orrende stranezze ricordate prima d'aver avuto il tempo di riandare con la memoria alle letture del passato in un attimo così fugace non avrebbe potuto vedere tante cose sull'aereo le sue urla si erano limitate alla ripetizione di un singolo folle verso la cui fonte era sin troppo ovvia te che li li te che li li fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentare alle montagne della follia di HP Lovecraft grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto